Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto in questa Accademia delle Scienze. Penso che alcuni di voi, forse anche molti, non conoscono questi prestigiosi locali che ospitano da tanti secoli quest'Accademia delle Scienze, di cui in questo momento mi trovo a essere presidente. Non sono un ingegnere, sono un medico, ma sono ben lieto che gli ingegneri, la sezione numero due della classe di Scienze Fisiche dell'Accademia, appunto costituita dagli ingegneri, ha deciso, grazie al nostro accademico effettivo Benedettino Angelo Di Tommaso, di organizzare questo incontro su un tema che è sempre molto attuale, poi a Bologna è diventato ancora più attuale dopo che si è verificato il problema della Garisenda. Angelo Di Tommaso aveva pensato all'evento ancora prima che si verificasse il problema della Garisenda, nel quale è stato anche coinvolto, per cui è stata una sorta di preveggenza sulla tematica da trattare, che suscita sempre grande interesse, non era mai stata trattata in Accademia e sono ben lieto che questo avvenga nella giornata di oggi, giornata che è molto ricca, per cui non vi voglio rubare altro tempo. Vi do il benvenuto in questa sala che, per chi non la conosce, si chiama Sala Ulisse, perché sono rappresentate le storie dell'Odissea, sono affreschi del Cinquecento, di Pellegrino Tibaldi, che ornano anche la sala precedente che riporta altre storie dell'Odissea. Mi fa piacere dire, me l'ha ricordato il professor Mesini proprio adesso, che noi siamo in questa sala in condizioni di massima sicurezza perché il famoso professor Piero Pozzati negli anni Ottanta sistemò la portanza di questa volta sulla quale sovrastavano pesantissime librerie cariche di libri che potevano mettere in difficoltà la resistenza di questa volta. Grazie a lui, preservando gli affreschi, insieme alla sovraintendenza le belle arti, questa magnifica sala è stata restituita al suo splendore. Bene, spero che l'ambiente così gradevole allieti anche i vostri lavori e do la parola appunto al professor Di Tommaso, a cui va il merito insieme al Comitato Scientifico, con la collaborazione dell'Ordine degli Ingegneri, di avere realizzato questa giornata. Prego Angelo, grazie. Buongiorno a tutti. Sono molto lieto di questa iniziativa che, come ha detto il professor Bolondi, fa vedere che gli ingegneri sono importanti. ci dà una collocazione nella società che dobbiamo cercare di svolgere nel migliore dei modi. Io farò l'intervento introduttivo, quindi come parole non ve ne dico altre. do la parola alla professoressa Gentilini, che vi dirà due parole di AICO, dell'associazione che ha concorso a organizzare questa giornata e che, diciamo, svolge un'azione specifica nel campo delle tecnologie legate ai materiali compositi. Prego, Cristina. Grazie, professor Di Tommaso. Innanzitutto mi presento, mi chiamo Cristina Gentilini, sono docente di scienza delle costruzioni presso il Dipartimento di Architettura dell'Università di Bologna e recentemente anche vicepresidente di AICO, associazione italiana Compositi, che patrocina la giornata di oggi. Il professor Di Tommaso mi ha chiesto di dire due parole su questa associazione che potremmo ormai definire storica, in quanto è stata fondata nel 96, appunto, per volere del professor Di Tommaso, che attualmente è il presidente onorario dell'associazione e la finalità prevalente è quella divulgativo-scientifica. AICO è stata fondata con collaboratori del professor Di Tommaso, docenti anche di altri atenei e rappresentanti di aziende del settore dei materiali compositi. Quindi, avendo questa finalità divulgativo-scientifica, si è occupata nel corso degli anni di organizzare attività seminariali, giornate di studio come quella di oggi, corsi di formazione, percorsi formativi su tematiche specifiche, come per esempio prove non distruttive e così via. Diciamo che l'associazione incentiva la collaborazione fra il mondo dell'accademia, il mondo dei professionisti e il mondo delle imprese. Questo incastro talvolta non è sempre perfetto, talvolta è difficile, però sicuramente è necessario per il progredire della ricerca in questo ambito, come ben sappiamo. Nel corso degli anni tantissime aziende ci hanno sostenuto, hanno collaborato con noi, sia aziende costruttrici, sia case di software o anche studi di progettazione di ingegneria. Recentemente, più recentemente, AICO ha organizzato diverse edizioni di questo congresso murico, meccanica delle murature rinforzate con compositi. Le prime edizioni risalgono agli anni 2000, si sono tenute a Venezia e l'ambito era, diciamo, limitato a quello nazionale. Poi dall'edizione del 2014, che si è tenuta a Ravenna, il congresso è diventato, si è allargato all'ambito internazionale, perché è vero che il tema delle murature, il problema della vulnerabilità delle murature e del loro rinforzo è peculiarmente italiano, però alla fine ha una risonanza globale ed è trasversale, per cui hanno partecipato al congresso ricercatori sia dalla Cina, che come ben sappiamo hanno il problema della sismicità, delle murature, hanno tante costruzioni in muratura, fino all'America Latina, quindi insomma ricercatori possiamo dire da tutto il mondo. L'ultima edizione è stata quella del 2021 e stiamo organizzando, stiamo progettando la prossima edizione insieme al, qualche parola vi verrà detta dal professor Castellazzi, che è l'attuale presidente di AICO durante il suo intervento. Allora, io professore non aggiungerei altro, l'agenda, come diceva il professor Bolondi, è fittissima, ci ha lasciato anche, no? Chittissima, quindi cederei volentieri la parola all'ingegner Dari e il professor Castellazzi, che sono i moderatori degli interventi della mattinata. Grazie. Salve a tutti, prima di passare la parola al professor Castellazzi, due parole, io sono Andrea Dari, sono editore di Ingegno, ringrazio il professor Di Tommaso per avermi invitato a moderare questo interessante evento e vorrei dare giusto due informazioni operative. La prima è che il professore mi ha chiamato non per dar la parola, ma per toglierla e quindi cercherò di far rispettare i tempi nel modo più assoluto possibile, perché ritengo che sia questa anche una delle dote degli ingegneri. La seconda cosa, volevo segnalarvi che abbiamo una pausa tra le 13.30 e le 15.00, anche qui sarà molto importante rispettare i tempi, proprio per evitare che poi i lavori si portraggono oltre a quello che abbiamo previsto. Io modererò gli eventi della mattina insieme al professor Castellazzi, mentre nel pomeriggio avremo i professori Mesini e lo stesso Angelo Di Tommaso. L'ultima cosa che volevo dirvi è che tutte le relazioni saranno registrate in modo da poter essere poi in futuro riproposte insieme agli abstract degli articoli che ci verranno concessi dai relatori. Ora, per la presentazione del professor Angelo Di Tommaso passo la parola a Castellazzi, però vorrei prima ricordare un fatto personale. Io ho dato l'esame di scienza delle costruzioni con il professor Di Tommaso e quella mattina arrivai in aula con 39 di febbre, provai a fare... c'era un'imperstatica che era particolarmente complessa, avevamo, mi sembra ricordare, una quindicina di equazioni da risolvere, un sistema di una quindicina di equazioni. Dopo che feci la prima risoluzione, feci la prova e non mi tornava, rifeci la prova un'altra volta e non mi tornava. Essendo il tempo ormai in scadenza, io scrissi le equazioni non mi tornano, ma se questo elemento avesse un comportamento infinitamente elastico si comporterebbe così, infinitamente rigido si comporterebbe così, quindi secondo me questo è il tipo di comportamento che avverrà la struttura e il professore mi diede il massimo dei voti, quindi devo dire che questa cosa mi ha segnata nel tempo perché mi ha insegnato che l'ingegneria non è il semplice rispetto delle norme, ma è qualcosa di molto di più ed è collegato al nostro ragionamento. Quindi grazie professore per avermi dato questo insegnamento e lascio la parola a Castellazzi per una presentazione del professore. Grazie, giusto due parole introduttive sul professore Di Tommaso che tutti noi conosciamo molto bene anche dall'esperienza dell'esame di scienze delle costruzioni. Il professore Di Tommaso è stato professore ordinario presso l'Università di Bologna a partire dal 1975 e poi trasferito all'Università dello UOF di Venezia. Il suo curriculum poi si è diversificato in tantissime esperienze, è stato membro del Comitato Tecnico Scientifico della Garisenda, prima ancora membro del Comitato Tecnico Scientifico per la Torre Ghirlandina di Modena, per la Torre Civica di Ravenna, diverse sono le strutture che lui ha analizzato. È un accademico emerito di questa sede, è stato presidente dell'Associazione Italiana Composite, e lo voglio sottolineare perché io quello che ho percepito dal professore Di Tommaso è stato un amore forte verso quello che è l'uso dei materiali compositi, non semplicemente come nuova tecnologia, nuovo strumento, ma proprio come esempio di innovazione nell'ambito anche delle strutture storiche. Quello che vorrei aggiungere a quello che non è scritto nel suo curriculum è che lui è un infaticabile ricercatore. Infaticabile ricercatore significa che la passione che ha introdotto nell'organizzazione di questo evento è trasmessa dalle persone che parleranno e che lui ha coinvolto. Parlavamo prima, il professore conosce, ha amici, è una persona veramente squisita sotto tutti i termini ed è, come vorrei dire, ultimo prima di introdurre il suo intervento, un pioniere nell'uso dei materiali compositi. Tante sono le strutture di Bologna che vedono la sua firma e che vedono interventi innovativi già vent'anni fa, quando i materiali compositi iniziavano a emergere nel mondo dell'ingegneria. Lascio la parola al professore e grazie. Grazie di queste belle parole che mi toccano profondamente anche per la mia età, che non è più un'età giovane e quindi un'età in cui si fanno dei conti di un po' di epilogo di quello che è stato il passato. Allora, io ho pensato a lungo su questa introduzione. Da un lato non voglio togliervi lavoro, però voglio essere anche piuttosto incisivo. riflessione. L'Italia è un paese che ha tre caratteristiche ben precise. Ha una medio-alta sismicità e di questo se ne parlerà nell'ambito di questo convegno. c'ha un'alta presenza del costruito storico tutelato e c'ha un medio-alto livello tecnologico. Allora, vogliamo trovare un altro paese al mondo in cui questi tre parametri possono arrivare al livello di caratterizzazione che ho dato così un po' istintivamente, e sommariamente a questi tre aspetti. Non ci sono, perché se c'è una caratteristica manca un'altra. Quindi noi abbiamo la responsabilità mondiale di portare avanti un discorso, di preservare il nostro costruito, perché è uno dei valori più grandi che abbiamo oggi al mondo, e lo dobbiamo fare attraverso le tecnologie. E qui c'è un punto delicato, perché c'è il mondo della tutela delle costruzioni storiche che interloquisce con le tecnologie, le accetta e non le accetta. secondo me dobbiamo puntare alle tecnologie più adeguate ad essere accettate, ma secondo me non ci si potrà tirare indietro. È stata citata la Garizenda. La Garizenda non è tema della nostra giornata, però la Garizenda è dietro le spalle. Oggi a Bologna la sentiamo vicina e sentiamo il problema. La mia posizione è che la Garizenda non si salva se non ci sono applicazioni di tecnologie avanzate. La ricerca di salvarla con metodi medievali, secondo me non avrà successo. Vedremo cosa succede. Allora, prima cosa, mi sposto un po' perché guardiamoci anche attorno nel mondo, non siamo i soli. Andiamo a San Francisco. Allora, questo manifesto qui che vedete sulla sinistra è un neogotico dei padri del nord Europa, San Patrizio, San Patrick, del 1851. Quindi è chiaro che per il luogo in cui si trova è un bene storico. Non possiamo adesso arrogarci se solo noi abbiamo il Colosseo, eccetera, eccetera. Cioè, per la comunità questo è un bene importante. Questo bene è una chiesa gotica. La chiesa gotica ha in sé intrinsecamente delle vulnerabilità dovute alla morfologia, a come è fatta, e ai materiali, se i materiali non erano di prima scelta quando è stata costruita, dipendono le situazioni locali. Ebbene, entriamo nella piazza qui a destra, è la piazza antistante il Museo Ebraico, il Museo Ebraico ristrutturato dall'Ebeskin. Allora, vedete che in alto a destra c'è un muro e ci sono dei rinforzi con materiale acciaio. Quindi è evidentemente l'inizio di quello che poi sarà sviluppato il concetto dell'esoscheletro, comunque l'avvicinamento di questo materiale che viene accettato in genere per conservare una muratura storica che appartenevano a una centrale idroelettrica. Però quello che lascia molto perplesso, e adesso questo qui è una piccola bomba che io lancio, guardate la vecchia costruzione. A destra, in quel circolo a destra basso, voi non vedete l'arco rampante. A destra spunta nella chiesa un arco rampante. Ora, nell'intervento che hanno fatto di prevenzione antisismica, perché è chiaro che in California il sisma ce l'hanno nella testa, che sta per arrivare ed è un sisma di livello senz'altro molto elevato, hanno fatto una grossa ristrutturazione a questa chiesa e gli hanno messo gli archi rampanti. Addirittura l'abside l'hanno rifatta in cemento armato, vedete l'arco rampante nuovo che non era nella morfologia originaria. Ma quello che sorprende maggiormente è quest'altro aspetto sempre di San Francisco, perché con San Francisco certo noi siamo depositari di una cultura, di certi modi di comportarci, però insomma sono zone nella quale c'è la Silicon Valley, ci hanno dato molto, molto di quello che noi facciamo oggi dipende e dipende anche da quelle culture. Allora mi ha colpito molto un cartello all'interno del vestibolo della chiesa che diceva nel 1984 i test di ingegneria, pensate che questo è neogotico e neogotico dominicano e questo è probabilmente, erano padri anche italiani, adesso non so esattamente, gli ingegneri hanno stabilito che la chiesa è sismicamente instabile, quindi interveniamo. Hanno fatto degli interventi pesanti con un arco rampante in cemento armato, guardate in basso a sinistra quest'arco rampante in cemento armato, nuovo di zecca fondato su pali, è una costruzione di questo genere. A noi fa venire un po' il brividi questa cosa qui, perché nella nostra cultura però siamo tanto distanti nello spazio e nel tempo che però direi che se ci guardiamo attorno questo inserimento a gamba tesa del cemento armato c'è stato in Italia, sopra non mi soffermo molto perché non ho il tempo se no di dire altre cose che vorrei dirvi, sopra è Santa Chiara, Santa Chiara con la bomba del 43, le capriate, io andavo da bambino con la nonna a sentire la messa in questa chiesa guardavo in alto e guardavo quelle capriate spaventosamente grandi che c'erano sul tetto, adesso da grande ho scoperto che le capriate sono in cemento armato, quindi tutto il tetto in cemento armato, vedete una struttura così pesante su dei muri snelli senza archi rampanti perché lì non ci sono gli archi rampanti eppure è stato fatto. Però quello che maggiormente mi interessa è farmi vedere a livello mediano San Pietro di Coppito. Allora San Pietro di Coppito fecero, sì la prima nel 1960 fecero la cella campanaria in cemento armato questa cella campanaria è su una muratura a sacco della torre. Cosa è successo col sisma? col sisma la cella campanaria è andata sulla sulla navata della chiesa e ha sfondato la chiesa. Ma la cosa importante che vi voglio far vedere è che a destra la muratura a sacco ha avuto il meccanismo che per me è molto temibile anche per la nostra amica Garizenda perché è inutile che dicano che quel problema della Garizenda è il problema della torre di Pisa. Non c'entra proprio. La Garizenda ha la muratura a sacco e vedete la muratura a sacco messa sotto un peso enorme di una struttura rigida in cemento armato come la cella. Cosa ha fatto? che col sisma il paramento esterno della muratura a sacco si ribalta. Allora rimane il sacco senza contenimento e realizza un piano inclinato. Nel piano inclinato ruota la parte superiore e va a finire giù. Questo è un meccanismo tipico di questa torre qua. Certo non è un meccanismo della torre di Pisa. Comunque diciamo che l'intervento del cemento armato veniva fatto anche in Italia anche non tanto in là. Vedete qui adesso spunterà nel discorso di oggi anche il problema dell'esoscheletro l'esoscheletro in acciaio. Ma l'esoscheletro in acciaio chiaramente è un'evoluzione di quello che è l'arco rompante. L'arco rompante era nato nel diciamo negli anni nel post medioevo l'arco rompante ha una funzione strutturale molto importante. Noi abbiamo dei bellissimi archi rampanti qua vicino alla chiesa di San Francesco e sono le archi rampanti in muratura. È un concetto strutturale molto preciso, tiene la spinta delle volte e quindi questa spinta è contrastata da quest'arco rampante. Adesso questo qui a sinistra è un concetto che sviluppa questo modo di contenere la struttura, attenzione, in fase sismica perché sicuramente l'arco rampante sarà stato pensato non pensando al sisma anche perché è nato nel nord Europa e nel nord Europa i sismi non ci sono quindi io penso, non lo so, adesso c'è il professor Blati qua che lo saprà senz'altro meglio di me, io credo che quando il costruttore ha iniziato a fare le cattedrali del nord Europa forse il sisma non ci pensava al sisma. Comunque l'arco rampante mantiene la volta che dà la spinta. In fase sismica c'è un'interazione piuttosto complicata. Ecco, voglio dirvi una cosa, studiando la questione della chiesa di San Francesco qui di Bologna, che ha avuto una bomba nella parte centrale, si è aperta e hanno ricostruito le volte, la ricostruzione post bellica era affidata al genio civile e c'erano ingegneri e allora ho letto la relazione che hanno ricostruito gli archi in muratura e poi l'ingegnere ha detto, dice sì ma mettiamoci anche la catena, cioè il tirante, ce l'ha messo in più rispetto alla situazione precedente. Allora, questo abbiamo studiato con gli allievi, ho fatto fare molti studietti su questa cosa, diventa una struttura iperstatica perché naturalmente la volta spinge sulla catena, però la catena bisogna vedere se prende la spinta e quanto affida all'arco rampante. Poi in fase sismica, pensate, queste volte molto pesanti che sono in alto devono essere contrastate dall'arco rampante e se c'è anche la catena c'è un'interazione abbastanza forte. Mi è scappata una diapositiva che volevo far vedere. Qui siamo a San Petronio. Allora, San Petronio, voi andate tranquillamente in chiesa San Petronio, vi siete mai chiesti, ma sismicamente la chiesa come funziona? Allora, vi devo dire che la chiesa di San Petronio ha, guardate a destra, ha una fessura su tutta la navata che parte dall'inizio e va alla fine. Poi se guardate in alto, andate a San Petronio, guardate in alto la figura centrale, la catena è a corda molle, è lenta. Tutte le catene sono lente. Allora, un discorso di prevenzione antisismica sul monumento di questa portata, diciamo, sarebbe doveroso. Ma io non voglio entrare in questa questione qui, adesso lo voglio fare da analista della struttura. Allora, la catena molle, a corda molle, cosa fa? Quando viene il sisma, le due parti della chiesa, dopo un po', possono andare in controfase, nella vibrazione, no? Allora, se nella vibrazione le due parti si allontanano, c'è il corpo di frusta, cioè la catena diventa tesa e dà il colpo di frusta. Quindi è un oggetto micidiale che sta lì, in tutti gli arti. Allora, è vero che abbiamo visto a San Francisco, noi ci ridiamo sopra, fanno l'arco rampante in cemento armato. Però noi che cosa facciamo? La chiesa gotica è vulnerabile, per definizione, dal punto di vista morfologico. Se poi la chiesa ha anche dei danni, delle deficienze, e allora a questo punto, nell'anno 2000, per un caso, io mi trovai a poter interloquire con la soprintendenza e mettiamo le fasce di carbonio, quindi uno dei primi monumenti in Italia in cui è stato fatto questo intervento, c'è. Questo è un presidio, fa parte del titolo del nostro intervento, del nostro convegno, prevenzione. Le fasce di carbonio sono una prevenzione. È vero che sono storicamente adesso legate a quel tempo l'anno 2000, però la sostanza è questa, che dall'anno 2000, per un quarto di secolo, i lavori ci sono sempre. I marmi sono stati puliti, i vetri sono stati puliti, l'intonaco è stato scialbato, però la catena sta là così. Allora, questo che cos'è? Secondo me è una mancanza di consapevolezza degli aspetti strutturali. Perché ci diamo? È un problema di priorità. Mi sono trovato a parlare, non di questi, di responsabili in genere, di monumenti, eccetera. A un certo punto scatta la parola, l'assessore dice, ma ci sono altre priorità. È giusto, ci sono altre priorità. Cioè, se uno fa la pulizia dei marmi come priorità a un problema strutturale, vabbè, ha fatto una scelta. Però l'importante è che noi arriviamo alla consapevolezza di questi aspetti. Sulla questione dell'intervento con i compositi, non mi soffermo perché non c'è il tempo e volevo dire delle altre cose. Ecco, vedete la corda molle. La corda molle di San Petronio dà la fessura della parte elevata perché si chiudono i due pilastri, si avvicinano perché la fondazione ha fatto uno scherzo a Catino, quindi i pilastri si sono avvicinati e sopra in estradosso è nata la fessura. Pure si è arrivati lì perché quando vedete c'erano i tubi del... per arrivare fin sotto si è arrivati. Però c'erano altre priorità. Vabbè. L'evento di San Francesco d'Assisi è anche un evento molto importante che è avvenuto perché non è una questione di materiale, c'è un'interazione con la comprensione dell'effetto strutturale. Vedete a sinistra la pianta dove ci sono quelle parti in rosso, quei triangoli in rosso. Ecco, perché è avvenuto nel sisma il crollo della voltina lì prima del transetto? Perché nel transetto c'è il muro ortogonale alla navata centrale. Sendo il muro ortogonale nella oscillazione laterale, quello è un punto come una grande trave che ha un appoggio lì e quindi ha una, diciamo, deficienza a taglio nell'oscillazione orizzontale del tetto e quindi anche si è ripetuta sulla facciata. Quelle sono tipiche. Che cose sono queste? Sono vulnerabilità legate alla morfologia. La Chiesa è fatta così e c'è una vulnerabilità. Non c'è da fare. Noi lo sappiamo adesso. Possiamo intervenire. Il problema è di dire non si interviene perché il bene va conservato in un certo modo e allora faccio un passo indietro. Però che noi non sappiamo queste cose non è. Ormai siamo arrivati. Sono tanti decenni che studiamo queste cose e le sappiamo. Allora, se vogliamo intervenire, possiamo intervenire. I compositi hanno cambiato il mondo. Adesso magari, diciamo, la persona che non è addentro su questa cosa può pensare, dice, va bene, il materiale mi si migliora, è un materiale migliore. No, qui è un cambio di rotta totale nelle applicazioni. Questa è una bella applicazione che ho visto fare. Sì, ho fatto una consulenza. Ho visto fare alle minganti che i bolognesi senz'altro conoscono e quindi il carbonio è andato alla grande in questa situazione qua. Oggi un centro commerciale che non sia adeguato sistemicamente, non ha senso perché è un investimento economico di grande portata e perché non bisogna dare la sicurezza a chi lo frequenta di potersi garantire nel caso di sisma. Quindi è un'applicazione che io ritengo di grande importanza. La questione della ricostruzione. Certo, oggi ne parlerà il professor Blasio di questa ricostruzione in generale. Allora, la ricostruzione. La ricostruzione è legata all'adeguamento del sismico. Mi sono trovato in questo caso e ve lo riferisco. Allora, la porta romana di Rimini fu spostata da un luogo all'altro. Fu smontata, tutti i pezzi annotati e fu spostata in un'altra posizione per dar corso alla viabilità. Pensate i tempi in cui queste cose si facevano. Adesso, non so, cinque, sei anni fa, si è riportata nell'altra posizione, nella posizione precedente. Allora, la porta non ha i muri laterali e quindi non ha il contrasto. Ad una verifica sismica, diciamo napoletano, si è andata a constatare che sismicamente l'arco non reggeva, anche perché non era completo nelle sue due posizioni con le pietre. E allora, quando si è ricostruito, è nato, e lì poi si è sviluppato l'FRCM. Vi posso dire, come ho detto già a tanti amici parlando, che questo l'ho inventato io, la dizione FRCM. Perché la matrice adesso non è più di resina, ma è una matrice inorganica e quindi la malta del giunto ha una rete di carbonio all'interno. Naturalmente nessuno la vede, nessuno lo sa, eccetera. L'arco adesso ha una prevenzione antisismica perché ha una, diciamo, possibilità di essere... Due minuti, professor. Io ho due minuti ancora? Sì. Allora, per due minuti arriviamo all'ultima diapositiva che in effetti, secondo me, è stato il momento proprio dell'ingresso dell'FRCM. La cattedrale di Noto. La cattedrale di Noto è crollata per motivi, adesso sono molto complessi i motivi, ma non sotto il sisma. È stata rifatta la cupola. Allora, c'è quel problema di ricostruire la cupola. Allora bisogna farla tale quale, come era? Allora, la cava delle pietre era la stessa, tutto fatto lo stesso. A un certo punto io mi sono trovato a interloquire. Ho detto, ma sappiamo che le cupole hanno questa debolezza con le fessure che si pretendono imparare. Questo l'ho preso dal libro del professor Blasi che ho fatto la fotografia l'altra sera e l'ho riportata lì. Era la cupola che proviene poi dalle linee guida ministeriali. La cupola, si sa, che ha quella debolezza nella parte bassa con il tamburo ci sono le fessure. Allora, se nel giunto orizzontale noi mettiamo il carbonio, lo mettiamo con la malta e quindi in organica. Nessuno lo vede. Nessuno lo vede e ha una funzione strutturale bellissima. Nessuno lo vede. Questo è importante dire questa frase perché noi agiamo in un modo che a volte si fanno le cose di nascosto. Però quando è venuto l'onorevole Sgarbi ha detto, ah, benissimo, tutto com'era, dov'era. Però sotto questa frase c'era. Ragazzi, ci sono, nei giunti orizzontali, c'è il carbonio. Abbiamo anche un po' di vergogna a dirlo, non lo so. Comunque è andata bellissimo la cosa. Io con questo ho finito perché non ho più il tempo di andare avanti e chiudo con l'ultima diapositiva. Dunque, prima scommodiamo Leonardo, studia la scienza e poi seguita la pratica nata da essercienza. Cioè voglio sottolineare che qui ci troviamo in Accademia delle Scienze, diamo importanza alla scienza e deve rappresentare una guida al nostro comportamento. Poi, perché c'è quella candela? Sono rimasto sorpreso da una cosa a cui non avevo mai pensato. Questa è una presentazione che ha fatto mio nipote che mi ha poi mandato. la candela con la fiamma fa l'ombra. Sul muro la fiamma non si vede perché la luce, diciamo, mischia la luce della fiamma e quindi si vede la candela senza la fiamma. Questo perché l'ho messo perché io vorrei ricordare che dare immaterialità tanto ai monumenti, che è una linea culturale molto seguita, ecco, fa perdere. Se noi guardiamo l'immagine, perdiamo la consistenza della costruzione che è qualcosa che l'uomo fa ed è materiale al massimo. Quindi dobbiamo seguire la materialità. Se poi c'è anche l'immaterialità, se l'uomo ha anche l'anima, meglio così. Però nella materialità non ci dobbiamo dimenticare. La frase che ho preso da Baricco è ciò che si salverà non sarà mai quel che abbiamo tenuto al riparo dai tempi, ma ciò che abbiamo lasciato mutare perché ridiventasse se stesso in un tempo nuovo e questo mi piace molto e quindi nuova tecnologia, non OLED. Usiamo la tecnologia nella vita di oggi con tutto rispetto e cercando di farlo al meglio. Ecco, questi sono gli argomenti che poi tutto sommato saranno sviluppati dai nostri relatori e quindi chiudo qui, ridando la parola ai moderatori e ho dato la visione. Grazie professore. Allora cercherò intanto che viene sul tavolo dei relatori la professoressa Silvia Castellaro, cercherò di chiederlo a tutti i relatori di poter magari tagliare di qualche minuto le proprie relazioni perché così magari resta il tempo per poter fare anche qualche domanda o almeno un dibattito finale prima della pausa. Detto ciò, volevo dire al professor Castellaro che il professore ci ha tirato fuori gli argomenti importanti, la consapevolezza del rischio che è un tema importante, come era, dove era, che è un altro tema molto importante. Credo che ci sia materia oggi per poter dibattere, affrontare il tema della prevenzione. Cosa dice professore? Sì, no, è esattamente un po' la figura generale di quello che volevamo trasmettere anche oggi in questo seminario. Giusto un commento anche alle slide del professore perché ci sono due cavalli di battaglia molto forti. Uno era il com'era, dove era il concetto di voler trasformare la struttura senza trasformarla, ma rinnovarla. E la frase di Baricco, io tutte le lezioni che ho seguito del professor Di Tommaso, è una frase che conclude sempre un capitolo di queste tematiche e lui quindi ha sempre cercato di infondere questo messaggio di riflessione in tutti gli studenti che ha incontrato. Lascio di nuovo la parola a te per la presentazione. Io vorrei dire solo una cosa, adesso parlerà per noi la professoressa Silvia Castellaro che riporta una relazione in cui era previsto l'intervento di Eero Saiello. La professoressa Silvia Castellaro insegna geofisica e questo mi fa molto piacere che ci sia un intervento in un convegno come questo che parte dai principi, perché parliamo di terremoto e quasi sempre parliamo di come intervenire, ma raramente si parla invece di quello che è l'origine e quali sono origini dei comportamenti. Quindi lascerei subito la parola alla professoressa Castellaro, poi magari se ci lascia qualche minuto fare qualche riflessione finale. Allora, io dovrei parlare invece del professor Aiello. Siccome parlare, lui mi ha anche lasciato le slide gentilmente. Parlare sulle slide di un altro è un po' difficile e ho paura di non onorare troppo i suoi contenuti. Allora ho pensato, sperando che questa cosa non disturbi nessuno, di prendere degli spunti dalla sua presentazione e unirli un po' alla mia, visto che è una presentazione anche al pomeriggio in modo da fare un discorso organico. Quindi, diciamo, mi sto ispirando alla presentazione del professor Aiello, non la riporto in dettaglio perché mi sembra anche brutto parlare sulle cose di un altro. Allora, io ho pensato di raccontarvi qualche elemento di sismologia, visto che diciamo di formazione sono sismologo, utile sperabilmente all'ingegneria e questa mattina lo vediamo in termini un po' generali, poi oggi pomeriggio lo focalizzerò su Bologna e vi farò fare un giro per la città, visto che siamo a Bologna. Allora, l'avete vista anche prima questa mappa, questa in realtà è la mappa di pericolosità sismica d'Europa e voi sapete, credo, che l'Italia è il secondo paese più sismico in Europa, scusate, il secondo solo alla Grecia, poi ovviamente se nell'Europa inchiediamo anche la Turchia allora siamo i terzi, però diciamo per ricorrenza degli eventi siamo il secondo paese. Quando intendiamo il paese più sismico intendiamo per ricorrenza di eventi distruttivi, ok, in magnitudo sopra 5. Vedete nella mappa, ma lo sapete benissimo dalla mappa di pericolosità, insomma siamo un po' sismici tutti. Riprendo queste slide dal professor Aiello, penso che tutti sappiate che ci sono diversi tipi di sorgenti che generano i terremoti, ci sono sorgenti di tipo normale, significa, come il primo caso qui, quando un pezzo di terra, diciamo, scorre, scende rispetto a un altro, ci sono meccanismi di tipo inverso, quando un blocco sale su un altro, ci sono meccanismi di tipo trascorrente, quando due blocchi scorrono. Dal punto di vista geofisico sono cose completamente diverse perché ci raccontano i meccanismi diversi con cui la crosta terrestre si origina e si distrugge, però non so se sappiate, forse sì, quali sono questi meccanismi più ricorrenti in Italia. Non so se lo sapete, tutto l'appennino ha un meccanismo di tipo distensivo, quindi significa che c'è un blocco che scende rispetto a un altro e noi abbiamo anche meccanismi di tipo inverso, quindi un blocco che sale sopra un altro tipicamente nell'arco eolico, le isole eolie dove ci sono quei vulcani lì per noi sono un arco di subduzione, si dice come il Giappone, è uguale, e per noi il Tirreno non è un mare, è un oceano, l'oceano è un posto dove si crea crosta, nel Tirreno la crosta terrestre, la crosta marina viene costruita, quindi per noi dal punto di vista geofisico il Tirreno è un oceano, questo giusto per curiosità. E comunque i tipi di meccanismo si dice focale sono completamente diversi, in Italia ce ne sono diversi, ma il dominante è quella tettonica di tipo distensivo. Come sappiamo queste cose? Allora fino a mica tanti anni fa, fino a prima degli anni 80, l'unico modo che avevamo per sapere queste cose era studiare le rocce. Nelle rocce, se voi andate in montagna e vedete i cosiddetti affioramenti, lì leggete quale parte di terreno è salita sopra quale altra parte, leggete nelle faglie che vedete sul terreno, nelle pieghe che vedete sul terreno, se con tanta pazienza prendete tutti gli orientamenti e prendete tutte le età delle rocce potete farvi tutta la ricostruzione dei movimenti che ha subito il nostro pianeta nei milioni d'anni. Poi negli anni 80 per fortuna è arrivato il GPS, con il GPS abbiamo iniziato a poter studiare meglio la tettonica globale e negli ultimi anni abbiamo anche i dati da satellite che aiutano moltissimo dopo un terremoto a capire per esempio quale porzione di terreno è scesa, quale è salita, quindi come si è mossa la faglia. Non so se sappiate, anche qui forse sì, che esiste un database, si chiamano sorgenti sismogenetiche italiane, è il database, un po' lo stato dell'arte di quelle che sono riconosciute come tra virgolette faglie attive al momento attuale. Questo database parte ovviamente dai dati moderni che vi ho detto di GPS, di sismica riflessione, sono prospezioni geofisiche profonde, ma si basa anche molto sulla storia sismica italiana, su tutto il catalogo sismico che abbiamo in Italia. Se avete piacere di guardarlo si chiama DIS, fate lo zoom e potete vedere tutte le faglie attive che passano nelle zone in cui magari lavorate. Vi dicevo che questo database si basa su un'altra chicca, una perla che abbiamo in Italia, che è il catalogo sismico, catalogo di terremoti. Forse molti di voi sanno, forse no, che l'Italia è il paese che ha il catalogo sismico più completo del mondo. Noi vantiamo la conoscenza di 5.000 terremoti dal 461 a.C. ad oggi, non è merito nostro. Il primo soggetto che ha descritto tutta questa conoscenza è stato questo Gianozzo Manetti nel 1400, ha scritto tre libri sui terremoti, quindi terremoti e libri 3. E poi nel 600 il catalogo è stato aggiornato da Bonito, nell'800 da Baratta, poi noi l'abbiamo ereditato e tutte queste informazioni sono contenute in questi due cataloghi che sono lo stato dell'arte oggi, si chiamano catalogo parametrico dei terremoti italiani e catalogo dei forti terremoti italiani. Il primo, il catalogo parametrico, è noioso, nel senso che ha solo la descrizione dei terremoti con la magnitudo, la localizzazione eccetera eccetera. Il secondo è bellissimo, non so se qualcuno di voi l'ha mai esplorato, perché racchiude per tutte le, per ogni città comune, per qualsiasi posto vogliate. Se ci fate uno zoom potete interrogarlo e vedere tutti i terremoti che sono avvenuti lì, ma non sono i terremoti. Potete anche leggere nel dettaglio i danni che ha fatto il terremoto sulle cose e sull'ambiente, sulle case diciamo, sugli edifici e sull'ambiente e anche le fonti da cui sono stati reperiti questi dati. È estremamente interessante, non so se sono cose che conoscete, a me piace citare questo perché per me è bellissimo, il primo terremoto che conosciamo in Emilia-Romagna è del 91 avanti Cristo e quando ci fu il terremoto nel 2012 e nessuno si aspettava il terremoto in Emilia-Romagna, in realtà qualunque sismologo pensa a questo perché probabilmente molti di voi l'hanno anche tradotto se hanno studiato latino all'università. Nella storia naturale di Plinio c'è questo passaggio in cui dice factum es ingens terrarum portentium, ci fu un grande portento della terra in agro mutinesi nella campagna di Modena. Enamque montes due interseccum currerunt crepito maximo, cioè due montagne si scontravano tra di loro con grande rumore andando avanti e andando indietro e tra di loro ci fu fiamme e cuoche in cielo eccetera eccetera. È la storia di un soldato romano che passava in via Emilia e si è imbattuto in questo terremoto e descrive tutto quello che c'è. Probabilmente anch'io al liceo non avrei mai capito che parlava di un terremoto però diciamo nella nostra tradizione sismologica questo è il primo terremoto che si conosce in Emilia-Romagna, 91 avanti Cristo, esattamente dove poi è avvenuto nel 2021, siamo sempre là. Comunque se avete piacere questo sito racchiude lo stato dell'arte e delle conoscenze in merito alla storia sismica del nostro paese. Ed è un catalogo che ci invidiano tutti perché anche in Cina dove la storia sismica è lunghissima non sono in grado di ricostruire le date degli eventi perché sono sempre associate alle corti, ai vari imperi che hanno avuto che però non erano mai stabili nello spazio, hanno cambiato calendario mille volte. Quindi anche in Cina è estremamente difficile arrivare ad avere un calendario così. Siamo praticamente un calendario, scusate un catalogo così. Siamo di fatto gli unici al mondo ad avere questa fortuna. Bene questo è il passato e volevo vedere con voi oggi. Oggi cosa si fa? Allora oggi i dati sono chiaramente strumentali non dobbiamo più ricorrere alle fonti scritte per leggerli, abbiamo dati strumentali. In Italia abbiamo una rete sismica che è la prima, è estremamente ben distribuita, la seconda è la la rete accelerometrica, non so se sapete che differenza c'è, la rete sismica è fatta di sismometri, cioè di strumenti che misurano la velocità con cui si muove il terreno, la rete accelerometrica è fatta di accelerometri, c'è strumenti che misurano l'accelerazione. C'è una differenza enorme tra questi due tipi di strumenti nel senso che un sismologo non userebbe mai gli accelerometri perché sono strumenti estremamente poco sensibili, sono strumenti che si mettono per il moto forte, lo strong motion, per le esigenze dell'ingegneria. Il sismologo tutti i conti che fa li fa con questi strumenti perché i velocimetri sono molto più adatti agli scopi della sismologia. Però volevo parlarvi un attimo di questo perché secondo me oggi in un mondo in cui tutti avete accesso agli accelerogrammi e tutti li usate per fare i vostri calcoli, forse conoscere qualche retroscena è utile anche per voi. Allora come usiamo i dati che registrano queste stazioni sismiche? Allora il sismologo sostanzialmente fa due cose, la prima cosa che fa è localizzare l'ipocentro, dire dov'è il terremoto, la prima cosa che fa in realtà è guardare le tracce, un sismologo quando vede quelle tracce lo sa subito a che distanza è il terremoto, a che profondità si legge immediatamente anche a occhio, adesso non abbiamo tempo ma sarebbe anche facile insegnarvelo. Comunque la prima cosa che fa è capisce più o meno la distanza, la profondità e poi va a localizzare la posizione. La seconda cosa che fa è calcolare la magnitudo, esistono dozzine di tipi di magnitudo, quindi tantissime volte al telegiornale sentite, ah no era 6,1, era 6,2, l'hanno tirata giù, l'hanno tirata su, in realtà dipende da che scala usate, ce ne sono dozzine e purtroppo siccome definire la magnitudo è un grande problema della sismologia, tocca usare la scala che dipende dagli strumenti che avete, dalla distanza del terremoto e da altre cose così. Allora la cosa importante è che sia la posizione dell'epicentro sia la magnitudo si calcolano a periodi molto lunghi. Voi pensate che la magnitudo delle onde di superficie noi la calcoliamo a 20 secondi, ok? Voi non userete mai uno spettro di risposta a 20 secondi, ok? Quindi noi facciamo i conti su un ramo di questi oggetti qua, di questi sismogrammi, accelerogrammi, che ha periodi molto molto lunghi, cioè frequenze molto basse e c'è motivo per cui vi dico questo. Perché da quando il dato sismologico ha iniziato ad essere usato nell'ingegneria, diciamo è passato come se non ci fosse nessun problema, ok? Cioè prendiamo questo dato e facciamo tutti i conti che servono all'ingegneria, ignorando il fatto che in questi dati appunto il sismologo non li usa alle frequenze che servono all'ingegnere. Vi faccio vedere un esempio. Quando voi prendete questi stessi accelerogrammi che usiamo noi, cosa ci determinate? Tipicamente la PGA, non l'accelerazione di picco e poi gli spetti di risposta, ok? Che sono, lo vedete, a frequenze o a periodi piccoli, frequenze alte. Ecco, allora volevo lanciarvi una piccola, un piccolo elemento di attenzione. Ci possiamo credere, cioè se noi prendiamo questo dato che è nato in un contesto completamente diverso e lo usiamo per gli scopi dell'ingegneria, lo possiamo prendere così e crederci così? Cioè la domanda è, basta mettere un sismometro per terra per registrare il moto del terreno? Perché poi è quello che cercate voi, no? Allora vi faccio vedere alcune cose. Una stazione sismica ideale, idealmente, sarebbe posta su roccia. Il sismologo storico, ma anche quello fino a vent'anni fa, le stazioni le metteva su roccia. Perché su roccia, su roccia fiorante? Perché la roccia è l'unico, diciamo, terreno che non modifica il moto delle onde sismiche, dal punto a dieci, cinque chilometri di profondità in cui si genera il terremoto fino alla superficie. Voi sapete che se io ho tanti strati di terreno, questi strati modificano le caratteristiche delle onde sismiche, ok? Molto le modificano in termini di ampiezza, di frequenza, eccetera, eccetera. Quindi il sismologo tipicamente non voleva studiare la geologia, voleva studiare la sorgente sismica, voleva studiare la faglia e quindi non voleva che ci fossero di mezzo strati geologici strani. Quindi idealmente il sismologo le cose le mette in roccia. Il problema è che se in Italia mettiamo le stazioni sismiche in roccia, ci riduciamo le Alpi, gli appennini non sono roccia in senso sismologico, sono roccia molto tenera, quindi finivamo che le mettevamo in Alpi e sul Gran Sasso, appunto. Ovviamente per avere una rete sismica omogenea, tocca metterli dappertutto i sismometri. Come li mettete? Anche lì, idealmente il sismometro ideale sarebbe questo, sarebbe quello sotterrato o messo subito sopra, ok? Perché è l'unico sismometro, diciamo che questo è tra virgolette fedele al moto del terreno, poi vedremo che non è vero. Il 99% dei sismometri nel mondo non sono sotterrati, però vi ragioni che se li mangiano i topi, eccetera, eccetera, sono tutti messi dentro edifici piccoli o grandi che siano, con qualche, a volte dentro cabine così, ma molto raramente. In Italia il 40% dei nostri, delle nostre stazioni sismiche sono dentro cabine Enel, questi oggetti qui che conosciamo tutti, anche grandi, alcune sono dentro edifici e poi abbiamo un po' di cose cosiddette in free field, in campo libero, che non sono mai in campo libero, sono sempre dentro qualcosa. Quella cosa che viene normalmente non considerata è il fatto che queste stazioni sismiche alterano fortemente quello che voi registrate in medio-alta frequenza, perché non è che se io metto un sismometro qua sotto, sul pavimento e viene un terremoto, posso pensare di star registrando il moto del terreno, che io sto registrando il moto del terreno e la risposta della struttura che viene rimandata al terreno e non solo di questa struttura, anche delle strutture intorno. E vi voglio far vedere che questa influenza è enorme alle frequenze che usate voi. Giusto per dirvi che quando trovate, visto che oggi online si trovano accelerogrammi da vendere, ok? Ce ne sono di tutti i tipi, state attenti perché non sono il moto del terreno e basta, sono il moto del terreno più altre 12.000 cose. Quindi prima di interpretarli bisogna stare molto attenti. Allora, insomma, dico una banalità, se io metto un sismometro dentro una struttura, ok? Vi faccio vedere questo, il sismometro è dentro, su un pilastrino, intorno alla struttura. I sismologi anche ci facevano un taglio intorno alla fondazione pensando che il taglio servisse ad isolare le due cose. In realtà tra le due cose c'è il terreno, il terreno le onde le fa passare, non è che se è fatto un taglio è finito il problema. Di fatto questo strumento non è isolato da nulla, è staccato dalla fondazione ma le onde si trasmettono ugualmente attraverso il terreno. Voglio farvi vedere la differenza che c'è mettendo un sismometro dentro una stazione sismica o mettendolo fuori, in giardino, diciamo subito fuori dalla fondazione. Allora, voi sapete tutti meglio di me che le strutture non sono mai ferme, hanno tutti i loro modi di vibrare, adesso qua mettiamo quelli di una mensola. Prendiamo una a casa, i modi di vibrare li vedete, li misurate, mettete uno strumento in cima alla struttura e vedete tutti i modi che volete. Prendo la Torre di Pisa, visto che se ne è parlato prima, non so se sapete la Torre di Pisa vibra un Hertz, più o meno il primo modo di vibrare la Torre è un Hertz. Se voi vi mettete a fare misure radiali a partire dalla Torre andando verso, in questo caso, questo pezzo di giardino qui, noterete che il modo di vibrare della Torre è un Hertz, si risente anche a distanze crescenti dalla Torre, che ovviamente va decadendo ma c'è un'ovvia trasmissione di questo movimento al terreno a distanze crescenti. Lo dico perché uno tende a pensare che sotto ci sia un vincolo, che è fermo, sotto misuro solo il modo del terreno, no, sotto state misurando anche il modo della Torre che si rimanda al terreno. Questo nella Torre di Pisa è molto evidente, se vi prendo una paleolica, questa è una paleolica sempre qui in Emilia Romagna, la paleolica la sentiamo almeno fino a 500 metri di distanza, 500 metri, cioè più è alta la struttura, più è lungo il suo periodo, più grande è la distanza a cui voi risentite, perché il periodo lungo significa onde lunghe per noi, quindi grande distanza. Se prendo un viadotto, questo è un viadotto sulla 14, i modi di vibrare di questo viadotto voi li misurate serenamente anche qui a centinaia di metri di distanza, non è necessario andare sul viadotto per misurare i modi di vibrare, li misurate anche a terra. E li vedete qua, vedete questo è proprio il decadimento del modo 1, 2, 3 di questo viadotto a terra. Ecco, questo per dirvi che le strutture per un sismologo sono un grandissimo disturbo. Voi a noi ci disturbate tantissimo, perché noi non riusciamo a misurare il terreno senza le cose che ci costruite sopra, adesso è una battuta, però è una battuta tra virgolette che per noi se noi lavoriamo a lunghi periodi, ed è il motivo per cui lavoriamo a lunghi periodi, lì non abbiamo problemi, perché voi a 20 secondi non ci arrivate, a meno che non siamo al Golden Gate di San Francisco, ok? Però se noi dovessimo farci una magnitudo che lavora a 4 Hz, avremo dei grossissimi problemi, perché a 4 Hz c'è mezza città che vibra, ok? Quindi, so, per voi, le vostre cose per noi sono un disturbo. Vi faccio vedere la stazione... Tre minuti. Ok, faccio vedere la stazione di Mirandola, visto che parliamo... Se io vado a Mirandola, questa è la stazioncina che ha registrato quel terremoto del 2012, e metto dei sismometri dentro la stazione e fuori in giardino, li vedete qua, queste cose azzurre, cosa vedo? Questi sono i modi di vibrare della cabina, 10 Hz, 15 Hz, io ne risento anche a terra, ok? Questa è la misura a terra, e questo non è terremoto, è questo è microtremore, quindi dovete immaginarvi che quando c'è un terremoto questa cosa è amplificata di un fattore molto grande. Quei moti si vedono anche a terra. Prendo altre stazioni, qui siamo a Naso in Sicilia, qui siamo a Penabilli, quindi a Furlì. I modi di vibrare delle cabine Enel sono in un caso 7 Hz, in un caso 5 Hz. Quei modi, nella registrazione, sismica, si vedono, li vedete qua, questo è quello che si registra sul pilastrino della stazione sismica, ok? Prendo un'altra stazione, questa è Corleone, anche i suoi modi, ma è facile immaginare che se io sono alla base di una stazione fatta così, registro anche l'effetto della stazione. Quindi vi faccio vedere un altro aspetto, vabbè, lo dico qua. Quando voi prendete o quando vedete che trenano secondi dopo che è avvenuto un terremoto, qualcuno già vi pubblica lo spettro di risposta e lì c'è grande, piccolo, tutti via che commenti, 800 pagine di commenti su quanto grande era quello spettro di risposta, io vi imploro di andare nel sito, nel database delle stazioni sismiche italiane a controllare dove è messa quella stazione che ha registrato quella, quell'accelerogramma, ok? Perché voi vedrete che in tantissimi casi quella stazione è dentro una cabina Enel, è dentro un monumento, è dentro un ospedale, è dentro da qualche parte e anche quando non lo è potremmo parlare anche delle stazioni quelle più piccole. Cioè il messaggio è che questi mega picchi che vedete alle basse frequenze, ai bassi periodi, quindi alle alte frequenze, potrebbero e in molti casi sono, non essere il moto che viene là sotto, ma essere il risentimento che ha il sismometro di quello che avete intorno, ok? Della struttura tipicamente. Vi faccio vedere, questo è l'esempio del terremoto dell'anno scorso, di marzo, di Umbertide, registrato a Gubbio Piana, a Umbertide, con tutti che dicevano, oddio quanto è grande, guarda che picchi, andate a vedere dov'è, la stazione sismica è dentro una cabina Enel, ok? Che vibra, si riconosce anche nella misura passiva, vibra a 6 hertz, ok? Questa banda gialla. Prendete l'altra, Umbertide sta dentro un monumento, ok? Io adesso, visto che il tempo è finito, non vi faccio vedere gli effetti di fondazione, ma oltre a l'effetto di quello che sta sopra, ricordatevi anche che la fondazione di una stazione ha un grossissimo effetto sulle onde di superficie e quindi sulla forma del sismogramma, ok? Allora, il messaggio era, visto che oggi la sismologia mette a disposizione di tutti informazioni di tutti i tipi, terremoti storici e sismogrammi o accelerogrammi contemporanei, visto che è facilissimo usare queste forme d'onda, non facciamo l'errore di pensare che basta mettere un sismometro per terra per registrare il moto del terreno, perché non è così, ok? Ecco, questo era il messaggio che volevo mandarvi, dopo oggi pomeriggio vi farò vedere un po' queste cose in giro per la città. Grazie, molto interessante. La prima domanda, allora io chiederei al mio co-moderatore, al professor Castellazzi, ma c'è consapevolezza da parte degli ingegneri su questi temi e su queste informazioni che ci ha dato la professoressa Castellaro? No, infatti la sensazione è che sia ancora un ambito molto per specialisti e la domanda che viene anche in termini così specialistici, note le strutture che forse sono più note rispetto a quello che è il terreno, è possibile filtrare l'effetto della struttura, perché nota la struttura, noti i modi di vibrare, riesco magari eventualmente a filtrarli. E l'altra questione è che probabilmente è sempre da specialisti, riguarda l'energia dell'evento, cioè sul micro tremore c'è una fortissima influenza quando l'energia cambia e quindi si passa a un evento sismico, questo magari può essere più o meno influente da quello che ho visto nell'ultima slide, mi sembra di sì. È più influente, molto più influente. Allora la prima domanda, voi sapete che purtroppo noi delle stazioni sismiche italiane conosciamo la geologia di sito soltanto nel 40% dei casi, perché purtroppo, da sempre, purtroppo, però vi ragioni, le stazioni sono in gestione Enel, quelle sismometriche, e in gestione protezione civile, quelle accelerometriche. Succede che ovviamente Enel le mette dove può, o che si concorda alla zona, Enel le mette dove può, a volte le sposta anche, abbiamo anche un certo numero di stazioni che da coordinate stanno in un posto e poi le troviamo da un'altra parte. E questo è un problema mondiale, perché tutti i paesi affidano a terzi. Non so se avete mai esplorato questi cataloghi, c'è in atto un tentativo di almeno farvi sapere realmente, perché qualcuno è andato a fare delle misure geofisiche, su che terreno stanno le stazioni. E adesso l'idea sarebbe, c'è in atto uno sforzo anche abbastanza incommiabile in questo senso, almeno di arrivare a capire la geologia di sito. Il messaggio che stiamo provando a lanciare è quello di dirvi anche in quale range di frequenza potete usare quelle stazioni senza aspettarvi disturbi da strutture adiacenti. Però il problema non è solo poco noto in ingegneria, purtroppo, è poco noto anche in sismologia, perché a meno che uno non faccia il sismologo osservazionale, cioè quello che veramente guarda le tracce, molti non sono così perché ormai è quasi tutto automatizzato, sono molto meno i sismologi che fanno queste considerazioni, neanche i sismologi percepiscono molto questo problema, anche perché il sismologo la struttura non la conosce, quindi non sa che alcune cose che vede sono legate alle strutture, magari le intuisce. Quindi c'è in atto un tentativo adesso di, almeno nei database delle stazioni sismiche, di darvi un range di frequenze entro cui potete lavorare. Per quanto riguarda la possibilità di toglierli, in alcuni casi è semplice se la struttura risente solo, per esempio, dell'edificio che ha intorno, in altri casi, in contesti urbani, è estremamente complesso, ovviamente. Tenete presente che normalmente quello che succede è che in questi sismogrammi le verticali sono amplificate e le orizzontali sono deamplificate. Cioè, in alta frequenza la cosa che tipicamente succede è che tranne alle frequenze proprie dell'edificio, dove lì c'è una esagerazione sulle orizzontali, rischiate di vedere le orizzontali anche più piccole di quello che sono, e invece le verticali più grandi di quello che è. Questo come trend generale di connubio, effetto fondazione, effetto struttura. Però ovviamente poi andrebbe contestualizzato ad ogni ad ogni caso. Ok, grazie. Allora. Stavo prendendo appunti professoressa perché Marzio Portio Catone diceva chissà parli, Andrea Dari, editore di Ingegno, dice, Marzio Portio Catone diceva chissà parla, Andrea Dari, editore di Ingegno dice chissà parli, perché se non parlate voi, poi ovviamente parla chi magari girando con un attrezza da geologo e una bella faccia va in televisione e racconta quello che non sa. Quindi il raggiamento che io faccio è che, come diceva Castellazzi, ho fatto questa domanda al professor Castellazzi proprio perché volevo capire se il mondo dell'ingegneria era consapevole di queste cose. Nel momento in cui mi dice non c'è consapevolezza, io credo che la colpa maggiore non sia degli ingegneri ma sia vostra, nel senso che io vi invito a parlare perché se avete questi bellissimi cataloghi, adesso io metto a disposizione il mio portale, noi facciamo due milioni di visite al mese, ma ci sono anche altri strumenti, cioè uno dei problemi della scienza è che si parlano tra di loro solo gli scienziati e quindi per scrivere un articolo che può essere diffuso non solo attraverso i congressi ma attraverso strumenti più semplici non c'è bisogno di tutto questo tempo essere in tanti. E quindi è fondamentale, la mia disposizione però è fondamentale fare questa divulgazione. Allora, proseguiamo, professor Castellazzi che è professore di scienza delle costruzioni ed è presidente di ICO. Il tema riguarda le recenti sviluppi di tematiche sui compositi per le strutture murarie che quindi ha una derivata diretta da quello che è stato l'intervento del professor Tommaso. Quindi a teleparola sappi che ti dovrò tagliare se hai trattato. Nessun problema. Grazie, grazie per l'introduzione. In realtà ho aggiornato leggermente il titolo come potete vedere perché è quello che vorrei fare di seguire un po' quello che era il suggerimento di Leonardo nello slide del professor Di Tommaso, ovvero di vedere, di capire certe tematiche, di parlare di studi recenti, di certe tematiche riguardanti i compositi e vedremo poi nel seguito che parlerò di questioni assolutamente numeriche, di simulazione. Per farlo volevo un po' contestualizzare anche l'argomento. Inizialmente questo era un po' lo spirito di poter presentarvi un po' le attività anche di ICO all'interno della mia presentazione e quello che ho cercato di fare è di fare una sintesi, una sintesi ragionata di quelle che sono le tematiche che cerchiamo di promuovere all'interno di ICO. Lo strumento che volevo utilizzare era l'analisi di quello che abbiamo visto nei convegni Murico. Murico è un convegno che ha oggi internazionale, pienamente internazionale e ha raccolto lavori, diciamo, sulle tematiche delle murature, principalmente delle murature rinforzate. Degli ultimi sette convegni volevo analizzare quello che abbiamo visto, dei sette convegni, quello che abbiamo visto negli ultimi cinque convegni, con un metodo un po' così anti-conventionale. Insomma, prendendo tutte le parole, la terminologia che abbiamo visto nei titoli e nei sommari dei lavori scientifici e utilizzando il Wordle. Il Wordle è un diagramma che ripropone le parole e la dimensione della parola corrisponde a quante volte questa parola è stata utilizzata all'interno di un test. Mettendo insieme tutte le parole di quello che abbiamo visto nei sommari, tanto più la parola sarà grande, tanto più sarà importante e quindi utilizzata. Vediamo ad esempio il primo convegno che analizziamo, che è quello del 2009. E qui si vedono comparire subito grandi caratteri, murature, parole compositi, eccetera. Qui era ancora un convegno, metà in italiano, metà in inglese. Su questo aspetto, se togliamo quelle che sono le parole chiave ricorrenti, muratura, rinforza, eccetera, facciamo emergere le parole che fanno da contorno a quello che è il tema. Cioè vediamo gli argomenti come vengono declinati. Qui si vedono parole che sono gli starti, in prima ipotesi, quindi qua nel 2009 abbiamo parlato principalmente. E l'idea di questo è perché, che è analizzare questi lavori? Che è il dibattito scientifico dei ricercatori che sono stati coinvolti all'interno del convegno. Tipicamente il dibattito scientifico anticipa o, diciamo, precede quello che poi è la pratica comune. A volte precede, a volte no, dipende da quanto è efficace, no, il sistema di rinforzo in questo caso che stiamo utilizzando. Se andiamo avanti nel tempo, con la stessa metodologia, vediamo che certe parole cambiano la dimensione. FRP inizia a diventare più piccolo, FRCM e FRP iniziano a vedersi. Ma ci sono anche altre aspetti. L'aspetto principale è che la parola SESMITO, che è un po' tema di questo convegno, è una parola che prima era tra le righe, forse c'era, poi inizia a comparire. Così come la parte predominante è l'approccio sperimentale. L'approccio sperimentale versus quello numerico, verso quello della modellazione, quindi della modellizzazione, cioè quindi della parte, diciamo, di capire il sistema. Più andiamo avanti, certe parole iniziano a prendere predominanza, ad esempio l'aspetto sismico, quindi è contestualizzato, chiaramente all'interno del contesto sismico. E le parole cambiano, l'FRCM abbiamo visto, ad esempio, qui che è essere predominante, ma l'FRCM corrisponde anche a qualcosa che è un approccio di competenza, quindi edifici storici. Prima non si parlava che gli edifici storici iniziano a predominare la parte. Un'altra cosa carina che ho visto è la parte sperimentale e numerica iniziano ad avere stesso peso, stessa dimensione. A un certo punto compare anche il concetto strutturale, cioè il composito non è più visto solo semplicemente dal punto di vista della ricerca come studiato, fino a se stesso come materiale, ma all'interno della struttura, quindi della parte strutturale. Fintanto che nell'ultimo convegno, quello che abbiamo visto nel 2019, che purtroppo è un'audizione online, vediamo che certe parole iniziano ad avere un peso, ad esempio la parte di modellazione numerica è equiparata a quella sperimentale e altre caratteristiche sono la forza componente strutturale, si guarda alla componente strutturale. Compaiono anche altre parole, ovvero legate alle strutture esistenti, esistenti storici, quindi il concetto di durabilità, il concetto di durabilità, esistenti murature storiche. Su queste tematiche mi vorrei poi soffermare con questo intervento, vorrei raccontarvi un'esperienza che riguarda l'studio delle murature storiche dall'ambito di modellazione, nei riguardi della durabilità, ovvero nella perdita di prestazioni meccaniche di questi sistemi, per effetto delle azioni ambientali. Questa ovviamente è una ricerca che coinvolge me e altre persone, sul tema delle murature, lavoriamo con questo gruppo da almeno una decina d'anni e abbiamo partecipato anche al tavolo di lavoro Rilem proprio su il tema della durabilità. Partiamo dalla normativa, la normativa oggi finalmente cosa fa? Prevede che ci sia una valutazione di quelle che sono le proprietà sia meccaniche ma anche nei confronti della durabilità. Qui ho riportato il certificato di valutazione tecnica, sono due ben chiaramente distinte e sul tema della durabilità ci si rivolge a quello che è l'effetto dell'umidità, l'effetto dell'ambiente alcalino, dell'ambiente sano, quello che io chiamerò invecchiamento. Ed è valutato sia sulle fibre, quindi sul materiale stesso che compone il composito ma anche sul cosiddetto sistema di rinforzo. Per capire quello che vorrei mostrarvi, i caratteri sono un po' cambiati, bisogna disassemblare quello che è il concetto di sistema di rinforzo. Il sistema di rinforzo è dato dalla fibra, può essere di qualsiasi natura, naturale, oggi anche si pensa a varie tipologie di fibre naturali, alla matrice che ad esempio pensando all'FRCM, una matrice in organica, ma su queste diciamo dubbi non ce ne sono, il certificato ci dà la possibilità di chiarire esattamente quelle che sono le strutture. Però dobbiamo fare i conti anche con quello che è l'invecchiamento del supporto, sul tema dell'invecchiamento del supporto c'è una variabilità enorme, soprattutto se pensiamo alle strutture esistenti ma ancora peggio se pensiamo alle strutture storiche. e dal punto di vista delle proprietà meccaniche il dubbio quello rimane, insomma il fatto di poter attestare chiaramente quali sono le proprietà c'è una variabilità. Se passiamo ulteriormente al livello di struttura questo ulteriormente esplode, esplode dando grandi grazie a capire qual è l'efficacia, l'efficienza di un sistema di rinforzo applicato una struttura sempre nei confronti dell'invecchiamento, stiamo parlando anche principalmente di quindi cercherò di analizzare prima di tutto il supporto e il sistema di rinforzo nei confronti sia dell'invecchiamento che delle proprietà meccaniche, per poi cercare di passare queste informazioni a quello che è il sistema struttura. Quello che succede è che il problema dell'invecchiamento dal punto di vista di modellazione è principalmente guidato dal tema dell'umidità, la risalita di umidità all'interno delle murature, pensando alla muratura, non qualsiasi materiale poroso, è quello che guida il fenomeno. Questo lo chiameremo come un problema multifase, multifase perché dipende dalla fase di quello che abbiamo all'interno della muratura, fase gassosa, della fase liquida, fase solida, vedremo più nel dettaglio cosa significa. E deve essere associato a quello che ha un riflesso su questo problema meccanico. Il problema meccanico, tensioni, informazioni. Allora, l'idea quindi è di capire. Allora, spiamo tutto di quello che è il sistema di rinforzo in termini di durabilità. Quello che non abbiamo è il sistema, supporto, sistema di rinforzo, come interagiscono, ovvero l'invecchiamento del supporto come può deteriorare il sistema di rinforzo. L'idea è quella di utilizzare un modello numerico che ci possa dire cosa succede al supporto, puoi capire cosa succede al composito e aggiungere informazioni, aggiungere, capire, cercare di capire a fondo la base ABC, nel senso che cosa significano, ad esempio, il degrado d'ambiente salino. Il degrado d'ambiente salino è dovuto alla risalita capillare, c'è un veicolo che è la risalita capillare, nell'acqua sono disciolti dei sali, anche se l'acqua fosse pura, nel materiale poroso sono presenti dei sali che vengono disciolti e trasportati. L'evaporazione fa da agente che cattura, attira l'acqua e crea il fenomeno di risalita, ma nel momento in cui l'acqua evapora, la soluzione salina contenuta nei pori del materiale poroso cambia di concentrazione. Cambiando di concentrazione il sale a un certo punto si deposita e cambia il suo stato, da liquido a solido. Fa la stessa cosa che fa quando l'acqua cambia il suo stato da liquido a solido, aumenta di volume. Aumentando di volume crea una pressione nei pori che deteriorano il materiale. Dove avviene questo fenomeno può avvenire in due punti, o quella che si chiama efflorescenza, quello che vediamo praticamente su tutti i muri, il sale al di fuori della muratura, questo non è un problema, ma la subflorescenza, quello che avviene all'interno, nel primo layer sottostante della muratura, quello può dare dei problemi perché lì è un problema vincolato. La pressione viene esercitata sui pori. Questo aspetto può essere studiato con un modello numerico, non riporto equazioni, oggi diciamo, anche se siamo nell'Accademia delle Scienze, ci siamo trattenuti dal dover annoiarvi più di tanto su questa cosa, ma dobbiamo pensare che deve essere creato un modello, dobbiamo disassemblare quello che è un materiale fortemente irregolare, fortemente caotico, un materiale poroso, riassumerlo all'interno di una stratificazione di frati, pensiamolo come se fossero tante componenti, dove i pori li vediamo come dei tubi cilindrici, è una forte approssimazione, ma con le opportune valutazioni funziona molto bene per i materiali porosi. E la muratura viene vista come un insieme di vuoti di pieni e all'interno dei vuoti ci sono tutte le fasi di tutti gli oggetti, dell'acqua, cioè fase liquida, fase gassosa, fase solida. Quali sono le variabili principali? Modello multifasi, dobbiamo vedere l'umidità, l'umidità all'interno dei pori, la concentrazione del sale disciolto, la temperatura, alcuni sali dipendono dalla temperatura, possono essere più o meno espansivi, ad esempio i solfati, e la massa di quello che poi è la nostra informazione, la massa del sale solido, quanti cristalli, quanta sale solido si forma all'interno dei pori, più un milione n variabili interne. Quello che si riesce a fare è, adesso qui ho riportato una sola immagine, ma abbastanza evocativa, facile da capire, è possibile creare un modello che sia in grado di vedere quello che succede in un anno, in dieci anni, in cento anni, su una muratura, pensando di applicare quelle che sono le condizioni ambientali, ad esempio questa è l'umidità percepita a Bologna in un determinato anno, questo era forse il 2011-2012, quello che si vede a distanza di un anno, queste sono le due immagini, il modello numerico a destra, il modello, cioè struttura reale a sinistra, questo sottoposta a dei cicli che favorivano quello che era l'invecchiamento, che è un ottimo, alla valle di taratura, è un ottimo risultato. Ora passiamo a quello che è il sistema di rinforzo, quindi visto la possibilità di poter vedere sul modello quello che succede al supporto, vediamo il sistema di rinforzo. Allora, prima di tutto cerchiamo di capire come è fatto il problema, quindi pensiamo, grazie ai risultati della professoressa Gentilini che qui vi mostro, che mi ha prestato gentilmente, qui vediamo quella che è una prova di invecchiamento accelerato, tipo quella che richiedono nella normativa, questa è un'attività svolta su un provino di tutte le dimensioni dove si pensa di eseguire una prova diretta a taglio. Questo provino viene visto sia in condizioni ideali, quindi non invecchiato, che in condizioni di invecchiamento, invecchiamento accelerato, quindi cicli, bagno, asciugo, bagno, asciugo con una soluzione salina, che con un invecchiamento precedente sul supporto, faccio invecchiare il supporto e poi successivamente applico quello che è il composito. I risultati sono abbastanza noti, ormai è ovvio che questo dobbiamo controllare la durabilità perché questo propone un decadimento, il decadimento può essere più o meno evidente e in generale si può dire che quello che ci richiede è rimanere confinati all'interno del 15%, c'è un decadimento. Ma cosa è dovuto esattamente a questo decadimento? Come può essere evitato? Come può essere limitato? Se volessi adesso capirlo, intervenire, devo intervenire sul sistema di rinforzo, devo intervenire sul supporto, su tutti e due? Cosa dipende esattamente? Perché è un problema veramente multifisico, cioè dipende da tanti fattori, tipo di matrice, dai pori, dalla dimensione dei pori. Allora rifacciamo dal punto di vista numerico, con quel modello che abbiamo visto prima vediamo di caratterizzare il materiale poroso quando è contaminato dall'effetto del composito, cioè ovvero è coperto, chiuso, il composito comunque altera le proprietà di permeabilità del materiale da questo materiale e riproponiamo le stesse identiche condizioni che abbiamo visto in laboratorio. Lo bagniamo e lo asciughiamo, lo bagniamo e lo asciughiamo. Quelle macchie scure che si vedono comparire sono la quantità di sale, più è scuro più è alta la percentuale di sale che si depoli. In questo caso specifico è una muratura, quindi un materiale poroso tipo muratura con un supporto eseguito in malta di calce ivraulica naturale, che è un supporto che è scelto perché è traspirante. In realtà quello che avviene è che se vedete la mappa di come è avvenuto il deposito del sale, il sale si deposita esattamente dove non si dovrebbe depositare. Il sale può potenzialmente deteriorare il materiale di più dove vorrei che non si deteriorassero. Se voglio adesso confrontarmi con quello che è il risultato sperimentale, il risultato sperimentale sono questi pallini che vediamo alla fine della simulazione, perché il dato sperimentale lo misuro solo alla fine della simulazione, quindi non vedo la storia. Con il modello numerico vedo la storia di accrescimento della quantità di sale e vedo che sono abbastanza in accordo con quello che è il risultato numerico, in termini quantitativi. È ovvio che se avessi avuto la possibilità di fare prima il modello numerico avrei scelto con cura dove andare a misurare la quantità di sale. La quantità di sale che è stata misurata con cromatografia ha fatto dei prelievi in zone dove ad esempio qui non c'è un grandissimo accordo perché è una zona di forte gradiente del sale. Quindi lì ho valori molto bassi se mi sposto un po' più in basso, valori molto alti se mi sposto molto in alto. La media più o meno quantitativamente torna. Gli altri, le altre zone sono abbastanza in. Questo mi dà la possibilità, visto il confronto sperimentale, di fare anche un ulteriore passaggio. Vediamo gli altri materiali, vediamo come si comportano malte cementifie, cambia la porosità, la porosità più piccola, meno permeabili o materiali che coprono, quindi un FRP che ad esempio copre, rende impermeabile quella che è la superficie. La stessa simulazione porta a risultati completamente diversi. Sposto il problema praticamente e ad esempio qui vista un po' la natura di questo FRP che è stato immaginato essere completamente sigillante non porta alla cristalizzazione dei sali dove mi aspetto, dove non volevo. E allo stesso modo mi potrei inventare nuovi materiali cambiando i parametri. Una malta più porosa, una malta meno porosa, una malta più alta, più bassa, più larga. Quello che uno si vuole diciamo ideare può riprodurlo a livello numerico e ottenere diversi, no? Diversi. Questo è il sistema di rinforzo. Vediamolo adesso questo che cosa significa dal punto di vista meccanico, perché abbiamo detto sì c'è la cristalizzazione dei sali, so quantificare la quantità di sale, ma devo capire che effetto ha. Danneggia o non danneggia? Quanti anni servono per danneggiarlo? Allora mi devo mettere all'interno di un modello multifisico completo, cioè devo aggiungere alla parte di sale anche la parte meccanica e aggiungendo la parte meccanica introduco quello che è la descrizione del materiale in termini di sforzi, deformazioni e in particolare quando gli sforzi eccedono a quelli che sono gli sforzi del materiale danno, ok? E questo è un problema abbastanza particolare perché ovviamente l'imbocchiamento avviene in cento anni. La prova meccanica avviene in pochi secondi, sono due scale temporali completamente diverse, ci sono delle tecniche numeriche per copiare questi due oggetti, ma quello che sostanzialmente avviene è che iniziano a esserci dei circoli, dei passaggi di informazioni tra i due modelli. Quello che si riesce a dire è che correlando la quantità di sale alla potenziale pressione sui pori, si riesce, pensiamo sempre di essere all'interno della parete, di prenderne una striscia, di vedere quello che avviene proprio sulla superficie, possiamo dare una specifica predizione di quello che è la pressione del sale esercitata nei pori e una corrispondente variabile di danno per poi poter capire se un certo periodo, un certo accumulo di sale, avviene o meno il danneggiamento del supporto. Con questo, fatto questo, posso passare a livello di struttura, perché se il mio modello riesco a contenere quello che è l'effetto del sale, sull'effetto del sale riesco a capire qual è l'effetto del danneggiamento, una mappa di danneggiamento a stile questo, riesco a trasportarlo su un modello a livello di struttura, si riesce a predire o a dare un'idea su quello che è l'effettiva capacità del sistema in confronto a un modello che è rinforzato o è rinforzato o è soggetto al degrado. Quindi riesco a capire quel tipo di degrado su quella specifica struttura, quanto riduce le prestazioni della struttura. Ora, e qui concludo, il tema ovviamente è un tema aperto, perché è caratterizzato fortemente da notevoli complicità. È un modello che dipende da mille variabili, è un modello numerico, quindi crederci eccetera. Però quello che possiamo fare è capire la dinamica degli eventi, non vedere solo la fotografia a fine della prova, ma capire come ci siamo arrivati a quel livello. Quindi è possibile dare informazioni su quello che è il sistema di rinforzo e di capirne come è avvenuto un certo degrado. Capendo questo, si può passare a scalare a livello di struttura. Scalare a livello di struttura è ovvio che si parla sempre di modelli, quindi scalati a livello di struttura, ovviamente bisogna credere anche ai modelli strutturali, però è possibile capire come certe tipologie di degrado possono influenzare certe tipologie di struttura. E questo, e lo devo dire io per primo, che mi occupo di queste cose, devo dire che sono questi modelli molto molto complessi, che non possono assolutamente, come sono fatti oggi, essere utilizzati nella fase di struttura. Carlo, questo è un tema su cui anch'io sono fortemente convinto, però quello che voglio dire, c'è un però, no? È che è lo stesso approccio che abbiamo avuto dieci anni fa, vent'anni fa, trent'anni fa, cinquanta anni fa, quando si facevano le cose in maniera differente. A un certo punto ci sarà un avanzamento tecnologico che ci darà un'umano. E quello che io vedo su questa tipologia di problemi, e spero che si possa applicare perché è una cosa recente, è che quello che si riesce a fare, che stiamo facendo, è di creare dei modelli surrogati. È un po' come dire, prima della modellazione sulle murature fatte con sistemi a trave, no? Usavo, dovevo, prima di idealizzare quello, utilizzare un modello 3D completo, ma 3D completo è impensabile, però il modello a trave, che è una sintesi, un surrogato di quello che è il modello strutturale, può dare notevoli informazioni, aiutare alla progettazione. Non è l'esatta modellazione a struttura, ma può aiutare. E nel caso di fare sintesi, e qui veramente chiudo, si tratta di interpretare fenomeni, ho quasi scritto degrado perché è degrade perché me l'ha fatto in inglese, però, fenomeni di degrado provenienti da sistemi di equazioni molto complessi. Infatti su questo, questo problema, ad esempio, potrebbe essere un ottimo candidato perché le forti sintesi, le sintesi più efficaci che oggi si vedono sono sintesi fatte da intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale potrebbe leggere un sistema di variabili molto complesse e intervenire, capire un po' come fa il Wordle, no? A vedere quelle che sono le parole di contorno e capire, no? Spiegare come questo modello evolve, senza utilizzare le equazioni, ma facendo sintesi sui risultati. Quindi quello che, diciamo, mi piacerebbe vedere, o non so se vedremo come parole chiave nel prossimo murico, potrebbero essere anche quello sulla intelligenza artificiale che sta dilagando. È un strumento che sta arrivando, quindi a un certo punto arriverà anche sul nostro cellulare e questo potrebbe essere un possibile Wordle del prossimo murico. Io ho capito. Grazie. Professore, intanto devo dirle che man mano che lei parlava mi segnavo delle domande a cui poi progressivamente rispondeva, perché per esempio l'ultima domanda che mi ero segnata era se questi modelli possono essere già uno strumento per l'ingegneria attuale sul campo, mi ha già risposto dicendo attualmente no, però volevo rimarcare due aspetti, alcuni aspetti che lei ha trattato. Innanzitutto volevo rimarcare il concetto di conoscenza, cioè il fatto che prima di scegliere il supporto io devo fare un'indagine, un'anamnesi di quello che è lo Stato, soprattutto per le murature, che forse sono ancora più delicate rispetto al cemento armato, ma comunque per tutte le opere prima di poter scegliere il supporto. Questo lo voglio sottolineare perché oggi con la diffusione, diciamo che abbiamo dei sistemi di rinforzo, la mia preoccupazione è che a volte ci si affidi troppo alla scheda tecnica e poco quella che è prima, il capire che cosa c'è sotto. La domanda che volevo fare però è questa, e lei ha parlato giustamente anche tante cose interessanti con il tema del degrado che non può riguardare solo il rinforzo, ma deve guardare e non solo il supporto da solo ma all'insieme, ma la domanda che io faccio è questa, ma in situazioni come quelle delle murature, che abbiamo ovviamente una struttura che non è omogenea come nel cemento armato. È possibile con questi modelli arrivare anche a pensare ai cosiddetti cigni neri, cioè al momento in cui c'è una rottura, perché noi sappiamo si arriva a un certo livello, ma poi tutto un tratto ci può essere un degrado. Noi vediamo le mura aureliane senza il problema dei terremoti, ogni tanto ne crolla un pezzo perché è dovuto al fatto che man mano l'umidità di cui lei parlava cresce e cresce e poi ne crolla un pezzo. Ecco, questi modelli possono aiutarci anche a prevenire di situazioni, chiamiamole, più drastiche. Allora, in generale c'è un commento di base, nel senso che tutte le volte che si parla di umidità è molto difficile trovare una struttura che si è crollata per problemi di risoluzione. Infatti come tema strutturale è un tema che trova un riscontro nel momento in cui utilizzo degrado all'interno della struttura per caratterizzare eventualmente l'effetto su un altro sistema di rinforzo, come può essere la corrosione per l'acciaio, come può essere la compatibilità tra i materiali. Quindi difficilmente si può predire il futuro, perché si possono fare scenari, si possono fare ipotesi, e queste possono aiutare la comprensione del manufatto. È ovvio, quello che è ovvio, è che modelli come questi possono aiutare a capire difetti congeniti della struttura. Se la struttura è una struttura solida senza i compositi, e ne esistono tante, questo non è necessario, ma se ci sono difetti congeniti occulti, come sono quelli del problema di trasferizzazione dei sali, perché sono problemi occulti che non si vedono, in quel caso magari questi modelli possono aiutare a darne una comprensione più ampia, più solida. Ok, grazie professore, io purtroppo non ho il tempo, se no avrei fatto tante altre domande, tra cui, quindi trasformo questa più che in una domanda, in una considerazione, ho la sensazione che le norme tecniche 2018 sulle murature debbono ancora avere un'evoluzione molto ampia. Mentre si siede il prossimo relatore, che è la professoressa Aprile, che insegna tecniche delle costruzioni Ferrara, provviste dal curriculum, volevo fare una considerazione su quello che ho appena detto, cioè il discorso delle… Vorrei fare una considerazione su quello che dicevo prima, l'importanza della conoscenza, che questa diffusione così ampia di tante tecnologie che sono supportate da certificati potrebbero portare a una superficialità che è sul tema della conoscenza. Ora, siccome siamo in questa bellissima sala in cui abbiamo, come ci ha ricordato il presidente dell'Accademia delle Scienze, abbiamo Ulisse qua, sopra di noi e sopra di me ogni tanto guardavo abbiamo Polifemo, vorrei ricordare che questo è un monito per tutti noi, perché Polifemo, ricorderete, va in Sicilia, trova, Ulisse va in Sicilia, trova Polifemo e Polifemo rappresenta nella mitologia la forza bruta che è l'ostacola e lui con quella che è la furbizia riesce a superare la forza bruta e da una prima interpretazione filosofica è la vittoria della furbizia, della conoscenza rispetto alla forza bruta. Poi in realtà, poi vediamo che Polifemo viene condannato da Poseidone a non tornare a casa. Poseidone, chi ha studiato la storia greca, ricorderà che inizialmente difendeva i greci contro Troia e adesso diventa invece colui che condanna Ulisse. Perché? Perché Ulisse ha utilizzato una furbizia e allora la mia paura è che le nostre opere possano non tornare a casa quando il tecnico, il progettista che deve progettare il rinforzo lo faccia non sulla base della conoscenza ma lo faccia sulla base della furbizia. Quindi io credo che quello che ci hai poi evidenziato ci insegni quanto sia importante la conoscenza nell'ingegneria, nella struttura e in tutte le scienze tecniche rispetto a quella che può essere la furbizia dell'intervento. Bene, mi scuso con la relatrice, le ho rubato un tempo, la professoressa Frile, a lei l'intervento su isolatori e dissipatori per la protezione sismica del costruito. Sì, innanzitutto vorrei ringraziare il professor Di Tommaso per avermi invitato a parlare di questo argomento che è stato uno dei miei argomenti di ricerca in passato e che lo è attualmente. Faccio una breve introduzione, poi parlerò di questi dispositivi, isolatori e dissipatori, come vengono usati per la protezione sismica delle costruzioni, come funzionano, vedremo alcuni esempi di abdicazione e infine sviluppi futuri e considerazioni conclusive. Bene, che l'Italia sia un territorio a rischio sismico diffuso lo abbiamo, lo sappiamo tutti, lo abbiamo sentito illustrare egregiamente dalla professoressa Castellaro. Quello che siamo costretti a vedere puntualmente sui giornali ogni 4-5 anni sono notizie di crolli, devastazioni, vittime, ogni volta che in Italia si ha un terremoto e non necessariamente di grande intensità. Qui sono riportati solo gli ultimi 5 anni, di cui ricorderemo senz'altro quello dell'Emilia, che ci ha coinvolto nel 2012 e che come gli altri ha avuto degli effetti estremamente drammatici. Parliamo di mezzo milione di persone coinvolte, 50 mila sfollati, 300 feriti, 28 vittime, 700 mila metri cubi di macerie, 58% delle imprese del territorio chiuse o delocalizzate per un totale di 6 miliardi di euro, fondi di ricostruzione, ma un danno globale di oltre 13 miliardi di euro. I dati li potete trovare sul sito della regione Open Ricostruzione. Di fatto l'Italia è il paese europeo che drena la maggiore quantità di fondi europei per le ricostruzioni post-catastrofe. Stiamo parlando negli ultimi vent'anni di 3 miliardi di euro, ovvero circa il 46% dei danni totali riserciti a tutta Europa. Siamo quindi un paese leader, però questa volta sicuramente non ce ne possiamo vantare. Allora vorrei fare un piccolo ragionamento sul concetto di resilienza, la resilienza di una comunità. Pensiamo a un sistema, un sistema che ha un certo livello di funzionamento, vedete, identificato da questo F0. Siva l'evento catastrofico, nel nostro caso il terremoto ha un tempo T0. Il sistema immediatamente ha un crollo della sua funzionalità, che può essere più o meno profondo. Poi segue un periodo di recupero post-terremoto. Questo recupero può essere fatto più o meno velocemente. Ok? E da che cosa dipende questa velocità di recupero? Da come è fatto il sistema. Possiamo noi, scusate, capacità di recuperare la condizione di partenza dopo una catastrofe viene chiamata resilienza. Resilienza del sistema, resilienza della comunità. Allora quello che ci chiediamo è, noi possiamo incrementare la resilienza di una comunità? Secondo gli autori, la resilienza si basa su tre pilastri. Capacità di assorbimento, capacità di adattamento, capacità di recupero. Le ultime due sono caratteristiche tipicamente socio-economiche, mentre la prima, cioè la capacità di assorbimento, dipende da come è costruito, da come è costruito l'edificato. Quindi noi possiamo operare implementando politiche di prevenzione sulla sicurezza delle costruzioni. Questo è quello che è stato effettivamente fatto dal 2016 in poi con la campagna Casa Sicura, detta Sisma Bonus, che poi si è evoluta nel Super Bonus, 110 e compagnia bella. Ora l'idea era ottima, purtroppo non ha secondo me ottenuto i risultati sperati, perché nella maggior parte dei casi gli interventi si sono concentrati sull'efficientamento energetico, senza prendersi cura di quello che sta sotto il famoso cappotto, ovvero della struttura. Questa secondo me è stata un'occasione mancata, cioè andava reso obbligatorio l'intervento sulle strutture. Oggi abbiamo meravigliosi condomini efficientati con le strutture che sono totalmente inadeguate sismicamente. Perché questo accade? Perché purtroppo dopo un terremoto, mentre la probabilità dell'evento ricomincia a crescere, la percezione del rischio comincia a diminuire. Questo è un processo piuttosto veloce, ahimè. Quindi il numero degli interventi volti all'adeguamento sismico del costruito hanno il loro picco subito dopo il terremoto, poi sciamano. Quindi noi abbiamo una memoria molto, come si dice, la memoria dell'evento emotivo si attenua e vi posso garantire che a 10 anni, 12 anni dal terremoto del 2012, in Emilia-Romagna quasi nessuno teme il fenomeno sismico e si preoccupa di migliorare sismicamente la propria costruzione. Questo è veramente un fatto, secondo me, molto grave. Ora in realtà noi oggi siamo in grado di progettare costruzioni sismiche resistenti, scusate, costruzioni sismo resistenti nei confronti del terremoto. È ormai un campo di conoscenza maturo e forse il punto su cui diamo maggiore ignoranza è proprio quello della sismologia. ma dal punto di vista della progettazione il campo, diciamo, è completo. Allora, vediamo brevemente, questo è importante per inquadrare il concetto dell'uso degli isolatori e dei dissipatori. Allora, a partire dagli anni 60 alcuni autori, soprattutto negli Stati Uniti, hanno sviluppato e portato e completato il metodo di progettazione in capacità. Fin dagli anni 50 era chiaro che per progettare costruzioni antisismiche la progettazione doveva essere basata sul concetto della dissipazione di energia, poiché il terremoto porta un'energia troppo grande per essere in qualche modo superato senza dissiparla. Quindi, diciamo, viene sviluppato il metodo di progettazione in capacità che fondamentalmente è impostato sulla dissipazione energetica attraverso la struttura, cioè la struttura dissipa energia danneggiandosi in maniera programmata. Questo approccio di progettazione è stato recepito fin dalla fine degli anni 60 dalla normativa americana e è incascata in Europa e anche in Italia. Parallelamente, autori a partire dai primi anni degli anni 70 hanno sviluppato invece una tecnica di progettazione diversa basata sull'uso di isolatori e dissipatori. Isolatori e dissipatori sono dispositivi meccanici che hanno lo scopo di dissipare l'energia, in questo modo salvaguardando la struttura. A valle del terremoto vengono sostituiti, un po' come gli ammortizzatori di un'automobile, quando hanno lavorato li sostituiamo, e lo struttura è nuovamente efficiente. Questo metodo è stato recepito dalla normativa molto più tardi, una ventina di anni dopo, e attualmente sono normati anche in Italia, ma lo vediamo dopo. Esistono fondamentalmente due approcci, il primo è quello dell'isolamento alla base, lo vedete qui a sinistra. L'edificio di fatto viene disaccoppiato dal terreno grazie all'introduzione di questi dispositivi che si chiamano isolatori, che hanno bassissima rigidezza rispetto alle azioni orizzontali, quindi ora avremo un filmato. O questo è un approccio. L'approccio alternativo è quello dell'utilizzo di dissipatori che vengono montati sui bracci di controvento dell'edificio e dissipano energia mentre l'edificio si deforma. Di fatto, concettualmente dal punto di vista meccanico, com'è il funzionamento? Allora vedete l'edificio ordinario si trova a vibrare in questa zona dello spettro di accelerazione, cioè una zona dove abbiamo il massimo dell'amplificazione dinamica della struttura. Attraverso l'approccio dell'isolamento alla base noi riusciamo a rendere l'edificio molto più deformabile. In questo modo andiamo a lavorare in una zona dello spettro dove l'amplificazione dinamica è molto minore, ma quando dico molto minore dico anche fino a 10 volte minore, quindi oggettivamente la struttura subisce una minore azione psichica. Se introduciamo dissipazione energetica, il lavoro che viene fatto è quello di abbassare questo picco di amplificazione dinamica, quindi sempre andiamo verso un'azione inerziale inferiore e le due cose si possono anche accoppiare e anzi in realtà vengono sempre accoppiate in modo da ottenere un abbattimento delle azioni sismiche che coinvolgono la costruzione e contemporaneamente una riduzione degli spostamenti. Un breve filmato per fare capire, io ho fatto una presentazione divulgativa perché questo mi era stato chiesto, per chi volesse approfondire e naturalmente sono a disposizione. A sinistra vedete una simulazione di un edificio tradizionale, a destra un edificio isolato. Durante il terremoto nell'edificio tradizionale c'è molta deformazione, c'è ovviamente la percezione degli occipanti e quella di sentire il terremoto, cadono del e cadono anche gli arredi che non sono stati sussati alle pareti. Parallelamente nel edificio isolato non c'è percezione del terremoto perché tutta la dislocazione avviene all'interno dell'isolatore che è collocato solitamente ai piani bassi. Ci sono vari prodotti, questi dispositivi isolatori e dissipatori sono due famiglie, ci sono tanti prodotti che sono stati inventati e poi sviluppati a livello industriale. Parlando degli isolatori, vengono distinte due grandi famiglie, gli isolatori elastomerici e gli isolatori scorrevoli, che di solito sfruttano lo scorrimento di due superfici metalliche con interposta una superficie di teflon, poi li vediamo. Per esempio i classici appoggi in gomma, isolatori elastomerici, sono costituiti da un'alternanza di strati di polimero, di gomma e acciaio e sono tra loro questi strati vulcanizzati. Il risultato è che otteniamo un dispositivo molto rigido verticalmente e molto flessibile orizzontalmente. Naturalmente questi dispositivi devono poi essere dotati di connettori, di elementi di connessione per essere collegati alla struttura, ovvero alla fondazione e alla sovrastruttura. Quando noi li mettiamo in deformazione per taglio, producono un ciclo di steresi. Quella che voi vedete all'interno di questo diagramma forza spostamento è l'area dissipata, quindi più l'area dissipata è grande ed è stabile, migliore è il comportamento, se volete, dell'isolatore. Esistono isolatori all'interno dei quali vengono inseriti dei nuclei di piombo, si chiamano isolatori con nucleo di piombo. Il nucleo di piombo, mentre l'isolatore si deforma, dissipa ulteriore energia, tanto vedete che il ciclo di steresi è più ampio rispetto al precedente, quindi questi sono isolatori che hanno una maggiore capacità dissipativa. Qui andiamo oltre il 30% di coefficiente di smorzamento equivalente. La seconda categoria degli isolatori sono quelli a scorrimento. Qui vedete delle immagini del cosiddetto friction pendulum, sono superfici d'acciaio concave che sono messe a contatto, che scorrono una rispetto all'altra. Così facendo, producono energia, notiamo subito che il ciclo di steresi ha la forma trapezoidale, completamente diversa dalla precedente, perché si tratta di un meccanismo, la dissipazione di energia avviene attraverso un meccanismo attritivo e non attraverso la deformazione dell'elastomero, quindi un meccanismo dissipativo diverso, ciclo di steresi diverso. Ci tengo a dire che i cicli di steresi sono importantissimi per questi prodotti, sono quelli che identificano il comportamento del prodotto e che ci servono per progettare. Nella categoria dissipatori, distinguiamo dissipatori isteretici, viscosi o ricentranti. Nella prima tipologia abbiamo il dissipatore cosiddetto buckling restraint brace, cioè è un dissipatore all'instabilità impedita. È un semplice oggetto costituito da un cuore in acciaio, inserito all'interno di un tubolare in acciaio, poi riempito di calcestrutto. Lo scopo è consentire lo snervamento dell'acciaio senza poi avere l'instabilità quando la sollecitazione diventa di compressione. Il ciclo di steresi offerto da questo tipo di dissipatore, che viene montato tipicamente sui bracci di controvento, è molto ampio e stabile. Questo è un prodotto ormai consolidato e che ha un funzionamento, secondo me, ottimale per molti aspetti. I sistori invece a comportamento viscofluido sono dei veri e propri pistoni, quindi sono all'interno dei quali viene inserito un fluido, che può essere un fluido siliconico piuttosto che piombo, che nel movimento questo fluido viene estruso attraverso delle valvole. È grazie a questo passaggio all'interno delle valvole che viene dissipata l'energia. Noterete un ciclo di steresi diverso dal precedente, perché il meccanismo che genera la dissipazione di energia è diverso e di fatto abbiamo cicli che hanno la forma rettangolare e in certi casi anche ellittica. dispositivi viscoelastici, dissipatori viscoelastici, sfruttano la capacità deformativa e dissipativa di cuscinetti, anche qui, di elastomero. Vedete, l'elastomero viene vulcanizzato su dei piatti d'acciaio. Questo tipo di dispositivo ha un ottimo comportamento, ma risente della variazione di temperatura che si produce per effetto della dissipazione. Quindi sono un po' più complicati da progettare e negli ultimi anni penso che siano stati utilizzati molto poco, mentre negli anni 90 e 2000 erano stati proposti bene sul mercato. Questo invece è un dispositivo ricentrante. Praticamente il cuore del dispositivo è una molla elastica più un sistema di molle che generano attrito sulle superfici esterne. Allora, il ciclo di sterile è molto diverso dai precedenti. Vedete che ripassa sempre per lo zero, ha un'area dissipativa inferiore, però ha il vantaggio di essere, appunto, di passare per lo zero. Cosa significa? Che quando finisce il terremoto il dispositivo ritorna nella posizione iniziale, è perché è ricentrante, che quindi significa che riporta la struttura nella configurazione in deformata. L'ultima categoria che vi mostro è quella degli smart memory alloys. Sono dispositivi che contengono fili di una lega particolare, una lega equiatomica nickel titanio. Questi sono materiali a memoria di forma, hanno comportamento super elastico, vedete? Quindi quando voi aumentate la deformazione formano un andamento a gradini e poi allo scarico creano la dissipazione di energia. Anche questi sono ricentranti e lo vedete perché ripassano per lo zero. Sono dispositivi molto sofisticati, anche abbastanza costosi, infatti in Italia non sono usatissimi. Un esempio di applicazione molto famoso è quello della Basilica di San Francesco ad Assisi. Di punto di vista normativo questi dispositivi ormai sono normati in tutti i paesi del mondo. In Europa sono normati dal 2004, in Italia sono stati recepiti dalla normativa tecnica nel 2008 e molto importante anche questa norma UNIEN 15129 che regolamenta la certificazione e la qualificazione dei dispositivi. Questo significa che i dispositivi che qualsiasi azienda mette a catalogo devono essere certificati sperimentalmente, devono avere la marcatura CE e devono subire tutta una serie di test che sono spiegati bene dalla norma stessa. Quindi vedete devono subire determinati range di deformazione senza andare a rottura per taglio, senza andare a rottura per trazione. Questo è per fare un esempio ovviamente di test. Ogni dispositivo ha il suo tipo di test, quindi tutto regolarmente regolamentato. Vi mostro abbastanza velocemente alcune applicazioni storiche, comunque interessanti. Questa è la prima applicazione in assoluto dell'isolamento alla base in una scuola di Scopi e Macedonia. Siamo nel 1963, edificio in cemento armato. Gli isolatori vengono inseriti a livello del basamento. All'epoca avevamo le prime tipologie di isolatori, sono isolatori donati dalla Svizzera all'epoca. Vedete che sono di puro elastomero, quindi sono caratterizzati da un'elevatissima dilatazione trasversale. Nel 2007 sono stati sostituiti con dei dispositivi moderni, isolatori in gomma ad alta dissipazione. Quindi questa si può considerare se l'intervento è ad oggi più efficace sicuramente del precedente. I dispositivi di isolamento e di dissipazione si possono usare anche nel retrofit, cioè nel recupero delle costruzioni storiche. Questo è un esempio molto celebre, è il municipio di San Francisco, che è stato più volte devastato dai terremoti e infine è stato adeguato sismicamente nel 2000 utilizzando isolatori in gomma con nucleo di piombo e smitte, con un costo totale di intervento superiore ai 100 milioni di dollari. Oggi, diciamo negli ultimi vent'anni, un concetto che è stato sviluppato nuovo rispetto al passato è quello del suolo artificiale, cioè si è scoperto che diventa molto più efficace isolare gruppi di edifici piuttosto che l'edificio singolo. Chiaramente questo può essere fatto quando noi costruiamo quartieri nuovi, questo si intende, non è un'applicazione che in Italia diciamo possa essere applicata così facilmente, però per esempio Giappone e Cina utilizzano questa soluzione in maniera piuttosto diffusa, quindi creano nuovi edificati, nuovi edificati interamente collocati su delle piattaforme di calcestruzzo isolati alla base nei piani inferiori. Questo produce una grande efficacia e un grande risparmio economico in termini di intervento. I piani inferiori addirittura vengono fatti passare le strade e le ferrovie. Questo è un intervento recentissimo, l'ospedale di Adana in Turchia, nel sud della Turchia è stato completato, realizzato nel 2018, si tratta di un'area di 430 mila metri quadri, sostiene quattro torri di 11 piani ciascuna, è un'area ospedaliera, costruito su una piattaforma ottagonale sostenuta da isolatori, in questo caso sono stati utilizzati più di 1500 friction pendulum, quindi dispositivi a scorrimento. Qui vedete alcuni dettagli del disegno, la pianta molto particolare, la sezione e il cantiere, quindi nel piano interrato, c'è il piano cosiddetto di isolamento e poi tutto il complesso è costruito su una piattaforma unica. Questo edificio si è comportato molto bene nel terremoto di un anno fa, quello del 7 febbraio del 2023 e non ha riportato nessun tipo di danno, nonostante si sia trattato di un evento veramente molto intenso. Attualmente non c'è un censimento degli edifici aggiornato ad oggi, l'ultimo censimento che ho trovato è quello del 2011 e l'ho ripreso da una pubblicazione dell'ingegner Martelli. Già all'epoca avevamo più di 20.000 strutture progettate con isolatori e dissipatori. Posso sinceramente dire che mi aspetto oggi, stiamo facendo questo censimento attraverso l'associazione Assisi di cui vi parlerò e sicuramente oggi abbiamo numeri molto molto maggiori. In Italia sicuramente dopo l'approvazione dell'NTC 2008 il numero degli interventi è cresciuto esponenzialmente, in particolare dopo il sisma dell'Aquila del 2009. Vi mostro alcune applicazioni italiane. La prima, quella storica del 1991 è la realizzazione di questo centro regionale dell'allora Telecom nelle Marche. Il progetto era relativo a cinque edifici di otto piani ciascuno e sono stati utilizzati isolatori in gomma ad alta dissipazione, progetto dell'ingegner Giuliani. Ricordiamoci che all'epoca questo progetto ha dovuto avere l'approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici perché non esisteva una normativa relativa a isolatori e dissipatori, quindi un iter particolarmente complicato. La scuola San Francesco Iovine di San Giuliano di Puglia, ricorderemo tutti questo tragico evento della nostra storia che è collassata nel 2002 causando 28 vittime, 25 bambini e tre insegnanti, è stata ricostruita con una struttura in calcestruzzo isolata alla base. Quindi vedete sono stati disposti isolatori all'interno del piano tra la fondazione e la sovrastruttura. Un altro progetto molto interessante è quello del progetto Case realizzato dopo il terremoto dell'Aquila. Qui sono state realizzate 185 piattaforme isolate alla base, vedete questa è la piattaforma in calcestruzzo, queste sono le colonne molto robuste, sono quasi dei pulvini, qui sono stati collocati isolatori di tipo friction pendulum. Ora è una realizzazione in parte sperimentale perché poi su queste piattaforme sono state realizzate costruzioni in legno, costruzioni in acciaio, costruzioni in calcestruzzo prefabbricato, credo che siano monitorate, lo scopo è vedere che cosa succederà con il prossimo terremoto. Qui alla progettazione c'è un consorzio, il consorzio del progetto Case coordinate dal professor Calvi dell'Eusentre. Questo progetto è un progetto molto bello, è il centro direzionale della protezione civile dell'Umbria, è stato realizzato nel 2011 con la progettazione del professor Parducci. La cosa interessante qui è il design architettonico che come vedete evidenzia fortemente, valorizza la collocazione dei dispositivi, credo che forse dovremmo andare in questa direzione, cioè l'isolamento fa parte del progetto anche architettonico. Bene, ci sono, vado avanti perché sennò non arrivo a concludere, quindi sono altri esempi che potete guardare poi nelle slide. Perché ci piacciono isolatori e dissipatori? Innanzitutto garantiscono un maggiore livello di sicurezza strutturale rispetto a un intervento tradizionale, ci consentono di puntare a danno zero o comunque a un danno molto molto limitato, cosa che l'intervento tradizionale in capacity design non può fare, lasciano grande libertà nella progettazione architettonica della sovrastruttura, hanno costi competitivi, se noi li utilizziamo nell'esistente o con costruzioni che hanno dei contenuti particolarmente di valore, il risparmio, in realtà il vantaggio economico è anche molto maggiore. Quindi hanno il migliore rapporto costi-benefici, creano comunità resilienti perché non hanno danno dopo il terremoto e inoltre ci permettono di essere sostenibili perché eliminiamo la produzione di rifiuti speciali, la produzione di materie prime e la produzione di CO2 legati ai processi di ricostruzioni nelle zone del cratere. Quindi andiamo a lavorare per i punti, gli obiettivi 11, 12 e 13 dell'agenda ONU 2030 dello sviluppo sostenibile. La ricerca in questo momento si sta concentrando sulla ricerca di soluzioni low cost per edifici piccoli, cioè per l'edilizia diffusa, protezione di beni di valore come possono essere opere d'arte piuttosto che attrezzature e facilities costose e infine l'isolamento 3D, cioè l'isolamento anche nei confronti delle azioni verticali che è molto importante quando voi siete vicino alla faglia perché le costruzioni vicino alla faglia subiscono accelerazioni verticali molto forti e hanno bisogno di una protezione sismica anche nella direzione verticale. C'è un'associazione internazionale che si chiama Sisi, vi ho riportato al website per chi fosse interessato e diciamo ha lo scopo di divulgare e di informare le notizie relative a questo settore. Un po' di cenni di quello che stiamo facendo all'Università di Ferrara. Allora, negli ultimi anni abbiamo lavorato allo sviluppo di questa connessione dissipativa che serve per l'adeguamento sismico delle costruzioni prefabbricate in CA e CAP, alla caratteristica di avere comportamento bidirezionale coperta da brevetto e questa sarà poi la base della fattura probabilmente di una start-up innovativa incubata dentro un IFE. L'ultima sfida è quella di trovare un modo di proteggere sismicamente queste meravigliose statue del parco archeologico di Pompei, sono le statue della collezione Oplontis. Benché esistano già metodi di isolamento alla base di queste statue, qui il problema è che sono appoggiate su un meraviglioso mosaico e quindi noi dovremo magicamente farle diventare sismo resistenti senza collegarci al terreno. Con questo il mio gruppo di ricerca, scusate, un'ultima cosa, il mio gruppo di ricerca si chiama UASG e in primavera io tengo un corso all'Università di Ferrara sulla progettazione avanzata con isolatori e dissipatori, chi fosse interessato di approfondire questo argomento è benvenuto, grazie. Giovanni Castellati, tu che hai fatto questo gioco con le parole, capire le parole più utilizzate che emergono più nell'ambito delle attività di ricerca applicative, la parola dell'isolamento e dissipamento quanto esce e secondo te perché esce in questo modo? Allora, purtroppo la risposta è abbastanza negativa, nel senso che tra i vari temi il tema dell'isolamento o della dissipazione non è mai stato trattato e forse, adesso qui però mi rivolgo al nostro relatore, è una questione legata anche alle tipologie strutturali, quindi la domanda è quanto mi verrebbe da fare, non so se qualcuno di voi se l'è fatta, quanto è possibile all'interno di un edificio, tipologia strutturale, terribile, se sulle tipologie strutturali tipo murature esistenti, sottoesistenti, che tipo di approccio, se questo approccio funziona, quanto? Grazie per la domanda, sposta flash, ogni tipologia costruttiva ha il suo sistema di intervento, quindi direi che una parte forse negli aggregati edilizzi, dove interveniamo più con interventi di tipo locale, soprattutto negli storici, qualsiasi edificio isolato di qualsiasi tipo, ma anche spesso anche monumenti, possono essere assolutamente trattati con questa tecnica, però è poco conosciuta, per questo noi lavoriamo molto anche sulla divulgazione. Probabilmente c'è anche una questione economica. No, i costi sono paragonabili e i tassoni sono molto maggiori, è un questione culturale, io credo che sia una cultura culturale, perché l'inserimento di dispositivi meccanici dentro una costruzione civile all'ingegnere civile risulta un po' strana, perché è un campo che in qualche modo si interfaccia con la meccanica, andiamo a trattare la struttura come un veicolo, come una macchina, no? Nella macchina abbiamo gli ammortizzatori, abbiamo i freni a disco, bene, bisogna metterli anche sugli edifici, questo concetto non è nella cultura, nel patrimonio culturale dell'ingegnere civile, ma voglio dire, ci arriverà, perché effettivamente sono soluzioni straordinarie. Grazie professoressa, Eugenia a disposizione, ovviamente. Grazie, grazie a voi. Chi parla dopo di lei parla dello stesso argomento, quindi io metto in conto capitale allo stesso tempo, quindi la taglierò un pelino prima, però volevo anche dire, intanto che prepara le slide, un'osservazione, che questi corsi di cui ha parlato la professoressa Aprile sono corsi interessanti e ho la sensazione che uno dei problemi della nostra professione sia dovuto al fatto che nel tempo si è reso obbligatori i crediti, portando alla realizzazione di tanti corsi e corsetti che poco servono, togliendo valore a quelli che sono invece da sempre i corsi di ingegneria più interessanti, che sono quelli che approfondiscono queste tecniche. Forse prima o poi dovremmo tornare a porci la domanda se i crediti obbligatori sono davvero una soluzione. Ora abbiamo l'ingegnere PCD Gabriella Castellano della FICMEC che ci parlerà del miglioramento sismico di edifici esistenti con isolatori e dissipatori sismici, quindi siamo ancora nello stesso ambito, come dicevo avrà qualche minuto in meno perché ci siamo portati, ma l'argomento rimane con lo stesso tempo a disposizione. Buongiorno a tutti e grazie al professor Di Tommaso per l'invito. Questa è la classificazione di tutti i dispositivi antisismici presenti sul mercato europeo e italiano, la classificazione secondo la norma europea citata dalla professoressa Aprile, però faccio un piccolo appunto. La versione cogente non è quella del 2018 ma è quella del 2009. 2018 non è mai stata pubblicata e quindi non ha valore legale ai fini della marcatura C, è solo un documento che per motivi troppo complicati da spiegare qui non è entrato e mai entrerà in vigore. Quindi dispositivi antisismici sono tanti, in Italia l'esperienza è cominciata negli anni 70, anzi le applicazioni sono state ben prima che negli Stati Uniti e in Giappone, praticamente in contemporanea con Nuova Zelanda, oggi non ho il tempo di parlare anche della storia italiana delle applicazioni, mi soffermo sulle applicazioni più recenti e soprattutto sugli edifici esistenti. Questo è il tema che mi ha assegnato il professor Di Tommaso di puntare su come si può intervenire sugli edifici esistenti che tra l'altro ci colleghiamo alla domanda precedente. Per quanto riguarda l'isolamento sismico in senso stretto che vuol dire soprattutto aumento del periodo, quindi filtrare l'energia del terremoto come avete visto velocemente nello spettro fatto vedere dalla professoressa Aprile, i più diffusi sul mercato italiano attualmente, cioè non in passato, attualmente sono isolatori elastomerici in gomma dissipativa e gli isolatori scorrevoli a pendolo scorrevole a doppia superficie curva. Ovviamente poche applicazioni ci sono anche per gli altri, ma i più diffusi sono questi, quindi io vi faccio vedere essenzialmente questi. Per quanto riguarda gli interventi nell'esistente con isolamento sismico, poi nella seconda parte faccio vedere qualcosa anche con la dissipazione. C'erano degli esempi pochi negli edifici, molti di più nei ponti, anche prima del terremoto dell'Aquila, però il grosso degli ingegneri al di fuori del nucleo ristretto di chi di queste cose si è occupato da sempre, ne è venuto a conoscenza nella ricostruzione del terremoto dell'Aquila, perché come sapete c'erano molti edifici inagibili, nonostante pesantemente inagibili, nonostante danni strutturali in realtà per la maggior parte fossero molto lievi, erano per lo più danni non strutturali e giustamente lo Stato italiano che ha finanziato la ricostruzione di quel, così come di tutti gli altri terremoti, pretendeva un miglioramento sismico almeno al 60%, cioè non era accettata la sola riparazione, tranne che nel caso di danni molto lievi. Questo è uno degli esempi, quindi edificio dichiarato pesantemente inagibile, con pochi danni strutturali, essenzialmente di martellamento e qualche nodo, invece pesanti danni non strutturali, soprattutto le tamponature dei primi due piani, la scelta è stata di isolare sismicamente. Prima cosa che noterete poi anche in applicazioni più grandi, se ho degli edifici giuntati per poterli isolare devo collegarli, altrimenti non posso realizzare giunti di dimensioni sufficienti per garantire i grandi spostamenti dell'edificio. Non ho tempo di entrare in staglio, ma giusto per farvi vedere una tipica applicazione, che è questa la soluzione più economica di intervenire, appunto andando a inserire gli isolatori in una struttura in cemento armato, adesso parliamo di cemento armato, vado a, queste sono le varie fasi, ringrosso il pilastro nella parte sottostante, l'isolatore invece andrà in questa parte terminale subito sotto il solaio del primo piano dell'interrato, se c'è un interrato conviene sempre metterli nell'interrato, altrimenti nel piano terra, e vado a realizzare ancoraggi per gli isolatori che andrò a inserire, quindi questi fori sono i fori di attesa per gli ancoraggi, soprattutto per poter tagliare il pilastro e mettere l'isolatore, io devo trasferire il carico che tramite il pilastro viene dalla sovrastruttura. Ci sono varie tecniche per farlo, ma in ogni caso uso martinetti idraulici e uno dei sistemi è quello di trasferire il carico attraverso queste mensole opportunamente collegate attraverso barre di dimensioni importanti, quindi il carico dalla sovrastruttura mi va metà da una parte e metà dall'altra, poi attraverso il martinetto passa alla sottostruttura, in questo caso con altre mensole, quando il carico è trasferito io posso tagliare questo pezzo di pilastro perché ormai è scarico, quindi lo taglio di solito con filo o sega diamantata e a quel punto inserisco l'isolatore, ovviamente l'inghissaggio dell'isolatore ha varie fasi, bisogna stare molto attenti ai cedimenti, ci vogliono imprese specializzate, ma lo si può fare anche con tempi molto, i tempi molto rapidi, questo è il nuovo piano di isolamento, quindi la struttura è disaccoppiata, la sovrastruttura è disaccoppiata dalla sottostruttura e questo è il piano di isolamento, in questo caso lo possiamo chiamare anche il piano di scivolamento perché sono dispositivi a superficie curva, attritivi a superficie curva. Questa è un'altra applicazione nella ricostruzione dell'Aquila, edificio molto grande, anzi tanti edifici da collegare assieme e arriviamo a 100 metri, quindi anche nell'adeguamento sismico si può realizzare un intervento su superfici grandi. In questo caso l'intervento è leggermente diverso perché gli isolatori sono stati messi direttamente sopra le fondazioni perché sopra non c'era spazio, insomma motivi di solito sono geometrici, quelli che portano a una scelta piuttosto che l'altra e quindi qui gli isolatori sono in fondazione e si deve realizzare un nuovo solaio al di sopra quindi degli isolatori, un solaio metallico per motivi soprattutto di ridurre le altezze, quindi la procedura ovviamente di taglio del pilastro è simile, quindi attraverso questa struttura di carpenteria metallica e i martinetti idraulici vado a trasferire il carico, in questo caso direttamente alla fondazione mentre prima era il pilastro, quindi posso tagliare il pilastro e inserire l'isolatore, quindi più o meno cambiano i dettagli ma la procedura di inserimento è sempre abbastanza simile. Un caso più recente, questo è un ottimo caso di sisma bonus fatto per bene, quindi non per un miglioramento non quantificato ma per un miglioramento che è arrivato a più del 70%, ci sono stati tre interventi nello stesso quartiere all'Aquila che era tra l'altro un quartiere molto dannoggiato ma questi edifici con il terremoto del 2009 non erano stati migliorati perché avevano subito danni lievi e quindi non erano obbligati a fare il miglioramento però hanno colto l'occasione, i proprietari hanno colto l'occasione del super bonus per fare un vero miglioramento. La cosa interessante è che tutti questi edifici erano in uso, chiedo all'ingegner Castellazzi come faccio a togliere questa barra perché scopre il titolo? Quindi mentre nelle ricostruzioni post-sisma all'Aquila poi 2016, qualcosina, in Emilia un po' meno tutte le applicazioni recenti in corso e tutti i cantieri che apriranno quest'anno con i fondi PNRR di interventi in edifici esistenti sono tutti in edifici in uso. Uno dei grandi vantaggi dell'isolamento sismico è che si può fare senza spostare le funzioni dell'edificio che siano residenziali come in questo caso ospedaliere o scolastiche perché vado a intervenire al di sotto della struttura utilizzata ovviamente in questi edifici i garage e i posti auto per il tempo dei lavori non potevano essere utilizzati però gli appartamenti erano pienamente in uso e dicevo in questi interventi si è arrivati a più del 70% di miglioramento sismico senza assolutamente toccare la sovrastruttura cioè solo grazie all'isolamento sismico. Questo è un intervento particolare, è più costoso del precedente però è interessante perché va praticamente a realizzare un nuovo piano. Gli isolatori in questo caso non vanno sopra la fondazione o sotto il primo solaio ma vanno addirittura sotto la fondazione esistente perché in questo caso c'era una fondazione su pali, su monopali e quindi l'isolatore va in testa al palo e si crea un altro piano che in questo caso è un piano tecnico ma in alcune zone potrebbe anche avere un valore commerciale per esempio per diventare un altro piano garage. Sappiamo nelle nostre grandi città i posti auto scarseggiano e qui vedete alcune foto dell'intervento, vado molto velocemente perché non c'è il tempo. Una particolarità che vi faccio notare qui che si vede bene è quando gli edifici sono in uso e soprattutto se si usano isolatori elastomerici ma anche quando interveniamo in edifici in muratura per vari motivi ma soprattutto un po' per compensare la rigidezza assiale degli isolatori elastomerici che è alta ma magari non altissima ma soprattutto per evitare del tutto cedimenti differenziali si va a mettere in carico l'isolatore ed eventualmente anche la nuova fondazione se c'è una nuova fondazione attraverso dei martinetti piatti a perdere. Quindi qui sotto c'è un martinetto piatto che poi è stato inghissato nel baggiolo quindi attraverso non olio ma una resina si va a mettere in pressione il martinetto si precarica il tutto e poi viene inghissato quindi per questo martinetto piatto a perdere. Quindi c'è tanta tecnologia ma ci sono imprese specializzate che fanno tutte queste installazioni particolari e si riesce appunto intervenendo localmente a raggiungere livelli di prestazione sismica decisamente superiori a quelli ottenibili con altre tecnologie come diceva la professoressa Aprile. Questo è un esempio di un cantiere in corso in un edificio in muratura sono ormai parecchie le applicazioni in edifici in muratura ed effettivamente sono poco conosciute. Non sono così tante come negli edifici in cemento armato perché ovviamente è più complicato però ce ne sono si può fare. Nel caso delle strutture monumentali il grande vantaggio è che io non tocco la struttura esistente perché vado a mettere tutto sotto creo una nuova fondazione o un nuovo terreno se vogliamo che fa da filtro tra terremoto e struttura e si va a realizzare proprio una doppia sottofondazione sfruttando la tecnologia che si conosce benissimo nelle strutture monumentali della sottofondazione con la particolarità che in questo caso ce ne sono due di sottofondazione una che è la vera sottofondazione un'altra è un secondo livello diciamo di travi che mi passano dal carico lineare della parete in muratura al carico puntuale sugli isolatori e vado ovviamente a creare un nuovo piano tecnico anche perché le normative ci obbligano a rendere ispezionabili gli isolatori quindi qui ovviamente si fa per fattori qui vedete un isolatore già installato la nuova fondazione la trave superiore che mi ripartisce il carico della struttura muraria appunto agli isolatori e poi al terreno questo è il primo intervento all'aquila molto pubblicizzato quindi quello forse più noto di interventi in strutture in muratura in realtà precedentemente ce n'era un altro in veneto in una villa privata e poco pubblicizzato quindi meno meno noto di questo quindi anche qui vedete il martinetto piatto questa era una struttura che è comunque considerata storica anche se non è così antica come il centro storico dell'aquila una struttura delle primi del novecento comunque vincolata perché espressione di un neogotico poco presente in italia e mi piace citare perché siamo vicini è una delle diverse applicazioni ormai sono molte di protezione sismica di oggetti d'arte in questo caso non siamo dentro un museo siamo fuori ma ovviamente vedete il danno che hanno creato che avrebbero potuto creare anche di peggio anche vittime per il collasso a seguito cioè durante il terremoto di questi pesantissimi pinnacoli in questo caso con progettazione del gruppo di ricerca del professor tralli sono stati installati quelli che chiamiamo isolart pendulum che sono una versione degli isolatori appunto a scorrimento a doppia superficie curva un po specializzata per appunto isolare piccoli oggetti di piccola relativamente piccola massa questa non è così piccola poi abbiamo tanti studi fatti anche su statue su busti quindi oggetti più più leggeri anche applicazioni e sono a metà del mio tempo passiamo al secondo argomento che è quello della dissipazione di energia diciamo nel passato le applicazioni più frequenti di utilizzo di dissipatori in edifici esistenti perché oggi parliamo solo di edifici è quello dell'utilizzo di dissipatori brad quindi isteretici oppure viscosi in sistemi di controvento quindi adatti per le strutture intelaiate di qualsiasi tipo metalliche o in cemento armato tra l'altro i brad sono la nostra specializzazione introdotta nel 2004 in Italia dei Buckling Restrain Braces che all'estero sono usati in strutture in acciaio quindi soggetti a grandi spostamenti e noi le abbiamo specializzate per l'utilizzo proprio negli edifici esistenti in cemento armato che sono la maggioranza degli edifici vulnerabili che abbiamo in Italia o in sud Europa recentemente invece sta prendendo piede all'utilizzo esterno in esoscheletri veri e propri ma in realtà grazie all'uso dei dissipatori si riesce a risparmiare tantissima carpenteria metallica quindi non è più un esoscheletro che abbraccia tutta la struttura ma si riesce a realizzare degli interventi molto puntuali e quindi anche molto più economici e con pochi elementi strutturali che potremmo chiamare dei contrafforti in questo caso in un edificio anche abbastanza grande con soli sei setti che fanno da contrafforti con interposti dissipatori tra la struttura da migliorare o adeguare quella struttura esistente che qui vedete a destra e la struttura nuova che ovviamente deve essere il più rigida possibile per fare da contrafforti si riescono ad ottenere benefici enormi con molta meno struttura nuova perché grazie alla dissipazione io non vado a irrigidire ma vado a dissipare quindi riduco moltissimo le forze comprese le forze in fondazione quindi sui pali che devono ovviamente tenere le forze orizzontali in queste strutture e la professoressa aprile vi ha già fatto vedere i grafici dei nostri brad quindi vado alla prima applicazione di utilizzo di questi sistemi in una struttura esistente del 2005 la prima in assoluto del 2004 su una struttura nuova che era una sorta di adeguamento un corso d'opera per la nuova normativa e stiamo parlando di tanti anni fa cioè non sono più strutture non sono più interventi innovativi ce ne sono tanti i motivi per cui non sono così noti ne possiamo parlare poi in pausa pranzo perché qui non c'è il tempo un'applicazione più recente ovviamente questi dispositivi si possono inserire all'interno all'esterno quando sono all'esterno bisogna far molta più attenzione alle verifiche locali perché qui sto dando un'eccentricità al nodo quindi bisogna stare attenti però all'esterno mi servono anche a regolarizzare la struttura questa era una struttura ad u con delle deficienze in questa zona grazie all'inserimento di questo nuovo telaio controventato in realtà si è regolarizzata la struttura quindi oltre che dissipare ho anche migliorato molto il comportamento globale della struttura di questi dispositivi ce ne sono moltissimi migliaia installati in scuole un po' meno in altre strutture per il semplice fatto che a seguito della tragedia di San Giuliano i finanziamenti pubblici sono andati più alle scuole che in altre strutture ma ovviamente dal punto di vista della tecnologia è abbastanza indifferente anche se quando si può è sempre più efficace l'isolamento sismico se non si può sono o se in certi casi non è economico sono una validissima alternativa una piccola aggiunta un dispositivo che non è dissipativo ma che può essere validamente impiegato in aggiunta a sistemi dissipativi è il cosiddetto dispositivo di vincolo dinamico dispositivo di shock transmit e in questo caso utilizzato questa è una scuola anche abbastanza piccola un'applicazione recente in provincia di belluno divisa in due corpi solito problema martellamento il giunto è solo un giunto termico non un giunto sismico e quindi insufficiente quali sono le alternative ora doppiare le strutture aprire il giunto con costi e tempi ovviamente importanti oppure collegare le due strutture pur mantenendo la capacità deformativa termica di queste strutture quindi non bloccare il rigidendo e creando poi equazioni o altri problemi semplicemente io vado a collegare le strutture attraverso questi dispositivi che dall'esterno sembrano dissipatori viscosi perché sono sempre sistemi cilindro pistone con un fluido all'interno ma hanno un circuito idraulico completamente diverso cioè sono fatti per lasciare muovere il cilindro il pistone per basse velocità e invece si bloccano quando la velocità è superiore a un certo limite detta velocità di attivazione qui li vedete ortogonali al giunto più vantaggiosamente spesso si utilizzano in direzione a 45 gradi rispetto alla linea di giunto così riescono a lavorare in entrambe le direzioni e ovvio che da soli non bastano per il miglioramento sismico meno che la sismicità non sia molto bassa in zone a bassissima sismicità come può essere Milano o anche Brescia abbiamo diverse applicazioni in cui solo con l'utilizzo degli shock transmitter che collegano diverse porzioni di struttura riesco a regolarizzarla e quindi a usare meglio gli elementi strutturali già presenti per esempio i setti e allora può essere sufficiente in zone a sismicità più alta come questa di solito sono associati ad altre tecnologie tipicamente quella dei dissipatori in questo caso controventi dissipativi in parte interna in parte esterna che sono molto vantaggiosi i pochi minuti che mi rimangono perché mi ha tolto però 10 minuti i dissipatori viscosi non lineari questo è il ciclo che avete già visto prima molto utilizzati nel miglioramento sismico di capannoni industriali perché sfruttano non solo la deformazione al nodo come altri sistemi che agiscono sul nodo ma tutta la deformazione è di interpiano quindi quando ho più spostamento o anche più dissipazione con forze anche molto piccole e ovviamente anche altre strutture che assomigliano ai capannoni come per esempio questa palestra che è un'applicazione molto recente concludo con il concetto di torri dissipative che piace molto ai convittenti perché si agisce dall'esterno è qualcosa di simile ai contrafforti con dissipatori interposti in questo caso questo è un sistema brevettato in realtà non metto il dissipatore qui ma lo metto alla base di questa torre quindi la torre è collegata alla struttura incernierata alla base i dissipatori sono messi sugli spigoli come vedete in queste foto anche con un sistema di manovellismo che amplifica sia spostamento che dissipazione questa è un'applicazione di pochi anni fa a Sulmona su una struola molto grande adeguata sismicamente con 5 torri e pochi dispositivi sui giunti in questo caso non sono shock transmitter sono dissipatori perché il giunto era un po' più ampio quindi come dicevo prima per avere dissipazione ho bisogno di spostamento quindi dove ho un po' di capacità di spostamento in più posso mettere anche dissipatori anziché shock transmitter questa è un'altra applicazione ad Ancona e concludo dicendo che queste tecnologie sono ormai collaudate in tutto il mondo soprattutto in Giappone dove i terremoti forti sono più frequenti recentemente anche in Turchia e questo è un altro dei 12 ospedali isolati che erano nella zona epicentrale del sisma dell'anno scorso questo era vicino al secondo epicentro ed è rimasto perfettamente funzionante a differenza di tanti altri che hanno dovuto evacuare i pazienti perché pesantemente danneggiati grazie sono a disposizione per maggiori informazioni Giovanni torno Giovanni su uno dei temi che ho trattato prima che è il tema della durabilità allora io la domanda che mi pongo la faccio a tempo e magari se ne può parlare in questi ultimi minuti che abbiamo sempre dibattito prima del prossimo intervento tema della durabilità in tempo di pace cioè quando questi isolatori in sostanza non vengono utilizzati e invece dopo qualche terremoto allora ovviamente bisogna dopo il terremoto dipende dalla tecnologia nel senso che la maggior parte dei dispositivi non sono assolutamente danneggiati dai terremoti gli unici che in parte possono essere danneggiati sono quelli stereotici cioè basati sulla plasticizzazione dell'acciaio tutti gli altri non devono assolutamente essere cambiati dopo il terremoto per quanto riguarda la vita utile si fanno prove di invecchiamento accelerato quindi è equivalente a quella della struttura in ogni caso è importante ed è anche richiesto dalle normative che siano ispezionabili perché in caso di qualche anomalia si deve correggere l'anomalia purtroppo l'esperienza dei terremoti compreso quello in Turchia ma già dal primissimo del 94 a nord partridge e anche ispezioni fatte negli edifici isolati mostrano che i problemi non sono mai negli isolatori ma sono negli giunti cioè l'edificio isolato deve potersi muovere se non ha lo spazio attorno per muoversi dappertutto perché trova un ostacolo allora quell'ostacolo pregiudica un po' o tanto dipende di che ostacolo stiamo parlando quindi il problema della durabilità degli isolatori è un falso problema il vero problema è quello che tutti quelli che vanno in cantiere tutti quelli che usano l'edificio devono essere consapevoli che il giunto non va modificato durante la vita della struttura deve essere realizzato bene all'inizio e soprattutto deve essere mantenuto quindi il vero problema è questo è stupido perché è una cosa semplice però bisogna che lo sappiano tutti perché altrimenti se il giunto non è ben realizzato perché magari il direttore lavori non ha più guardato le finiture o perché dopo la fine del cantiere qualcuno l'ha modificato allora può non funzionare vuoi aggiungere qualcosa Giovanni? no, ma sì su quest'ultimo tema il tema un po' anche della contaminazione di quello che può succedere nella vita utile della struttura che ad esempio negli edifici industriali guardando un po' l'esperienza del 2012 i famosi collegamenti tra pannelli, pilastri non hanno funzionato perché erano contaminati da impiantistica, collegamenti aggiunti che non erano stati pianificati quindi chi usava il fabbricato non era consapevole di quello che doveva essere il funzionamento della struttura in quelle foto che ho visto potrebbe esserci lo stesso rischio negli edifici industriali cioè quelli sono molto più grandi molto più visibili e funzionano diversamente no, di solito appunto tanto più negli edifici industriali sono anche viste però il problema della manutenzione degli edifici secondo me è un grande problema culturale quindi mi ricollego anche a quello che diceva la professoressa Aprile la manutenzione in Italia perché all'estero non c'è la stessa cosa viene vista come una cosa che è necessaria per una macchina ma non per un edificio invece anche l'edificio ha bisogno di manutenzione in tutte le sue parti anche il calcestrutto ha i suoi problemi la muratura tutti i materiali possono essere soggetti a degrado o qualsiasi invecchiamento o qualsiasi cosa sia quindi dobbiamo modificare questa cultura grazie ingegnere grazie allora mentre viene sul podio per la sua relazione l'ingegnere Andrea Vittorio Pollini ingegnere con PCD della SismoCell volevo anche spesso mi capita con il professor Borri di parlare del tema delle verifiche dei dispositivi di quello che riguardano le strutture che riguardano le tecnologie per l'antisismica e il professore che poi avrà un intervento dopo purtroppo non potrò modellarlo io dice sempre noi abbiamo il terremoto è diciamo la verifica più importante che ci può essere che ci dice se le nostre presupposte le nostre idee sono corrette ma al tempo stesso anche lo strumento per portare avanti la ricerca della tecnologia e in tal senso volevo ricordare per il tema degli isolamenti sismici che nel 1909 quando ci fu dopo il terremoto di Messina la società cooperativa Lombarda di lavori pubblici di Milano bandì un concorso per la definizione dei sistemi strutturali antisismici e furono presentate 245 proposte ma due arrivarono in finale la prima la prima era relativa a diciamo valutazioni ingegneristiche tradizionali che poi è stata quella che ha vinto ma la seconda era del professor Arturo Danusso che poi è stato professore Politecnico Torino che propose di mettere sotto gli edifici dei strati di sabbia o dei rulli proprio per quindi direi che a tutti gli effetti il concetto di isolamento sismico è un concetto che nasce in Italia bene parola a Andrea Vittorio Pollini di SismoCel ci parlerà di dispositivi antisismici per la riduzione del rischio sismico delle strutture industriali prefabbricate bene buongiorno a tutti grazie dell'invito intanto io vorrei mostrarvi come le tecnologie soprattutto i principi che sono stati illustrati anche negli interventi precedenti possano essere con relativa facilità applicati anche nell'ambito di interventi di riduzione del rischio sismico di edifici industriali prefabbricati solitamente esistenti portandovi ovviamente il punto di vista della nostra azienda specializzata nella fornitura di sistemi e dispositivi antisismici che quindi quotidianamente da oltre dieci anni affronta con tecnici e imprese casi reali su cui intervenire e valutare l'applicazione di questo tipo di tecnologie quindi con un taglio sicuramente più applicativo ma anche approfondendo alcuni aspetti del calcolo e del dimensionamento non mi dilungo sulle vulnerabilità e sulle problematiche principali che questa tipologia strutturale in assenza di una progettazione antisismica adeguata ha mostrato nei recenti eventi sismici qui una foto del terremoto in Emilia che ricordiamo abbastanza bene abbiamo vissuto quasi sulla nostra pelle più recenti terremoti non ultimo quello della Turchia dell'anno scorso ha mostrato una vulnerabilità simile per questo tipo di strutture quando non progettate con criteri antisismici da un lato ovviamente c'è bisogno di risolvere la principale vulnerabilità di questa tipologia di edifici senza vincoli efficaci quindi di collegare gli elementi di copertura qui vedete una foto di un nodo trave pilastroco la trave che ha perso l'appoggio rispetto alla trave dall'altro c'è la necessità nel pensare all'intervento complessivamente di limitare i sforzi che possono essere trasferiti tra questi elementi in quanto a loro volta pilastri fondazioni e tutto il resto della struttura non è stata progettata per prendersi queste azioni spesso progettata con poco più di quello che vedete nella parte destra della slide quindi carichi verticali azioni del vento a volte un po' di carroponte fino a qualche anno fa il modo di risolvere queste vulnerabilità innanzitutto locali ma che ovviamente avevano un'influenza sul comportamento complessivo di questi telai era quello di intervenire bloccando rigidamente con carpenteria metallica i nodi di copertura questa è la soluzione tradizionale che abbiamo visto in tante situazioni che ha la conseguenza negativa di trasferire integralmente gli sforzi delle masse della copertura alla base dei pilastri richiedendo quindi nel caso di voler raggiungere un obiettivo di performance strutturale interventi sicuramente non facili da compiere in un'azienda che la nostra situazione quotidiana è ben diversa dalla foto che vedete qua dietro di un pannone completamente vuoto ma immaginatevi macchinari personale e scappalature un'attività in corso quindi spesso richiedendo interventi di rinforzo degli altri elementi che sono difficili da portare avanti in un ambito in un ambito aziendale di qui già nel 2012 tra l'altro in collaborazione con l'Università di Bologna con un gruppo di ricerca che per anni ho fatto parte abbiamo sviluppato delle soluzioni delle tecnologie con l'idea di andare a creare delle connessioni dissipative in corrispondenza dei nodi di copertura sfruttando anche la nostra specializzazione e le competenze nell'utilizzo e nella produzione di materiali compositi in fibra di carbonio in cui si concentrerà un po' la mia presentazione visto anche il contesto di oggi con l'idea appunto di creare dei collegamenti che fossero in grado di da un lato sicuramente collegare gli elementi di copertura ma anche garantendogli una capacità di assorbimento dell'energia con questo funzionamento che poi vedremo meglio di vincolo a fusibile dissipativo il concetto è abbastanza simile qui vedete dei risultati di prove sperimentali che abbiamo fatto presso il laboratorio dell'Università di Bologna e anche su altre tipologie di sistemi l'idea di fondo è sempre quella di avere un dispositivo che da un lato collega ma lo fa appunto garantendo una capacità dissipativa di cui qui vedete un legame caratteristico elastoplastico dal punto di vista sperimentale che adesso approfondisco meglio quando le fasi in cui questi dispositivi entrano in funzione al crescere idealmente dell'azione sismica con cui vengono sollecitati quindi abbiamo una prima fase sostanzialmente dove i dispositivi in connessione si comportano come dei vincoli a cerniera sostanzialmente quindi c'è l'effetto diffusibile del dispositivo che ha una certa soglia di forza che ovviamente deve essere tarata in base al sito alle masse in gioco e incomincia a entrare nella fase plastica con una deformazione plastica a cui si accompagna ovviamente una dissipazione di energia e subito dopo o insieme poi vedremo meglio quella che abbiamo individuato come fase 3 una fase quasi di disconnessione proprio per effetto della deformazione plastica che questi dispositivi subiscono di disconnessione degli elementi strutturali di copertura tra loro garantendo ovviamente uno spostamento controllato visto che la disponibilità di appoggio di questi elementi è variabile ma dell'ordine di qualche centimetro o decina di centimetri meglio dire nel caso di travi pilastri comunque garantendo un chiamiamolo fine corsa finale tale per cui oltre a un certo valore di deformazione plastica e di spostamento relativo consentito tra gli elementi questi dispositivi garantiscono un vincolo ultimo l'idea appunto è di avere rispetto a connessioni con vincoli a cerniera quindi in carpenteria metallica la soluzione più tradizionale che abbiamo visto prima che in tanti casi viene realizzata una possibilità di ridurre le sollecitazioni trasferite al pilastro e come vedete dal video in cui ovviamente gli spostamenti sono amplificati nella parte destra con dispositivi dissipativi spostamenti in sommità del pilastro sicuramente più ridotti quindi ovviamente anche meno danno alla struttura stessa entrando un po' più nel dettaglio non troppo dei criteri di dimensionamento e di calcolo vorremmo farvi vedere come in realtà ci sono diversi livelli di tenere in considerazione gli effetti di questi dispositivi mostrerò un po' di risultati di diversa analisi alcuni ecoscopi di ricerca altri più relativi a casi pratici per evidenziare alcuni aspetti del funzionamento degli effetti che l'introduzione di questi dispositivi ha all'interno di una struttura perché ci sono strutture sicuramente più adatte altrimenti a essere integrate e equipaggiate con questo tipo di sistemi qui vedete alcune impostazioni dei modelli di calcolo che solitamente vengono utilizzati per l'analisi diciamo che un primo effetto è sicuramente quello di considerare dispositivi di questo genere come un limitatore di carico quindi l'effetto diffusibile sostanzialmente e questo solitamente viene inquadrato nell'ambito di interventi locali che spesso per strutture industriali con cui abbiamo a fare è un obiettivo una tipologia di intervento molto molto frequente poi un secondo livello ovviamente soprattutto nel caso ci sia un obiettivo di sicurezza sismica in percentuale rispetto a quella richiesta dell'automativa per un edificio nuovo da raggiungere per la struttura e allora lì può aver senso far considerazioni più approfondite ma soprattutto quantificare in termini non solo qualitativi l'effetto di questi dispositivi tenendo in considerazione il loro legame elastroplastico che avete visto prima un primo effetto qui abbiamo voluto analizzare le configurazioni più frequenti dei capanoni industriali quindi nella parte sinistra una configurazione di una singola campata quindi il classico capanone industriale monocampata nella parte destra una doppia campata in entrambi i casi il primo effetto che ovviamente può essere verificato con le analisi sempre più o meno confrontando questo sarà così in tutte le slide anche successive la configurazione con telai con vincoli a cerniera in corrispondenza dei nodi e dispositivi dissipativi in corrispondenza dei nodi stessi in rosso vedete questi sono risultati di un'analisi di time history col taglio la base che si riduce rispetto alla situazione con connessioni rigide la stessa riduzione si ha in termini di spostamento quello che prima nel video vedevamo in termini qualitativi qui su casi concreti lo andiamo a verificare ossia la riduzione in entrambi i casi di spostamento in sommità del pilastro a cui ovviamente viene associato un minore livello di danno siamo andati a verificare anche la distribuzione di quanto lavorano i dispositivi sostanzialmente all'interno di una pianta della deformazione plastica che i dispositivi subiscono e in entrambi le configurazioni i telai centrali come probabilmente ci si poteva aspettare sono quelli in cui i dispositivi lavorano di più in campo in campo plastico un ultimo effetto che è proprio legato all'effetto diffusibile dissipativo del dispositivo è che è stato oggetto anche di lavori scientifici pubblicati il fatto di analizzare al variare dell'intensità dell'azione sismica qui abbiamo scelto di amplificare il fattore di scala degli accelerogrammi che erano stati utilizzati per l'analisi ci sia un aumento della riduzione delle sollecitazioni alla base del pilastro grazie ai dispositivi dette in altri termini la curva grigia è il riferimento con i valori medi dei risultati dei time history di telai con vincoli a cerniera vediamo che fino a una certa quella rossa con i dispositivi fino a un certo valore di intensità sismica qui rappresentato col fattore di scala di accelerogrammi le due curve che si sovrappongono a un certo punto incomincia a essere visibile l'effetto dei dispositivi che taglia i picchi dell'accelerazione sismica come poi riportato nell'immagine di destra si tratta di edifici che hanno coperture spesso molto diverse tra loro quando parlo di coperture parlo di quello che solitamente identifichiamo con i tegoli quindi tegoli a pi greco molto frequenti nelle nostre zone a lari a volte a y a seconda della tipologia del prefabbricato della zona una tipologia la troviamo più frequentemente di alto siamo andati quindi a vedere come l'effetto di avere masse diverse in copertura sia da un punto di vista della geometria dell'elemento stesso sia da un punto di vista anche della configurazione geometrica del capannone quindi luci e interassi poteva variare sugli effetti delle connessioni dissipative nei nodi qui per semplicità abbiamo distinto tra casi nella parte di sinistra dell'immagine coperture chiamiamole leggere e coperture pesanti dove il leggero o pesante è dato dal rapporto sostanzialmente tra il peso della copertura stessa degli elementi di copertura che competono in termini di area di influenza alla trave rispetto al peso proprio della trave stessa e quello che sono andati a verificare erano gli effetti in termini in questo caso di riduzione del taglio alla base per effetto di questa diversa tipologia e distribuzione di masse in copertura e confrontando i dati ad esempio a parità di tipologia di geometria dell'elemento prefabbricato quindi quello che vedete ad esempio nel caso di Tegoli pi greco tra copertura leggera e copertura pesante a parità di taglia del dispositivo più la copertura è pesante più c'è un beneficio e anche questo diciamo è coerente con l'effetto di taglio dei picchi dell'accelerazione sismica dei dispositivi dei dispositivi stessi un altro effetto se vogliamo secondario ma non meno importante che abbiamo verificato che si evidenzia anche dalle simulazioni sempre con analisi time history che sono riportate nelle parti destra della slide è quello della riduzione nel caso di collegamenti tra la trave e il tegolo delle sollecitazioni di conseguenza anche delle deformazioni fuori dal piano delle travi principali che sicuramente non sono nate per prendersi delle forze fuori dal piano quanto molto snelle spesso con luci molto importanti e quindi anche un secondo effetto di questa connessione dissipativa è quello di ridurre questi fenomeni anche qui valutando la deformazione plastica dei dispositivi su una pianta siamo andati a vedere le posizioni dove i dispositivi diciamo lavorano di più quindi dove gli spostamenti sono maggiori e in questo caso nel caso di una configurazione monocampata si concentrano nei telai nei nodi negli allineamenti di estremità solitamente questi risultati di analisi non lineari sono spesso utilizzati anche nella pratica corrente dei casi più quotidiani per effettuare analisi dinamiche lineari con un fattore di struttura che in qualche modo tiene conto dei benefici degli effetti che abbiamo visto prima nei dispositivi qui abbiamo riportato ad esempio quello che già le linee guida Ray Lewis del 2012 citavano con collegamenti dissipativi l'utilità di introdurre vincoli che oltre a una certa soglia siano in grado di dissipare energia e sostanzialmente l'effetto che se vogliamo linearizzarlo o semplificarlo è quello di un abbattimento di uno spettro e una strada può essere appunto quella dell'utilizzo di un fattore di struttura che tenga conto di questo effetto di questa capacità dissipativa ci sono diverse modalità e procedure anche semplificate per poter calcolare un fattore di struttura equivalente qui ne abbiamo riportata una che sostanzialmente a partire da alcuni dati semplificati sulla struttura stessa e sulle caratteristiche dei dispositivi partendo dal fattore di struttura attribuito in assenza di dispositivi calcola un fattore di struttura in grado di tener conto dei benefici dissipativi un altro un altro aspetto che vorrei stilinare importante da quello che ci si è resi conto nella quotidianità delle casistiche reali che ci vengono sottoposte che affrontiamo insieme ai tecnici è l'effetto dell'irregolarità che spesso queste strutture hanno che noi ci immaginiamo soprattutto nei modelli di calcolo molto regolari perché modelliamo i telai in fila uno dopo l'altro nei fatti è molto lontano dalla realtà per diversi motivi sia irregolarità non strutturali che dopo vedremo ma anche perché queste aziende spesso sono il risultato della somma di diversi corpi perché l'azienda cresceva nel tempo corpi fatti in epoche diverse con tipologie costruttive diverse rigidezze diverse il classico esempio che qui abbiamo riportato ad esempio la palazzina uffici sul fronte dell'edificio che ha una dinamica completamente diversa rispetto al capannone magari molto deformabile che c'è dietro non è un caso che ad esempio nel sisma del 2012 in questo capannone mi sembra sia mirandola il danno principale la perdita d'appoggio che era la stessa foto che vi faccio vedere nella prima slide si sia concentrato esattamente nella zona in questa zona qui questo è uno zoom retrostante gli uffici quindi dove sicuramente la dinamica dei due corpi ha influito vi mostro qui un caso reale di un capannone dove è una classica situazione in presenza di diverse irregolarità questi qui in arancione sono ad esempio tamponimenti in blocchi quindi con una rigidezza nel piano importante ma lo stesso discorso spesso potrebbe essere fatto per pannelli di tamponamento all'interno dei dei telai esterni e e questo il fatto di modellare o meno questi elementi chiamiamoli non strutturali o comunque che non competono sulla stessa fa tutta la differenza del mondo sia in termini di spostamenti sia in termini di modi di vibrare di periodo qui vediamo nella parte sopra il modello dove sono modellate le irregolarità che vedevate prima vediamo ad esempio come il periodo nel caso di un modello con irregolarità e senza si diciamo riduca notevolmente nel caso di irregolarità ovviamente minore il periodo vuol dire maggiore accelerazione stesso effetto si ha nelle sollecitazioni nella distribuzione delle sollecitazioni in corrispondenza delle travi e dei tegoli arrivando spesso a quasi ordini di grandezza diversi ecco questi effetti delle irregolarità che in qualche modo riducono il periodo e in generale dell'irrigidimento delle strutture è un effetto che si cerca il più possibile di evitare perché vuol dire spostarsi verso la parte sinistra dello spettro quindi con una maggiore con una maggiore accelerazione e questo può essere un effetto parzialmente ridotto dall'introduzione di dispositivi che hanno quindi lo scopo quindi di tagliare queste eventuali concentrazioni di sollecitazioni dovute a irregolarità anche magari impiantistiche o non strutturali e addirittura qui vi ha riportato un modello invece molto semplificato tra le situazioni di modelli irregolari comunque l'effetto è quello di irregolarizzare le sollecitazioni alla base dei pilastri mi sposto verso la parte più applicativa diciamo di esempi di esempi di intervento che non è meno importante perché già da questa panoramica vedete comunque come volta per volta parte il dispositivo in sé ci sia da pensare a sistemi di ancoraggio diversi di carpenteria di fianco di lato a seconda delle armature interne e qui è molto importante sicuramente avere una conoscenza a proposito di quello che si diceva prima anche dell'elemento più fabbricato stesso qui lavora volta per volta di adattarsi alla situazione sia appunto in termini geometrici quindi per rendere un ancoraggio efficace agli elementi e questo anche sfruttando alcuni accorgimenti nella possibilità di installazione del dispositivo ad esempio spesso su superfici come questo dentino della trave che spesso sono dell'ordine di 10-15 cm quindi studiare dispositivi nel tempo abbiamo studiato dispositivi sempre più compatte che siano in grado anche di agevolare il montaggio fino a risolvere situazioni che diciamo non sono così sono abbastanza frequenti come quelle di impianti canaline che passano all'interno di aziende quindi sicuramente situazioni non banali dove la flessibilità degli interventi e diciamo dell'installazione dei dispositivi è un valore fondamentale che fa la differenza tra il fatto di montarli o meno non neanche sul loro funzionamento faccio un breve cenno anche a quello che idealmente può essere considerato il terzo capitolo delle vulnerabilità principali che hanno mostrato questi edifici se non progettati con criteri antisismici che è quello dei pannelli di tamponamento sempre citando le linee guida Ray Lewis del 2012 venivano suggerite ad esempio l'introduzione di cavi cavetti con lo scopo di evitarne il ribaltamento evidenziando tra gli svantaggi il fatto che la sollecitazione in questi sistemi antiribaltamento potesse avere ad esempio un carattere impulsivo l'idea allora anche in questo caso è quello di intervenire con dei sistemi che abbiano la capacità di smorzare di tagliare questo picco di forza dovuto al distacco al ribaltamento del pannello verso l'esterno sia nel caso di pannelli verticali che orizzontali con un comportamento molto simile analogo a quello dei dispositivi che avete visto prima in copertura in un certo senso evitare quell'effetto di colpo di frusta che il professor Di Tommaso faceva vedere nella catena di San Petronio e qui idealmente il concetto è sempre lo stesso cioè nel caso di ribaltamento avere un qualcosa che faccia diciamo da fine corso dissipativo e non dia un impulso alla struttura diversa sono le attività di ricerca che abbiamo in corso sia a livello sperimentale sia a carattere numerico tra queste voglio mostrarvi un risultato di una di queste attività che ha prodotto una procedura semplificata per una valutazione speditiva delle strutture prefabbricate esistenti dove facendo dei confronti in termini energetici tra una struttura esistente e una struttura di riferimento ideale che è quella in grado di prendersi il 100% dell'azione sismica per normativa a partire da alcuni macro parametri molto semplici è possibile avere una prima idea una prima stima del livello di sicurezza dell'edificio questo da punto di vista ingegneristico può essere considerato troppo semplice in realtà nell'ambito del settore industriale in cui quotidianamente ci troviamo di fronte è molto importante avere anche uno strumento semplice per dare al committente all'imprenditore all'ernsivio di turno una percezione di quello che magari noi sappiamo molto bene ma che dall'altra parte non è così evidente diciamo che tutto questo che avete visto ad oggi incentrato soprattutto sull'ambito industriale in realtà può essere accomunato dalla struttura per fabbricare in sé quindi tante applicazioni ci troviamo a farle in centri commerciali molto spesso sicuramente con una grossa accelerata dovuta anche ai fondi del PNRR in ambito scolastico di palestre di scuole e vi faccio vedere chiudo con un'applicazione un po' particolare anche per noi che è stata fatta 7-8 anni fa in cui questi dispositivi sono stati utilizzati per l'isolamento sismico della statua di Michelangelo il museo non so come sia stato gestito e l'idea è sempre la stessa cioè di avere per quanto possa sembrare un mondo molto diverso da quelli che parliamo i prefabbricati l'idea di avere la possibilità di dissipare energia quando ho dello spostamento e piuttosto che fare un collegamento rigido fare un collegamento dissipativo che evitava in questo caso un problema di ribaltamento della statua che aveva un baricentro molto alto mi fermo qui vi ringrazio dell'attenzione Giovanni vuoi fare tu qualche osservazione o una domanda al nostro relatore sì grazie io infatti tornerei sul tema che mi era venuto in mente prima sulle questioni delle connessioni perché tutte queste strutture esistenti tutte queste strutture esistenti nascono con delle connessioni tra gli elementi idealizzati in un certo modo ad esempio trave pilastro trave pannello e mi chiedevo come doveva essere trasformata la struttura esistente per poter far funzionare al meglio un sistema di questo tipo devono essere eliminate devono essere trasformate lasciate ad esempio lo spinotto famoso spinotto che cercavano tutti nel 2012 tra trave e pilastro anche quello come può essere considerato cioè se presente se non presente e l'altra questione che poi è citata alla fine sui pannelli cioè che effetti questi dispositivi di ritardo della caduta di avviso della caduta dei pannelli è un'aggiunta rispetto alle connessioni all'Alfen standard che ha una certa escursione e qui potrebbe essere modificata esattamente allora provo a unire le due le due risposte perché in parte diciamo sono simili allora è ovvio che nel caso della presenza di sistemi preesistenti di collegamento come vediamo ad esempio qui questo spinotto non è uno spinotto qui in realtà sono delle squadrette però l'effetto può essere lo stesso non dimensionato per l'azione sismica ovviamente però presente diciamo finiva correttamente spesso utilizzato anche solo per il centraggio degli elementi prefabbricati o nel caso dei pannelli la presenza di pannelli un collegamento c'è per forza perché se no non starebbero su ovviamente a differenza di connessioni che invece nella stragrande maggioranza dei casi sono legate solo all'attrito quindi sono elementi semplicemente appoggiati come appunto abbiamo potuto vedere bisogna distinguere ovviamente il caso specifico perché in un caso ad esempio in quello dei pannelli i sistemi che ho fatto vedere prima così come qualsiasi intervento che può essere previsto funzionano sostanzialmente dopo che il collegamento il precedente si è rotto quindi lì il tema è capire a che punto qual è il punto in cui iniziano ad attivarsi nel caso più frequente a cui ci troviamo di fronte di connessioni per attrito in realtà la risposta che mi verrebbe da darti è che la struttura deve essere modificata il meno possibile perché è un po' come se la vulnerabilità principale di queste strutture cioè quindi la possibilità di scorrimento che vediamo ad esempio nella parte destra di questo slide abbiamo sfruttato questa possibilità e quello che nei fatti è avvenuto per in quel punto andare a dissipare energia ovviamente a seconda dei casi bisogna sia l'applicazione sia anche la distribuzione delle connessioni dissipative all'interno della struttura valutarla per dove ci sono spostamenti perché è lì che ha senso inserire questo tipo di dispositivi il prossimo relatore un applauso allora intanto che l'ingegnere Alessandro Martelli sia comoda volevo fare non avrò tempo per trattarlo perché come vedete i tempi sono molto stretti però siccome è stato citato sia dal professore Di Tommaso sia da Pollini così come adesso anche da Castellazzi il tema del colpo di frusta credo che sia un tema che prima o poi andrebbe affrontato cioè nella meccanica il GERC è un tema che quanto mai conosciuto utilizzato nell'ingegneria civile il tema dell'accelerazione seconda è poco trattato è poco approfondito quindi invito il professore Di Tommaso magari a creare qualcosa che si occupi anche un evento che si occupi anche di questo allora Alessandro il professore Alessandro Martelli l'ingegnero Alessandro Martelli ha bisogno di poche presentazioni perché è protagonista da tanti anni dell'ingegneria sismica italiana qui è presente come vicepresidente del comitato sismico di mitigazione di Gansu Cina ma ha avuto tanti ruoli proviene dal mondo del nucleare dove ovviamente il tema della sicurezza del rischio è quanto mai importante e oggi ci parlerà della protezione con moderne tecnologie di scuole ed ospedali esistenti di nuova costruzione grazie ingegner Dari grazie ad Angelo per l'organizzazione di questo convegno in cui mi ha convolto comincio con un paio di note su relazioni precedenti molto brevemente prima di tutto vorrei ricordare ma ingegnero lo sa perché ho pubblicato un articolo proprio su questo argomento che quando parliamo di isolamento sismico non parliamo di una tecnologia nuova perché Plinio il vecchio ne parla sul tempio di Diana e peso isolato sismicamente con strati di lana e velle di carbone e poi noi in Italia abbiamo non so temporalmente come stanno le cose ma abbiamo il tempio di Hera a Pestum che sta su un leggero strato di sabbia che pare sia stato messo proprio per dare l'isolamento sismico uno strato di sabbia grosso da fastidio ma leggero un po' anche da anche se non è il concetto di isolamento sismico attuale l'ulteriore commento che vorrei fare è il seguente io tra le mie varie attività ho fatto i collaudatori in corso d'opera di numerose strutture tra l'altro in parte citate dall'amica Alessandra e sono considerato un po' un rompiscatole come collaudatore perché sulla domanda che lei ingegneria ha fatto io impongo sempre la verifica dopo eventi calamitosi che non sono solo il terremoto dello stato degli isolatori nonché la verifica e mi pare ogni tre anni proprio sperimentale nel senso che ne cavi tre e li metti in prova questo fatto è un personaggio che un sindaco che non non ha ottemperato il mio collaudo ha ricevuto una denuncia penale da parte mia ecco adesso vado con la mia presentazione parlo di scuole ospedali un tema a cui sono particolarmente legato dicendo ribadendo anzitutto che come disse ormai nel 99 perché noi queste cose le diciamo da decenni se qualcuno ci ascoltasse magari sarebbe bene la prevenzione comporta perché non la non la fanno i governanti di tanti paesi compresi il nostro perché bisogna spendere i soldi subito e i risultati dopo molto tempo aggiungo che alcuni governanti per questo motivo dicono ma chi me lo fa fare di beccarmi io l'incavolatura della gente per poi far avere il risultato positivo agli altri il risultato non è solo in termini di la cosa più importante di un numero di morti molto inferiore e anche in termini di danni economici molto inferiori per cui spendo oggi per risparmiare domani purtroppo l'italiano medio vive nell'oggi ha dimenticato la storia l'ho scritto questo qualcuno si è incavolato e non pensa al futuro questa purtroppo è la situazione allora torniamo alle scuole poi prego quando sono tre minuti dal termine mi mi allora già noi abbiamo avuto dopo il terremoto gravissimi danni a tante tipologie di strutture limitandosi ad alcune scuole ed ospedali la già citata scuola di san giuliano di puglia che conosco bene perché arrivai che tiravano fuori ancora i bambini dalle macerie c'era il sindaco piangente che aveva perso una figlia e mi disse devo andare in galera perché è colpa mia in realtà lui era un medico del 118 sarà fidato dei suoi tecnici poi l'aquila la casa dello studente dove è morta la figlia di una mia amica non è una scuola però è un edificio che ospitava molti studenti poi abbiamo questo pronto soccorso in basso a destra che penso si riferisca se non mi ricordo male al terremoto in Abruzzo insomma se è un pronto soccorso questo e a destra abbiamo avuto da poco l'anniversario del terremoto di Haiti del 2010 che fece strage di ospedali venendo a casa nostra di nuovo dopo San Giuliano guardiamo per gli ospedali cosa è successo ad Amatrice nel 2016 quando ci fu il terremoto proprio detto di Amatrice del 24 agosto insomma l'ospedale si era un po' lesionato ma era tuttora in piedi dopo il terremoto di Norge del 30 ottobre era ridotto in macerie assoluti ecco questa Alessandra l'hai già fatta vedere no forse questa no è un'altra oh sì l'hai fatta vedere tu questa è la prima applicazione come è già stato fatto vedere dalla professoressa Aprile dell'isolamento sismico a scuole nel mondo e isolatori un po' farlocchi perché erano vecchia generazione poi sostituiti come ha detto la professoressa Aprile nel 2007 con isolatori ad alto smoltamento è chiaro che gli isolatori originari sono tutti un po' imberlati se si può dire in bolognese perché non hanno rinforzi in acciaio e la merina in acciaio all'interno mentre gli isolatori attuali fortunatamente i signori che progettavano la scuola previdero la sostituibilità che è una delle cose che bisogna entrare in testa a chi fa progettazione di strutture con l'isolamento sismico no ho fatto del casino ecco non ci limitiamo al cemento armato ma come già stato detto con un po' di difficoltà l'isolamento sismico è applicabile anche per la muratura siamo non in Giappone siamo in Armenia in Armenia grazie al professor Melkubian che è un illuminato molto ben collegato con l'università di Berkeley però la prima scuola che mi risulti in muratura fu adeguata sismicchiamente nel 2002 ed è praticamente facendo cosa inserendo un cordolo in cemento armato creando spazio per gli isolatori è chiaro questo non era considerato un monumento di interesse storico-artistico se no almeno la sovrintendenza italiana non te l'avrebbe fatto fare però si può anche agire in sottofondazione se uno vuole adesso ci sono pure i brevetti per farlo però in Armenia sono molto avanti in Armenia nonostante lo consideriamo un paese sotto sviluppato c'è un'ottima scuola di ingegneria e sismo altri esempi di applicazioni non recenti all'isolamento che risalgono ai primi anni 2000 le troviamo un po' dappertutto per esempio cito la Martinica nella Martinica è obbligatorio isolare sismicamente le scuole lo è dall'inizio degli anni 2000 poi abbiamo in Messico tutta una serie di scuole qui abbiamo la dottoressa che è l'ingegnere Castellano c'è l'ospedale La Luz in Portogale Lisbona che è stato isolato sismicamente dalla FIP industriale poi abbiamo ovviamente i giapponesi con ospedali abbiamo i cileni altro paese molto avanti nell'ingegneria sismica con il nuovo ospedale meditar la reina che resse al terremoto di Maule non mi ricordo esattamente in che anno senza alcun danno in Italia in Italia tra le scuole e con le scuole abbiamo cominciato a potenza all'università della Basilicata facoltà di agricoltura e matematica e agricoltura con 5 edifici con isolamento sismico vedete in alto a sinistra un isolatore protetto dal fuoco altra cosa che bisogna fare se metti gli isolatori in un locale dove tu puoi avere le macchine o fare delle attività che possono dar luogo ad incendi questo è il primo edificio ad uso scolastico 1995 quindi non stiamo parlando di tecnologie che facciamo da qualche mese in basso la prima in basso a sinistra il centro medico della Marina Militare è il primo edificio ad uso di all'ero fatto dal professore Antonucci cioè progettato dal professore Antonucci di Ancona nel 1993 mentre il primo vero e proprio ospedale è a Udine credo sia della FIP industriale il sistema realizzato nel 2005 ecco la nuova scuola la scuola di San Giuliano di Puglia che è già stata fatta vedere la professoressa Aprile in alto vedete a sinistra l'immagine che ha già fatto vedere la professoressa Aprile a destra un po' più dall'alto come era ridotta la scuola grazie a un'accelerata sopraelevazione senza collaudo e la scuola e devo dire un po' ci ho messo la mia manina anch'io è stata la seconda struttura scolastica isolata nuova isolata sismicamente in Italia ci ho messo la mano anch'io perché il progetto iniziale era convenzionale allora Bertolaso era il capo della protezione civile lo convinsi e lui intelligentemente mi diede rete e poi l'ho collaudato insieme all'ingegnere Pasquale di Molisano è una struttura un po' faraonica perché c'è anche un centro universitario rispetto a quella precedente ma almeno è sicura dal punto di vista sismico ne abbiamo ormai tante ata di scuole decine di scuole con l'isolamento sismico cominciando proprio dagli anni 2000 qui faccio una panoramica rapida Guorone sul Sannio Boiano Molte in Toscana i toscani sono stati molto svelti nel prevedere nuove applicazioni dell'isolamento sismico a scuole Gallicamo Boiano io ho collaudato Mulazzo poi c'è il liceo Romita di Campobasso che farò vedere è anche una scuola Emiliano Romagnola fatta prima del terremoto del 2012 grazie a un sindaco intelligente ecco questa è la scuola di Marsabotto quella che dicevo fatta nel 2010 il terremoto è stato nel 2012 durante la costruzione con gli isolatori in una fondazione qui la vedete un po' ultimata vado via rapido per non portare via tempo ecco vado sul liceo Romita perché è interessante il liceo scientifico Romita di Campobasso era stato costruito quando il Molise non era ancora classificato sismicamente poi quando fu classificato in zona 2 c'era qualche problemetto e ci fecero fare a noi come Enea delle prove sul calcestruzzo e risultò di pessima qualità per cui proponemmo la demolizione e ricostruzione madonna non se ne fece niente finché non arrivò il remoto del 2009 dopo il quale demolirono due edifici almeno uno non so se anche il secondo è stato ricostruito con l'isolamento sismico qui vedete il calcestruzzo per chi è un po' esperto del settore che tipo di risultati davano le prove sul calcestruzzo questo è il liceo durante la costruzione in mezzo in alto vedete un paio di isolatori durante le prove d'accettazione degli isolatori stessi in basso a sinistra già installati e una vista dell'edificio in costruzione poi questo era isolamento sismico abbiamo anche scuole con la dissipazione di energia a cominciare da quelli volute dal professor Dolce e dai suoi collaboratori all'inizio degli anni 2000 sempre a potenza ed intorni con dissipatori lastoplastici in quei controventi dissipativi che vedete colorati che possono anche non piacere in effetti girano davanti alle finestre però data a parte dove li vuoi mettere insomma quindi li vedete anche in alto a destra forse più carino ecco in mezzo è stata fatta vedere già la gentile fermi di Fabriano che ha dei dissipatori invece viscoelastici e in basso abbiamo l'università delle marche con dissipatori di instabilità impedita della FIP industriale che è stata fatta un po' dopo l'edificio di Fabriano allora abbiamo diverse conferme di efficacia dei sistemi di isolamento sismico in diversi paesi a diverse tipologie di strutture mi limito le scuole e gli ospedali come il tema a me ha segnato la prima grande verifica fu nel 1994 durante il terremoto di Northridge di magnitudo 6 e 7 a Los Angeles l'USC Hospital che era appena realizzato ci aveva di fianco un ospedale appena ristrutturato che si comportò malissimo invece l'USC Hospital ebbe un ottimo comportamento gli ospedali non basta che non crollino bisogna che siano operativi dopo il terremoto poi in basso a sinistra avete l'ospedale il nuovo ospedale militare che ho già menzionato durante il terremoto del Cile e a destra un ospedale il Christmas Women's Hospital di Canterbury durante l'omonimo terremoto se vi ricordate questo terremoto ce ne fu prima uno a largo di Canterbury poi dopo fu uno proprio sotto Canterbury questo ospedale fu una delle poche strutture a rimanere in piedi e operativi se veniamo in Italia un piccolo esempio ce l'abbiamo pure in Italia di buon comportamento è stata l'Aquila durante il terremoto del 2009 era in costruzione la nuova facoltà di lettere filosofia e scienze della formazione dell'università locale non era terminata però non ha avuto rigorosamente nessun danno ancora sull'efficacia direi questa è molto interessante parlando della Cina il terremoto di Lushan del 2013 che si verificò in parte dell'area già interessata dall'immenso terremoto di Vengshuan del 2008 ampiamente sottostimato fu di magnitudo 7 avevano previsto un'accelerazione di 0,15 hanno avuto 0,4 0,5 insomma ha avuto 196 morti non nelle migliaia di Vengshuan ma 65 miliardi di dollari di danni e 75% degli edifici crollati e in gran parte erano stati ricostruiti dopo il terremoto di Vengshuan ecco qui vedete c'era un ospedale fatto di tre corpi di fabbrica due fondati convenzionalmente uno isolato sismicamente eh era nuovo costruito dopo il terremoto di Vengshuan mi sbaglio sempre i tasti cosa devo fare qui per togliere questo il bagnese ah è sì scusate ecco a sinistra vedete come era ridotto uno dei due edifici convenzionali non crollato chi ci curi lì dentro e a destra vedete come era a parte la pianticella che può darsi che l'abbiamo tirato in piedi di nuovo come era l'ospedale isolato sismicamente fu l'unico ospedale della zona in grado di curare moltissimi feriti causati dal terremoto e poi abbiamo gli ultimi penso non so se la professoressa prima non l'ho visto bene ma ne ha mostrato uno ah no ecco ce n'erano dodici perché in Turchia stranamente l'isolamento sismico degli ospedali è obbligatorio cioè mentre tante strutture erano malamente costruite almeno quella infatti sono tutti rimasti tranquillamente in piedi senza danno come questo questo qua ecco io quello che non vorrei più vedere sono queste situazioni del pronto soccorso mostrato della scuola di San Giuliano mostrato dell'ospedale di Amatrice mostrato dell'ospedale di Haiti mostrato vorrei ricordare che in Cina durante il terremoto di Venzuana morirono 900 studenti nel crollo di una scuola noi abbiamo avuto quelli dicendo noi ne abbiamo avuti pochi 27 su 58 però morirono a San Giuliano di Puglia 27 su 58 qui 900 ecco allora con queste tecnologie se vogliamo veramente finalmente applicare abbiamo la possibilità di evitare questi morti e queste vittime allora io ricordo una cosa perché sono cose di cui parliamo da anni a Norum ero nel 2012 a una indagine conoscitiva sulla stata della sicurezza sismica in Italia alla Camera dei Deputati mi azzardai a dire ma lo misero verbale quello che è scritto lì che ciò che è vecchio è vecchio non può essere tutto considerato uguale al Colosseo soprattutto se si tratta di scuola che prima di tutto bisogna privilegiare la sicurezza rispetto ad altri aspetti allora vengo alle ultime cose quanto tempo ho? eh vabbè allora faccio allora in dicembre dell'anno scorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella persona del Vice Ministro Galeazzo Bigliani tanto per non far nomi mi chiese una proposta di legge su questi argomenti queste tecnologie cosa abbiamo fatto? ci abbiamo pensato un po' poi abbiamo pensato che se proponevamo tutto non facevano niente quindi abbiamo detto circoscriviamo il discorso a una prima fase specificando che si tratta solo di una prima fase ci sarebbero oltre gli altri edifici i pianti anche gli altri rischi naturali scuole ospedali considerandoli quelli che sono gli edifici strategici più importanti in Italia e questo non sto entrando nel dettaglio praticamente solo alcuni punti uno dei punti a rendere obbligatorio l'uso di isolamento sismico per nuove scuole i nuovi ospedali non puoi renderlo obbligatorio per quelle esistenti però devi incentivarlo quindi c'è scritto anche questo poi i comuni molti comuni affidano a Pinco Palla l'esame dei progetti no si devono dettare di strutture competenti non solo per l'isolamento ma per tutto il discorso e poi io vorrei vedere una cosa che si vede in tutti i paesi le strutture che hanno questi sistemi sono dotate di monitoraggio sismico perché se arriva un terremoto vogliamo sapere come la struttura si comporta in Italia ce ne sono pochissimi c'è il centro della protezione civile di Foligno è l'unica che mi risolta quella che è stata citata da professoressa l'hai citata tu non è vero Foligno il centro l'UFO quello che è chiamato l'UFO lo colo ha dato io lo so ecco e poi oltre a queste richieste di mettere a fare legiferare su questi temi abbiamo anche cercato di spiegare quelle che sono le implicazioni di carattere economico e di carattere tecnico allora intanto è una grandissima balla che l'isolamento sismico costa molto l'ha detto anche la professoressa di Aprile infatti io sono stato collaudatore di strutture dove si è addirittura risparmiato perché quello che devi spendere per il sistema di isolamento e per installarlo poi lo risparmi nella sovrastruttura questo se è nuova la costruzione se è esistente quello che spendi nel tagliare la fondazione lo risparmi in minori che tra l'altro delle volte danno proprio fastidio da altri punti di vista quindi il discorso della spesa non è vero non è vero chi dice una cosa del genere parla senza conoscere le cose e adesso arrivo alle conclusioni ci sono diversi libri mi faccio un po' di propaganda mi hanno già scritto nel 94 nel 2005 2008 con ventunesimo secolo scienza e tecnologia c'era anche il professor Braga che mi sembra di aver visto prima e no spinto e poi c'è un libro invece più recente c'è anche la Gabriella Castellano tra gli autori edito da Flaccovili di Torre del 2017 che è abbastanza recente grazie specifico che Isso è la battaglia di Isso dove Alessandro il Grande sconfisse i persiani alla testa di pochissimi atteniesi numero uno ovviamente io sono il numero uno e Marte sono io no adesso molto difficile fare una domanda specifica su una tematica così complessa una cosa che in effetti mi veniva anche dalle altre domande era proprio il tema del monitoraggio di di capire effettivamente come hanno risposto le strutture a valle degli eventi sismici perché ovviamente il monitoraggio diciamo l'invecchiamento quello continuo nella nella sua esperienza il fatto è mai capitato di poter effettivamente testare e quindi recepire allora c'è un test che il l'edificio della protezione civile che è stato menzionato dalla professoressa ha registrato col suo sistema di monitoraggio il terremoto di Norcia del 30 ottobre 2016 risultato spostamento differenziale tra la la base e la sommità nullo praticamente nullo si è comportato benissimo questo edificio altri edifici americani che erano che conosco che erano stati monitorati se non mi ricordo i numeri esattamente ma che erano sono monitorati sismicamente hanno registrato un medesimo comportamento lo stesso edificio del 94 quella scuola aveva il sistema di monitoraggio sismico in Giappone è obbligatorio il sistema di monitoraggio sismico non si capisce perché qui almeno per le strutture importanti non sia obbligatorio io lo non posso imporlo come collaboratore perché vado contro la legge perché la legge non lo prevede però lo suggerisco almeno ma nessuno lo fa mi spiace ma questa è la situazione grazie 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 ingegnere allora adesso abbiamo l'intervento di Formisano e il professore Antonio Formisano devo dire che mi sorprende il titolo perché se mi avessero chiesto di introdurre il professor Formisano per parlare di acciaio sarebbe stato normale ma sentire che ci parlerà della prospettiva di biodilizia e dell'uso di fibre vegetali ovviamente ci apre la curiosità se un attimo solo se poi l'intervento di Formisano ci lascerà il tempo magari avremo lo spazio per un paio di domande dal pubblico a cui non ho potuto dare spazio durante gli interventi infatti guardavo 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 eh buongiorno a tutti informazione intanto che Antonio inizia chiedo una cosa al professor di Tommaso la la parte il pranzo dove verrà la parte successiva di pausa ah ok va bene quindi c'è la parte di pranzo solo per la parte dei relatori dopo noi ricominceremo comunque puntualmente alle ore 15 prego Antonio si buongiorno innanzitutto a tutti quanti grazie all'ingegnere Dari per la presentazione quindi non ci parlerai di acciaio ma di fila naturale vi parlo di un altro argomento innanzitutto voglio ringraziare il professor Di Tommaso per il cortese invito che ha accettato molto volentieri per parlare di un argomento che non è non fa parte diciamo delle mie corde che di solito mi occupo di costruzioni metalliche di edifici in muratura in aggregato però è un qualcosa di complementare nel senso che vi mostrerò un po' di risultati della ricerca scientifica che portiamo avanti a Napoli da qualche anno su un argomento abbastanza innovativo di tendenza che è quello di sistemi possibilmente antisismici per il retrofit di edifici in muratura basati su fibre naturali abbiamo scritto insieme al professor Di Tommaso prospettive di bioedilizia che vediamo sempre più dal punto di vista energetico noi stiamo provando anche a fare qualche applicazione in campo sismico e l'abbiamo fatta attraverso una sperimentazione abbastanza diffusa per esigenze di tempo la riassumerò soltanto in due parti principali che la prima è basata sull'impiego di alcuni intonaci realizzati con differenti tipologie di fibre naturali che sono cocco, iuta e canapa poi visto che dalla sperimentazione avevamo trovato dei risultati poco confortanti per quanto riguarda la canapa abbiamo approfondito un po' lo studio l'abbiamo studiata analizzata sotto diversi aspetti e con diversi prodotti come introduzione sappiamo tutti che il nostro paese è chiaramente soggetto in maggior o minor misura rischio sismico la maggior parte degli edifici è stato costruito dal secondo dopo guerra fino alla fine degli anni 90 si trova in condizioni di degrado nella maggior parte dei casi è progettata anche per sopportare solo azioni verticali per cui sotto azioni sismiche notiamo poi i classici danneggiamenti che vediamo qua in figura per le strutture in cemento armato per quelle murature soprattutto meccanismi di primo modo caratterizzati essenzialmente dal ribaltamento delle pareti fuori dal piano quello che invece tocca un po' più la comunità è argomento maggiormente sensibile è quello è quello sicuramente dell'efficientamento energetico la professoressa Aprile parlava insomma di interventi diffusi sul nostro patrimonio senza però andare a curare quello che c'è sotto cioè la salute strutturale dei nostri edifici un'indagine Enea ci ha mostrato che circa il 50% degli edifici si trovano nelle due classi energetiche più basse e da qui quindi la nascita anche di tutti gli incentivi governativi dei vari ecobonus e superbonus che tanto hanno contraddistinto poi le operazioni sul settore edilizio degli ultimi anni in questo in quest'ottica sicuramente l'impiego di elementi derivanti da scarti di lavorazione agricole possono rappresentare un'ottima soluzione che sono chiaramente poco impattanti sull'ambiente sappiamo che il settore edilizio è tra i comparti maggiormente responsabili di quelli che sono i consumi energetici maggiori a livello mondiale e che il tema della sostenibilità è di grande importanza quindi dobbiamo orientarci in quella direzione le fibre naturali che hanno basso impatto ambientale hanno anche ottime resistenze ottime comportamenti al punto di vista meccanico possono rappresentare una soluzione a questo problema siamo partiti al fare un confronto tra fibre naturali organiche e inorganiche con le classiche fibre sintetiche quelle artificiali che chiaramente utilizziamo molto di più nella nostra pratica di utilizzo e l'abbiamo fatta attraverso dei confronti che vediamo qui in questa slide e ci siamo soffermati su delle fibre che hanno dal mio punto di vista al punto di vista meccanico caratteristiche leggermente superiori rispetto alle altre antagoniste queste sono l'aiuta la canapa e il cocco infatti per non guardare insomma annoiarci troppo in questa tabella abbiamo riportato un po' le principali caratteristiche fisico-meccaniche negli histogrammi che vedete in questa slide dove è analizzata la densità restenza a trazione modulo elastico allungamento a rottura le fibre naturali sono indicate in verde mentre quelle artificiali in arancione si nota che per le artificiali chiaramente ci sono in questi histogrammi dei picchi che sono rappresentati dal carbonio dall'acciaio dall'aramide e che chiaramente non sono confrontabili con quelle delle fibre naturali però esclusi questi casi un po' eccellenti possiamo dire che le fibre artificiali si possono le fibre naturali si possono sicuramente considerare come una possibile alternative al gran numero di fibre artificiali che abbiamo invece in commercio e ci siamo soffermati su queste tre fibre iuta, cocco e canapa un po' perché hanno costi ridotti molte delle quali sono facilmente reperibili parlo della canapa in campagna abbiamo molte coltivazioni di questa pianta sono riutilizzabili quindi il riciclo e il riuso è chiaramente consentito poi come vi dicevo prima hanno anche delle ottime proprietà dal punto di vista meccanico l'aiuta in termini di modulo elastico il cocco per l'allungamento e rottura e la canapa per la resistenza abbiamo messo a punto una campagna di sperimentazione presso il laboratorio del nostro dipartimento che è finalizzata a studiare a partire da un opportuno mix design quindi a capire nella miscela in effetti il quantitativo di fibre ma anche soprattutto la percentuale d'acqua da utilizzare siamo stati poi indirizzati a sviluppare questa campagna di sperimentazione per conoscere le principali caratteristiche fisiche e meccaniche di prodotti realizzati con fibre naturale l'oggetto della sperimentazione mi farò vedere è legata sostanzialmente a degli intonaci intonaci che sono stati realizzati o con fibre sparse in maniera random all'interno della miscela oppure questa è una sperimentazione più recente attraverso delle riti in fibra e canapa in modo da realizzare un classico sistema FRCM tanto è di moda nel campo del retrofit strutturale qua sono illustrate un po' le diverse prove che abbiamo fatto a parte la definizione del corretto mix design poi prove di resistenza meccanica a compressione a flessione ma anche di aderenza al supporto per la caratterizzazione fisica abbiamo prove di capillarità e microscopicità incombustibilità tenute sali e rilascio di sostanze sabità chimico-fisica fatto soltanto una sintesi delle principali prove ma non ve le illustrerò tutte la prima attività di cui voglio parlare è la realizzazione di intonaci a base calce con queste tre tipologie di fibre utilizzate separatamente all'interno dell'impasto abbiamo utilizzato un premiscelato di classe M15 e l'abbiamo additivato con queste fibre presenti con una lunghezza variabile dei 5-15 mm e con delle percentuali sostanzialmente variabili dallo 0,25 all'1,5% il primo problema è quello di definire il mix design quindi qual è la quantità d'acqua che dobbiamo utilizzare all'interno della nostra miscela il problema è abbastanza delicato perché l'acqua è quella che deve essere assorbita all'allegante per garantire le normali reazioni chimiche quella che viene poi assorbita dalle fibre i materiali le fibre naturali sono fortemente microscopiche poi c'è un quantitativo d'acqua necessario per rendere l'impasto lavorabile quindi la quantitativa d'acqua complessiva si divide in tre aliquote abbiamo studiato con queste tre diverse tipologie di fibre abbiamo visto che più o meno dopo 60 minuti quindi dopo un'ora le fibre erano completamente imbibite d'acqua e che quest'acqua rappresenta una liquida importante rispetto al peso proprio circa 4 volt questo indipendentemente dal tipo di fibra utilizzata poi abbiamo eseguito prove di lavorabilità quindi abbiamo realizzato questi getti all'interno di questo recipiente troncoconico poggiato su una tavola scosse abbiamo disarmato abbiamo applicato una serie di scosse a questa tavola a seguito delle quali questo elemento troncoconico si abbassa siamo andati a misurare lo spandimento il diametro di spandimento viene regolamentato dal produttore del premiscelato qua ad esempio abbiamo un range da 140 a 160 mm con una tolleranza di 10 mm siamo andati a valutare la consistenza la consistenza non deve essere né troppo secca né troppo fluida ma deve essere quella giusta che viene definita umida o plastica come la vediamo in questa slide abbiamo tirato fuori un po' i risultati con questa linea verde troviamo il limite di lavorabilità del campione tal quale quindi senza di tipo di fibre poi abbiamo analizzato come ovviamente all'aumentare della percentuale delle fibre che troviamo sull'asse orizzontale lo spandimento tende a diminuire come è logico che sia però vediamo che in tutti e tre i casi anche con una percentuale dell'1,5% la lavorabilità risulta essere comunque diciamo superiore a quello che è il limite minimo stabilito dalla normativa 1 questo significa che i sintonaci premiscelati additivati con queste fibre anche fino all'1,5% riescono a rispettare il limite di lavorabilità che ci dice la norma poi siamo passati al confezionamento di campioni per prove meccaniche questi sono i campioni confezionati per le prove a flessione sono a forma di parallelepipedo 40-40 160 mm questi sono i diversi campioni confezionati tutti questi campioni sono stati confrontati poi col materiale tal quale quindi privo di fibre di rinforzo queste sono le prove che abbiamo eseguito quindi la classica prova di flessione a tre punti col campione appoggiato su due cilindri caricato in mezzeria da un coltello verticale vi riassumo un po' i risultati in termini di tensione di rottura e spossamento ultimo a rottura qua vediamo in effetti come appaiono i vari provine al termine della prova si nota in effetti che le fibre hanno un differente diametro partiamo da 0,1 0,2 millimetri per le fibre di canapa fino a 0,4 0,5 millimetri per le fibre di cocco questo lo dobbiamo dire un dato di partenza che sostanzialmente è un po' differente però la lunghezza è sempre la stessa in termini di tensione di rottura la fa da padrone il cocco che ha un incremento circa il 17% la canapa è sostanzialmente stabile mentre l'aiuta ad alleggere diminuzioni in termini di allungamento a rottura il cocco si comporta bene ma l'aiuta si comporta meglio perché ha un incremento di allungamento ultimo di circa il 35% mentre la canapa ha delle leggere diminuzioni quello che abbiamo riscontrato poi è che rispetto al materiale di base grazie all'effetto di cucitura che le fibre esercino sulla matrice abbiamo un incremento importante dell'allungamento ultimo a rottura quindi un comportamento che non è duttile lo definiamo pseudo duttile ma sicuramente non è fragile come quello dei normali materiali lapidi abbiamo poi seguito le prove a compressione sulle due sulle due parti derivanti alla rottura di provine a flessione abbiamo portato sotto una pressa meccanica come vediamo in questo slide abbiamo seguito le prove di compressione ovviamente alla prova a compressione ci aspettavamo una riduzione delle performance rispetto al materiale base dovuto all'impiego di fibre che chiaramente hanno un peso specifico basso rispetto al campione nella sperimentazione abbiamo parlato di percentuali dallo 0,25 all'1,5% sono delle percentuali in peso non sono percentuali in volume ma in termini di volume possiamo dire che l'1,5% corrisponde più o meno a un 15% in volume quindi un quantitativo importante rispetto al volume complessivo del materiale utilizzato dalle prove di compressione si nota come tutte e tre i materiali abbiano tutte e tre le fibre vadano a determinare una riduzione di resistenza la riduzione meno significativa la si ha col cocco mentre soltanto nel caso dell'aiuto all'1% abbiamo dei valori che vediamo scendono al di sotto della classe M10 quindi possiamo dire che partendo da un M15 nonostante l'inserimento di queste fibre naturali all'interno della miscela riesciamo ad avere comunque dei prodotti che riescono ad esibire una resistenza a compressione che è superiore al limite di 5 megapascal che poi è un limite normativo minimo per l'impiego anche in zona sismica quindi questo sicuramente ci fa capire che possono avere delle potenzialità e delle potenziali applicazioni in zona sismica a queste tipologie di intonici al termine di questa prima fase sperimentale abbiamo visto che tra le fibre utilizzate sicuramente quelle in canapa esibivano le performance le prestazioni peggiori quindi abbiamo approfondito l'uso di questa tipologia di materiale per ulteriori sperimentazioni questa è un po' un'illustrazione di quella che è la pianta della canapa che è costituita da due parti la parte esterna che è la fibra questa qua la parte interna invece che è il canapolo entrambe sono caratterizzate essenzialmente da cellulose e limina e rappresentano le due componenti che utilizziamo di più nei diliti non mi sono soffermato su quelle che sono le diverse applicazioni dei prodotti già esistenti in commercio ma penso che tutti voi sappiate che pannelli infatti con canapa oppure blocchi ipertamponature e partizioni se ne utilizzano già tantissimi sono in commercio invece abbiamo cercato di capire come questo materiale potesse avere anche un ruolo nel settore dell'ingegneria strutturale questa è una sperimentazione fatta su blocchi di calce additivati con pozzolana e alleggeriti con steli di canapa abbiamo utilizzato un premiscelato a base calce di classe M5 abbiamo utilizzato la pozzolana in termini percentuali del 50% alla massa dell'intero composto e questi steli sono stati introdotti con percentuali dell'1,2,3% all'interno della miscela abbiamo sempre confrontato vedete questi sono un po' tutti i campioni sono stati prodotti 1%, 2%, 3% abbiamo sempre confrontati con tal quale quindi privo di rinforzo possiamo dire di steli in canapa questi sono i campioni confezionati sono stati disarmati dopo 3-7 giorni e fustati a compressione dopo 28 giorni i risultati come nel caso precedente rispetto al tal quale si vede visivamente che abbiamo delle riduzioni della restenza a compressione però andando poi a riassumere all'interno di questo fuso sostanzialmente i risultati che abbiamo ottenuto si vede che per percentuali fino all'1% mediamente i risultati ottenuti sono in linea con i valori di resistenza a compressione dell'aterizio forato sicuramente non si spingono oltre quindi verso blocchi che hanno chiaramente maggiori prestazioni però possiamo dire che fino all'1% di materiale additivato questi blocchi possono essere utilizzati come blocchi di tamponatura o di partizione all'interno dei nostri edifici oggi siamo spinti in questa sperimentazione andando a incrementare ulteriormente fino al 20% in peso la quantità di steli all'interno dell'impasto e abbiamo notato una cosa molto interessante innanzitutto che la riduzione di resistenza è molto piccola perché al 3% 1,59 N a millimero quadro scende da 1,25 abbiamo una riduzione di circa il 20% 25% quindi abbiamo un andamento sostanzialmente decrescente di questo tipo qua quindi significa che incrementando fortemente la percentuale di questo materiale all'interno del composto non abbiamo una grande riduzione di resistenza è un aspetto importante secondo aspetto è sulla modalità di rottura dei campioni quando il campione è privo di rinforzo si vede che al classico a classica forma bipirabinale dei materiali lapidi si vede però che quando andiamo ad incrementare la percentuale si viene a notare una riduzione dello stato fessurativo all'interno del campione questo perché gli steli vanno a creare una sorta di confinamento che praticamente consente poi al materiale di abbassarsi di schiacciarsi di allargarsi andando a ridurre lo stato fessurativo infatti si vede che al 20% il provino presenta solo delle lesioni superficiali si comporta come se fosse una gomma quindi si schiaccia e si allargza un'altra sperimentazione l'abbiamo fatta con tricce di canapa abbiamo utilizzato sempre una matrice inorganica di classe sia M15 che M5 in un caso abbiamo chiamato in tonaco sismo resistente quindi con la resistenza maggiore nell'altro caso in tonaco tradizionale quindi con una resistenza invece più bassa abbiamo utilizzato tre tipologie di fili sostanzialmente derivanti da queste trecce il primo l'abbiamo chiamato proprio filo a un diametro di 0,4 mm gli altri due invece con diametri di 1 mm e 2,2 mm li abbiamo chiamati spaghi e corde il primo è stato derivato da un tessuto a base canapa gli altri due invece da classici gomitoli che si trovano in commercio percentuali in peso dallo 0,25 se ricordo bene sì al 3% più o meno per tutti lunghezze tra 2 e 3 cm anche qua la prima prova è quella di imbibizione abbiamo visto che sostanzialmente dopo due ore dall'immersione le fibre erano già completamente satore d'acqua e successivamente abbiamo confezionato diversi campioni abbiamo sempre confrontati con quelli di partenza faccio vedere un po' i risultati delle prove fisiche in termini di spandimento sui due mix quello realizzato con l'intonaco più resistente e quello con l'intonaco meno resistente qua abbiamo individuato quali erano le percentuali limite di fibre di canapa da utilizzare in questo caso l'1% per il primo mix perché è il limite minimo fornito alla normativa 1 quindi in termini di lavorabilità nel secondo caso invece diamo chiaramente sempre un andamento decrescente all'aumentare le percentuali delle fibre abbiamo individuato l'1,5% come valore limite di fibre da poter utilizzare all'interno dell'impasto poi abbiamo confezionato 15 provini col primo mix e 30 provini col secondo mix per andare a eseguire le altre prove di flessione di compressione analogamente a quelle che vi ho mostrato precedentemente come nel caso precedente poi i vari provini sono sempre stati confrontati con i provini tal quali vediamo un po' i risultati questi sono risultati delle prove a flessione sul primo mix si nota che rispetto al materiale tal quale abbiamo sempre un incremento di resistenza variabile dal 30 al 70% sul secondo campione quindi sul mix 2 quello invece diciamo meno resistente dipende un po' dal tipo di prodotto utilizzato possiamo dire che gli elementi con diametro maggiore quelli che abbiamo chiamati corda non danno un incremento di resistenza mentre quelli con diametri più piccoli quelli che abbiamo chiamati spago forniscono un incremento di resistenza tra il 20 e il 35% quindi nel primo caso invece abbiamo utilizzato diametri ancora più piccoli 0,4 mm abbiamo avuto un incremento più rilevante quindi da questa sperimentazione possiamo dire che effettivamente quando utilizziamo la canapa più piccolo è il diametro del filo e migliore il comportamento in termini di resistenza flessionale a compressione purtroppo abbiamo sempre una riduzione di resistenza si può dire che col primo mix quindi sempre quando le fibre sono più piccole questa riduzione però è abbastanza limitata infatti il valore più basso è circa 12 rispetto al valore del provino tal quale che è circa 14 quindi abbiamo delle riduzioni dal 5 al 15% quindi non troppo forte le riduzioni più forti invece le abbiamo quando il diametro delle fibre aumenta e infatti abbiamo una riduzione percentuale dal 25 al 55% per il mix saluto l'ultima fase che è una fase un po' di analisi preliminare perché è soltanto una prova iniziale che noi abbiamo fatto ma sono in corso altre prove proprio oggi a Napoli stiamo facendo le prove di delaminazione su dei supporti in tufo oppure in tufo in mattoni pieni andando a utilizzare degli intonaci rinforzati con delle reti in fibre di canapa e questa fase iniziale è stata dettata essenzialmente dal setup della macchina di prova andando a valutare quello che può essere il comportamento di un piccolo muretto realizzato in mattoni pieni quando viene rinforzato con un intonaco appunto fibre rinforzato attraverso una rete in fibre di canapa quindi abbiamo utilizzato mattoni pieni come materiale di base legati con un intonaco a base cementizia abbiamo realizzato una rete di rinforzo che vi farò vedere nella prossima slide gli elementi hanno un diametro di 2,2 mm l'abbiamo collegata sui due lati con un intonaco sui due lati del muretto muretto in realtà piccolino 50x50 cm quindi non è neanche a norma però vi dico era solo una prova iniziale abbiamo collegata con dei connettori abbiamo eseguito una prova di compressione queste sono un po' le diverse fasi di realizzazione della prova vi dico che le reti le abbiamo assemblate noi abbiamo creato questo spartito con dei chiodini abbiamo fatto passare poi all'intersezione abbiamo messo l'attac in maniera molto artigianata poi abbiamo creato uno strato di primer sulla superficie sui due lati abbiamo incollato questa rete abbiamo completato con l'intonaco abbiamo messo dei connettori abbiamo eseguito delle prove abbiamo cappato la superficie superiore del muretto abbiamo monitorato con dei trattatori di spostamento abbiamo eseguito una prova a compressione sia sul muretto tradizio con l'intonaco tradizionale sia con questo intonaco fibroinforzato questo è il primo risultato che abbiamo ottenuto nella fase iniziale un po' di incrementi di rigidezza ce l'abbiamo anche se poi si va a perdere un po' come resistenza un piccolo incremento anche qua ce l'abbiamo rispetto al provino diciamo rinforzato con l'intonaco tradizionale per la duttilità invece ci siamo in realtà abbiamo fatto ci siamo fermati lo stesso olio di spostamento quindi non l'abbiamo valutato in questa fase iniziale però quello che ci interessa valutare è un po' il meccanismo di collasso che si è verificato ecco qua questo è l'intonaco tradizionale la muratura risulta molto lesionata sia all'interno dello spessore che nei giunti corrispondenze ai giunti dei mattoni l'intonaco è completamente distaccato crollato in quest'altro caso è vero che avevamo dei connettori però vi posso dire anche all'interno dello spessore murario del corpo murario le lesioni erano veramente i capillari così come all'intonaco ha esibito un buon comportamento perché poi è rimasto attaccato al supporto quindi non è venuto via fuori dal piano con questo io ho completato la mia presentazione vi ringrazio per l'attenzione Giovanni se vuoi fare tu qualche domanda perché poi ne vorrei anch'io un paio sposto flash esatto ottima bellissimo argomento perché il tema dei compositi naturali abbiamo cercato di spingerlo anche all'interno dell'ultima edizione di Murico e forse non eravamo ancora pronti quindi per la prossima sicuramente saremo pronti il tema è quello della durabilità che mi rimane sempre il pallino perché tutte le volte che vedo questi materiali mi chiedo sulla compatibilità sulla durabilità dei materiali tu ci hai citato all'inizio un po' le prove su l'ambiente salino forse durabilità o ho capito male no non abbiamo fatto se tu dovessi traguardare un po' più avanti cosa vedresti nel tema di durabilità grazie per la domanda perché è interessante noi in realtà abbiamo fatto qualcosa con l'invecchiamento artificiale di queste malte di queste signe sia singolarmente sia all'interno dei campioni di malta poi abbiamo eseguito le prove per capire il decadimento effetti delle caratteristiche meccaniche artificialmente per quel poco che abbiamo fatto non abbiamo trovato un grande decadimento però un esempio ce l'abbiamo in realtà su dei mattoni che abbiamo confezionato in questo caso non erano scarti agricoli ma erano scarti alimentari abbiamo fatto degli scarti di finotto un materiale che comunque va a potrefarsi col tempo e rilascia anche un cattivo odore abbiamo realizzato questi mattoncini perché abbiamo fatto una convenzione con un'azienda che faceva riciclo si interessava di materiale agricolo abbiamo fatto riciclo di questo materiale abbiamo confezionato questi mattoni abbiamo tenuti praticamente con un invecchiamento naturale per circa un anno e mezzo sposti anche all'intemperio questi mattoncini li abbiamo messi su un terrazzo hanno subito cambi le scorsioni di me l'abbiamo testati e abbiamo notato che non c'erano grandi differenze di comportamento il tema comunque è un tema caldo ovviamente questo tipo di sperimentazione adesso abbiamo in corso anche una tesi di dottorato su questo argomento è un qualcosa di cui ci occuperemo valutando non soltanto un invecchiamento artificiale ma soprattutto un invecchiamento naturale per capire in effetti quale può essere l'effetto nel corso del tempo delle prestazioni di questi materiali comunque è un argomento di grande importanza anche per capire poi gli effetti che possono andare a generare su quello che in caso di applicazioni sotto forma di intonci quindi se posso andare a creare delle muffe delle fluorescenze per il momento l'abbiamo scongiurato però è un argomento da approfondire sicuramente non ti chiederò se la canapa dava peggiori prestazioni perché andava in fumo ma questo è un altro impiego ma è più interessante per qualcuno però mi sarebbe piaciuto sapere se avete provato anche canapa la costanza della canapa cioè se questa canapa era costante delle prestazioni a cambiare magari dall'otto di fornitura noi abbiamo utilizzato canapa sativa che è la classica che si utilizza in edilizia abbiamo il nostro approvvigionamento è da diversi produttori agricoli della campania quindi diversi lotti diverse qualità purtroppo è un materiale naturale quindi come tutti i materiali naturali ha delle grandi incertezze abbiamo provato insomma ad appiattirle però anche dalle prove si vede che non c'è una costanza di comportamento c'è una tendenza però ovviamente avendo a che fare con materiale naturale abbiamo tutti i limiti del caso cui anche dal punto di vista poi normativo per andare a trovare delle leggi risulta essere chiaramente molto più semplice molto più difficile rispetto a materiali invece che sono diciamo molto più controllabili artificiali che sono quelli che poi abbiamo in commercio grazie Antonio allora prima di lasciarvi vorrei rilasciare in sospeso per la parte del pomeriggio alcuni temi secondo me sarà interessante sul par visto i relatori io non potrò essere presente perché ho una visita ma mi spiacerebbe che il professore visto i relatori che abbiamo potesse approfondirli il tema del com'era dovera credo che sia un tema interessantissimo il tema del com'era dovera così il tema della consapevolezza del rischio da parte delle sovrintendenze sulle opere e così come il tema della necessità di una maggiore connessione tra le conoscenze delle diverse specializzazioni infine mi piacerebbe che nel pomeriggio potesse trattare anche l'argomento dell'adeguatezza della normativa tecnica del 2018 al tema delle murature per il futuro lascio un compito al professore mi piacerebbe visto che le sue origini quelle di Antonio che si parlasse anche di Beneventane sono un tipo di struttura tipica della campagna secondo me molto interessante perché ha avuto sviluppi anche in altri temi io come ingegno più volte ho detto darò un premio a chi mi scrive un articolo sulle Beneventane ma ancora col premio nella mia bacheca non lo sono riuscito a dare se l'avessi saputo prima avrei già fatto guarda bene professore vogliamo parlare un attimo al corso di Tommaso no volevo dire avete visto che gli argomenti si sono un po' cambiati nel corso della mattinata e la questione è che questo questo convegno come io ho pensato è un convegno che presenta su un piatto d'argento le tecnologie che noi abbiamo il messaggio è anche rivolto agli amministratori tecnici cioè cari colleghi tenete presente che noi stiamo andando avanti nella ricerca ci sono nuove tecnologie consideriamo la possibilità di utilizzarle nella pratica quindi è un ponte fra la ricerca che noi seguiamo da tanti anni nelle università e quelle che sono le applicazioni pratiche chiaramente per questo ci vuole una comunicazione questo è un discorso di comunicazione gli argomenti sono molto compatti uno dopo l'altro quindi è la tipologia dell'organizzazione a cui ho pensato che non è una sede di discussione se ne potrà fare un altro un altro tipo la formula è un po' quella della comunicazione e della diffusione delle informazioni poi volevo dire noi abbiamo invitato qualche azienda a presentare dei poster nel vestibolo ci sono dei poster con dei tecnici che possono illustrare alcune alcuni dispositivi alcune novità nel campo tecnologico se vi soffermate siamo contenti poi alle 15 riprendiamo i lavori allora buonasera riprendiamo i lavori con la seconda sessione io due parole per presentare il professor Brasi ho conosciuto il professor Brasi nel 1972 quando lui si è laurato in architettura a Firenze io ero già giovane professore e facevo l'insegnamento di statica primo in Italia a fare l'insegnamento di statica e il professor Brasi mi aiutò faceva quello che si dice l'assistente quindi lui faceva l'esercitazione di statica così cominciò la storia poi dopo la storia è andata per suo conto il professore è diventato professore ordinario di restauro prima a Bari poi a Parma e adesso ha lasciato e continua però la sua attività come progettista di grandi restauri è noto che è coinvolto nel lavoro di Notre Dame de Paris nel lavoro di San Benedetto di Norcia eccetera eccetera quindi ho il piacere di dargli la parola e ci farà sapere del suo lavoro e del rapporto diciamo fra un po' diciamo tutti i problemi di costruzione di un bene che è un bene che a me fa piacere vederlo come bene materiale capisco che nell'ambiente culturale in cui siamo c'è questa questione dell'immaterialità io mi ricordo che il giorno dopo che ci fu l'incendio di Notre Dame sentia la televisione ero molto attento a sentire quello che era il soprintendente di di Parigi cominciò il suo discorso e disse Notre Dame è un bene immateriale e via di seguito questo fatto dell'immaterialità diciamo a un ingegnere diciamo lascia un po' un po' disorientato perché il mantenimento di una costruzione prendiamo per esempio la questione della garisenda mantenere in piedi la garisenda la garisenda bisogna considerarla materiale per mantenerla in piedi è chiaro che la gente la guarda come immateriale però se l'ingegnere deve mantenere intuire la torre deve pensare alla sua materialità quindi a questo punto devo dire che io penso tanto alla immaterialità della costruzione pur rispettando molti che la riguardano come bene immateriale prego professor Blas grazie professore nel 1972 io laureato in architettura e in scienza delle costruzioni feci il concorso per borsista il professor Di Pasquale mi disse guarda hai visto hai vinto quella è la borsa del professor Di Pasquale sei borsista di Tommaso prendi la borsa perché sei diventato borsista e quindi da quel momento ho cominciato a portare la borsa del professor Di Tommaso che ringrazio per avermi invitato invitato qua ora il mio intervento in realtà come già ha introdotto il professor Di Tommaso si differenzierà differenzierà dagli altri pochi compositi ma anche anche poche poca sismica sì qualche cosa ma il titolo ricostruzione di fabbriche storiche ci porta ci porta in un campo in un campo anche teorico di come si ricostruisce voi mi scuserete ma io in parte leggerò per per essere per essere più preciso quello della ricostruzione o della ricostruzione parziale del completamento di un edificio di un edificio storico è un problema antico un problema culturale e anche molto ampio che a lungo è stato dibattuto da chi si è occupato di restauro a meno a cominciare dall'ottocento quando l'interesse per i monumenti come monumenti storici è diventato è diventato più vivo poi ci sono state le carte del restauro Atene la carta di Venezia e poi c'è tutto il dibattito della ricostruzione post bellica fino alle ultime discussioni degli ultimi decenni del secolo scorso soprattutto in in Italia io mi ricordo io ho fatto un segnato diciamo sono stato nell'ambito della scienza delle costruzioni della tecnica per circa 20 anni poi non si sa come sono passato e sono diventato professori di restauro negli incontri di restauro i professori si scannavano veramente sembravano regioni di condominio tra coloro che dicevano che bisognava ricostruire in maniera completamente moderna e coloro che viceversa dicevano che si poteva anche ricostruire come era che in in realtà anche anche rifare delle copie era ammissibile la cosa che però in questi ultimi anni mi ha creato più preoccupazione è il fatto che sempre di più c'è io lo vedo nella pratica nella prassi odierna di fatto c'è una separazione tra chi si occupa degli aspetti storico architettonici e chi si occupa degli aspetti del restauro ecco secondo me non è possibile in un edificio di questo genere in quanto fiorentino non potevo rappresentare la cupola non è possibile separare quella che è la forma da quella che è la struttura sono esattamente la stessa cosa così come non è possibile separare il materiale dalla dalla forma ma non solo in questi edifici anche in edifici più moderni purtroppo questa questa divisione c'è nella pratica nella pratica si deve presentare il progetto alle sovrintendenze parlo di edifici evidentemente tutelati e poi si deve presentare la richiesta l'approvazione agli uffici regionali ecco questa prassi è in realtà del tutto illegale perché la legislazione italiana mi ero preparato tutte le leggi ma non non vi annoio a partire dalla costituzione riconosce l'unicità assoluta della tutela e la riconosce allo Stato e in particolare al ministero dei beni culturali in base alla costituzione non so se Calderoli ma non credo che cambi questo questo articolo i beni culturali dipendono dallo Stato le regioni non hanno non hanno titolo e all'interno dello Stato il codice dei beni culturali la legge sismica tutte le leggi riconoscono l'unicità della competenza al ministero dei beni culturali questa prassi è nata questa della doppia approvazione è un po' perché con la legge sismica per fare un progetto di restauro ci vuole una certa competenza anche sull'aspetto della stabilità e un po' a mio avviso perché le facoltà di architettura sono molto cambiate nel 1925 è stata creata la prima facoltà di architettura era una costola della facoltà di ingegneria e si faceva scienza delle costruzioni tecnica delle costruzioni meccanica razionale analisi 1 analisi 2 scienza 1 scienza 2 tecnica delle costruzioni e grandi strutture questa è la facoltà di architettura che ho fatto io oggi purtroppo gli architetti fanno una facoltà molto più leggera da un punto di vista scientifico e nella maggior parte dei casi non sono in grado di leggere nemmeno quelle linee guida che il ministero dei beni culturali ha scritto proprio per gli edifici tutelati quindi non ha più senso che siano gli architetti soli a firmare i progetti di restauro d'altra parte non c'è un'altra facoltà nella quale insieme ad una preparazione tecnica ci sia anche una preparazione culturale e storica tale da poter dire le persone che escono con questa laurea sono in grado di svolgere quindi siamo di fronte effettivamente ad una preparazione universitaria post universitaria ci sono dei corsi di specializzazione che secondo me non è adeguata ad un paese che ha tanti beni culturali e che ha però anche tanti terremoti rappresentati proprio all'inizio secondo me la legislazione sulle competenze va rivista purtroppo questa legislazione questa divisione tra i competenti in base in base alla laurea poi si traduce in una divisione di competenze tra i ministeri per cui oggi di fatto purtroppo in tanti progetti di edifici monumentali anche approvati dalle interesse si legge scritto realizzato progetto realizzato con riferimento alle norme tecniche le norme tecniche non c'è una legge italiana che prevede che gli edifici tutelati debbano essere sottoposti alle norme tecniche così come deporre presentare il progetto agli uffici regionali è un qualche cosa che assolutamente non esiste presentando però questa realtà legislativa ad un corso proprio a Bologna per di sovrintendenze il funzionario delle sovrintendenze mi è stato detto sì ma noi non la vogliamo la responsabilità della stabilità perché non abbiamo la competenza domandolo facendo la stessa domanda ad un funzionario della regione da me molto stimato dico le leggi dicono questo ma fino a che nessuno ci dice nulla l'approvazione per la parte strutturale le diamo noi ecco questo a mio avviso è veramente un grosso problema culturale e vedremo negli esempi che io vi mostrerò come è un rischio perché può produrre veramente delle situazioni diciamo quantomeno nelle quali le soluzioni migliori anche soluzioni migliori da un punto di vista tecnologico innovativo non vengono adottate per questa strana separazione all'interno della quale le sovrintendenze non sentono la responsabilità della stabilità e quindi chiedono solo quello che interessa loro e gli uffici regionali che non hanno titolo va bene però evidentemente danno l'approvazione in base alle norme tecniche perché conoscono le norme tecniche non conoscono altro e quindi ci troviamo di fronte a situazioni veramente veramente assurde ritorna scusatemi di questo preambolo però a mio avviso è una mia è una mia fissazione io sono convinto che il ministero dei beni culturali ha avuto anche degli improperi per questa mia si debba dotare di persone competenti anche nel settore della stabilità perché il giudizio deve essere unico non possono essere due giudizi separati non si può separare la struttura da questa forma però il ministero dei beni culturali e chi ha questo obbligo per legge per la costituzione deve dotarsi di persone competenti purtroppo questo non c'è non c'è sempre ora all'interno della ristrutturazione delle ricostruzioni semplificando si può passare da una ricostruzione famoso come era e dov'era sapete è nato per il campanile di San Marco a Venezia il dibattito se farlo come era o farlo diverso ci sono dei progetti molto belli del campanile di San Marco completamente diverso con Sire Liberty o cose di questo genere ecco questo la fra Kirchen di Dresda è un esempio di una ricostruzione effettivamente quasi in ogni parte come era e dov'era anche se ricordo che durante la costruzione in Germania ci fu quasi una guerra civile tra gli esperti perché c'era chi voleva aggiungere mi ricorda noto quello ha detto il professor Di Tommaso oggi chi voleva aggiungere una cerchiatura d'acciaio di una cerchiatura precomprenza perché la cupola era lesionata anche prima non stava in piedi senza una cerchiatura e chi invece diceva no come era e dov'era presume che debba essere totalmente identica fortunatamente la cerchiatura è stata poi messa ecco ma nello stesso tempo non possiamo dimenticare che anche queste sono ricostruzioni qui siamo qui siamo a Parma bellissimi interventi di ricostruzione che nei quali con un po' di coraggio a mio avviso si è aggiunto un valore culturale a quello che era un il resto la parte rimasta di un edificio di un edificio storico ecco oggi queste cose secondo me sarebbe molto difficile sarebbe molto difficile realizzarle perché oggi la tendenza è quella di richiedere da parte delle sovrintendenze la ricostruzione come era anzi forse peggio vedremo come era solo fino a poco tempo fa fino a pochi anni fa la ricostruzione come era nel dibattito culturale italiano era mal vista e io provocatoriamente tenevo da fiorentino a presentare la ricostruzione del ponte a Santa Trinita dopo il bombandamento della guerra ricostruito esattamente in tutti i particolari che oggi è il più bel ponte di tutto il percorso dell'Arno che tutti i turisti fotografano che i fiorentini amano e non sanno nemmeno che è ricostruito io non credo nelle ideologie ripeto le dispute all'interno del professore di restauro e quindi facevo vedere questo esempio come esempio del fatto che in alcuni casi soprattutto dopo certi traumi guerre sisma incendi la ricostruzione come era può essere può essere valida certo lì accanto c'è un grande una grande lapide dove c'è scritto come quando è stata ricostruita chi come e tutto io odio l'espressione falso storico questa è una coppia di qualità è una coppia ma è una coppia vera cosa vuol dire un falso storico se accanto c'è una tabella dove c'è scritto questa è una ricostruzione la persona che più mi piace ricordarlo caro amico che più si è dato da fare perché non ci fossero ricostruzioni solo come era solo in coppia è stato Marco De Zibardeschi questa qui è la cattedrale di Pozzuoli che c'è una vicenda interessantissima non abbiamo il tempo di parlarne perché era come vedete un tempio un tempio romano poi trasformato in chiesa barocca poi ritrasformato in tempio poi mancava la metà e alla fine l'intervento di De Zibardeschi e qualche volta non bastano nemmeno i grandi architetti a poter realizzare però delle cose nuove questa è l'uscita degli uffizi di Isozaki che è stata affondata dal genio architettonico del nostro Sgarbi e quindi purtroppo Firenze poteva avere un'opera moderna e non l'avrà accettare una perdita e ricostruire una cosa diversa ci vuole coraggio è spesso un trauma e secondo me il fatto molte volte di preferire da parte di amministrazioni sovrintendenti una ricostruzione più o meno identica come era prima è perché in questa maniera si sa dove si va a cascare si sa quello che sarà il risultato finale quindi nessuno rischia di avere un risultato un risultato incerto purtroppo questo attaccarsi alla forma all'aspetto e questa separazione da una parte di chi si occupa della forma e degli altri che si occupano della struttura del materiale della stabilità e porta anche a risultati che a mio avviso mi ricordano più Disneyland più una tutela di Disneyland che una tutela dei nostri monumenti e questo capannone di di cartongesso è l'ultima ricostruzione del coperture di piazza armerina c'è stata una grande polemica è stata fatta con qualche cosa che secondo il progettista deve ricordare la villa di piazza armerina ma in cartongesso dentro ci sono degli archi ritagliati con il cartongesso ecco devo dire che a mio avviso non sembra la maniera più adatta attivamente si ricostruisce la villa romana ma più Disneyland che altro detto questo questa premessa vi faccio vedere interventi miei così possono essere più o meno più o meno criticati e incomincio da un intervento di ormai diversi anni fa che è la ricostruzione del ponte di Mostra ecco questo ponte è stato distrutto fa dispiacere dirlo ma da cararmati cattolici cattolici croati perché era un simbolo della cultura ottomana ed è evidente che a quel punto la ricostruzione come era di questo di questo monumento era assolutamente necessaria anche perché la parola Mostra vuol dire ponte e nel simbolo nello stemma della città c'era il ponte e quindi ecco questo è uno di quei casi identitari ne vedremo un'altra nei quali evidentemente ricostruire anche con gli stessi materiali si può fare ora nel progetto che avevamo preparato tutte le spalle che erano rimaste evidentemente autentiche erano state conservate l'incarico poi della ricostruzione è stato dato dall'UNESCO ad una ditta turca se il ponte era turco ottomano una ditta esperta di ponti di infrastrutture di metropolitane il quale evidentemente ha demolito tutto e l'hanno rifatto completamente completamente nuovo forse anche troppo nuovo ecco le problematiche di come intervenire di come ricostruire a volte sembrano valare io vi confesso che dopo venti anni in ambito tecnico scientifico quando per una strana cosa accademica sono diventato professore di restauro pensavo beh io sì che so fare i restauri io so fare so come gli edifici stanno in piedi mica questi che disquisiscono delle teorie del restauro e della storia del restauro ecco ho avuto tantissimo tantissimo da imparare e quindi invito qui siamo in un campo di tecnici invito tutti coloro quali queste tematiche interessano di mettersi molto umilmente a studiare le teorie del restauro perché si acquisisce un'altra sensibilità e si scopre che in realtà le problematiche sono molto più complesse di come sembrano non è solo facendo stare in piedi edifici cosa peraltro ovviamente importante che si crollano completamente penso che Antonio Borri ci farà esempio di questo tipo sicuramente perché lo ho sentito tante volte basilica di San Benedetto a Norcia e qui come vedete è rimasta solo la facciata il resto è crollato quasi quasi completamente come come ricostruirlo e qui c'è qualche cosa che non funziona in realtà il campanile il meccanismo di collasso del campanile ha provocato il crollo completo completo della chiesa non era la prima volta che crollava il campanile e purtroppo dopo il ricostruzione 1700 dopo un primo crollo della chiesa era stata ricostruita ecco murature come vedete del tutto inconsistenti con la terra dentro povere poverissime di calce come si interviene murature di grande spessore vedete le pietre sono dei sassi tenuti insieme da qualche cosa che assomiglia molto più alla sabbia che ad una malta ebbene addirittura murature che nel settecento erano state raddoppiate sempre con muri di modestissima resistenza raddoppiando le murature sommando insieme due muri poco resistenti si ha complessivamente un muro che ha una massa che è il doppio ma una resistenza poco maggiore quindi dovendo intervenire per la parte modesta di murature che erano rimaste veramente delle problematiche la richiesta del ministero il ministero propone un documento di indirizzo e in questo se il titolo della mia presentazione è indirizzi per la ricostruzione e questo è quello che scrive il ministero allora si dovrà garantire il rispetto della configurazione architettonica originaria e dei punti di riferimento identitari i materiali originali vedremo recuperati il mantenimento della facciata i volumi non dovranno essere dissimili la ricostruzione del camber la ricomposizione dello spazio interno non è detto proprio esplicitamente perché faceva cosa non era molto bella dire la rivolgiamo come era prima però sotto sotto il ministero scrive scrive questo di fatto tant'è vero che a livello locale subito il sindaco fa una conferenza un convegno Basilica di San Benedetto come era e dove era una ricostruzione identitaria ecco questo è l'attuale sono le attuali richieste del del nostro del nostro ministero e le pietre sono state tutte messe da parte e in questo portale gotico è stato ripostruito con una vera e propria anastilosi rimettendo in pietre in piedi tutte le pietre ritrovate e noi abbiamo cercato di seguire un pochettino l'indicazione interpretando a modo nostro come volevamo la ricostruzione intanto tutte le volte che si senti dire com'era e dov'era ricostruzione identitaria ma come era quando negli anni 50 la chiesa come vedete era due metri più bassa il tetto aveva una sua forma poi negli anni 50 è stata rialzata il tetto è stato completamente modificato allora cosa vuol dire ricostruire in maniera originaria poi come con quelle murature con quelle pietre si deve ricostruire come era ricostruendo con quelle pietre lì impossibile perché chiaramente il ministero ci dice come era però deve avere un fattore di sicurezza almeno 08 come si fa a raggiungere il 08 voi sapete di che cosa parlo facendo un muro di sassi largo un metro e mezzo e poi io a proposito si rifà in mattoni certo come era e dov'era non c'entra più nulla non c'entra questi alcuni artifici utilizzati all'esterno la pietra per dare l'aspetto esterno come era all'interno murature di grosso spessore le travi cordoli cordoli dei tiranti di acciaio tra l'altro ricostruendo completamente i muri abbiamo potuto rinforzare anche all'interno all'interno dei muri le murature doppie sono state confinate tra le due pareti interna ed esterna con dei diatoni ed ecco voi sapete che farvi capire perché siamo intervenuti confinando quelle pareti se voi prendete un barattolo di sabbia la sabbia è un materiale che non ha nessuna resistenza ma se lo chiudete dentro un barattolo diventa un materiale estremamente resistente quindi abbiamo pensato di fare queste due fodere collegate da diatoni ed ecco un po' di materiale composito i diatoni sono stati realizzati con delle barre di fibra di vetro inghissate nelle pietre e con dei microtrefoli nelle reti di microtrefoli di acciaio ecco questa è la basilica allo stato attuale mancano ancora gli altari mancano tutte le decorazioni che verranno ora iniziate nella seconda fase della ricostruzione un altro esempio di ricostruzione molto più semplice e molto più rapido era questa cupoletta della Iubidol nella cittadella di Damasco qui dentro era previsto un museo poi è scoppiata la guerra in Siria e c'è stato chiesto di fare una cupola si aspettavano tutti che noi si ricostruisse una cupola in istile però nessuno sapeva com'era questa cupola e quindi com'era e dov'era non esisteva e abbiamo potuto proporre un qualche cosa di completamente diverso che però devo dire che è piaciuto molto quindi indirizzo per la ricostruzione in questo caso completamente diverso questa chiesa ha un ho già finito il mio tempo il suo di Tommaso sto finendo allora saltiamo questo qua saltiamo questa questa chiesa era interessante perché qui la sovrintendenza ci ha chiesto di ricostruire esattamente come era con con il volume con questi tamburo fatto questo tamburo fatto nel 1953 cioè chi prima ha detto dopo 50 anni è già una cosa antichissima noi non l'avevamo previsto perché il materiale è troppo povero di questa chiesa per poter reggere anche una cupola quindi la commissione congiunta congiunta da una parte la sovrintendenza ci chiede di ricostruire anche la cupola e la torre sotto dall'altra la sovrintendenza il genio civile l'ufficio regionale sismico ci chiede l'adeguamento perché dice è stato demolito non c'è più nulla e quindi noi vi si chiede l'adeguamento una commissione poco congiunta perché le due cose non andavano d'accordo per risolvere la cosa la sovrintendenza ha tutelato la parte non più esistente quindi ha tutelato il nulla che non era esistente e quindi essendo tutelato il nulla andava ricostruito esattamente come ecco e qui vado vado veloce non ho tempo a Mirandola abbiamo ricostruito le volte super leggere per poter perché le le murature antiche non la leggevano più sono volte leggere però chiaramente denunciate come un qualche cosa di completamente diverso perché sono staccate staccate dal muro e quindi si vede che è un ombrello non è non è una ricostruzione come era molto faticosa voi sapete a Bologna sono cambiate sei sovrintendenze in pochi anni ogni volta che cambiavano la sovrintendenza davano un parere diverso alla fine è stato mandato a Roma questo progetto Roma l'ha approvato in 448 perché io un giorno per caso ho telefonato a Renzi per cui la mia fama avendo Roma approvato subito quando Renzi era primo ministro Fiorentino la mia fama è aumentata moltissimo pensavano io avessi chissà quali poteri comunque sia alla fine è stato fatto in questa maniera Pietro Petrussello vi faccio vedere solo questa immagine per far vedere come il teatro è stato ricostruito guardandolo com'era ma il com'era e do'era in realtà non esiste è un compromesso è sempre un compromesso e questa è la cupola che abbiamo realizzato è finisco finisco grazie 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 per ricostruire anche la parte in legno esattamente come era essenzialmente essenzialmente per due ragioni la prima che facendo le verifiche strutturali della parte in legno è più facile abbiamo fatto anche le verifiche strutturali di tutta la parte in pietrame e sia la parte in pietrame gli archi rampanti estremamente snelli sia la struttura a linea è risultata perfettamente soddisfacente per sopportare anche i carichi attuali quindi i nostri colleghi medioevali poi anche quelli dell'Ottocento avevano senza la scienza delle costruzioni dimensionato perfettamente gli archi rampanti le volte e anche tutta la struttura a linea senza la sismica perché lì non c'era la sismica se mi concedete mezzo minuto a proposito degli archi rampanti e della sismica se volete capire la differenza tra una zona sismica e una zona non sismica nel periodo gotico guardate guardate gli archi rampanti di San Francesco di Assisi della chiesa della basilica guardate come sono fatti poi guardate quelli di Notre Dame e capite come gli italiani hanno interpretato sismicamente il problema della cattedrale guardate così vi do un compito a casa la seconda ragione è perché di questo di questo tetto c'era tutto un rilievo perfetto fatto pochi anni prima e c'era anche tutta la struttura di il progetto di Iulele Duc con addirittura il giornale dei lavori quindi avevamo un progetto i calcoli tornavano la storia ci diceva che questo progetto funzionava era perfetto quindi c'è la verifica della storia ed è quella sulla quale io più mi sono battuto per sostenere questo progetto e quindi si è deciso di ricostruirlo in Italia ci sono state delle polemiche Sgarbi ha detto che Notre Dame era tutta finta tutta falsa era ottocentesca quindi non valeva la pena ricostruirla questa è la flash prima dell'incendio un'opera favolosa un'opera di ingegneria e architettura incredibile e ora la rivedremo fatta questo è il tetto in fase di ricostruzione queste sono le volte ricostruite e la flash che abbiamo messo qua su in cima abbiamo messo la croce proprio la settimana scorsa ecco una delle cose due volte diapositive più terrificanti almeno per me che dovevo garantire la stabilità delle vecchie strutture è la differenza tra il ponteggio fatto da Violet Le Duc nel 1860 per arrivare ad un'altezza di 90 metri e il ponteggio è il ponteggio attuale però qui non c'è nessun francese io credo che i ponteggiatori ci abbiano un po' mangiato è su questo ponteggio non solo in Italia anche perché concorso si è presentato una sola ditta sembra il ponte di Messina ecco una cosa che mi piace ricordare è che la malta con la quale è stata ricoperta prima sopra le volte c'era una malta di gesso molto usato in Francia il gesso e vedete le pietre bruciate dal fuoco dove dovevamo ripristinare lo stesso spessore e lo stesso spessore è stato fatto con questa malta Made in Italy malta mapei quindi proprio queste zone con il professore Di Tommaso devo dire abbiamo un po' brigate e alla fine è stato riconosciuto secondo me questo primato delle esperienze anche delle industrie italiane hanno fatto una malta fibro rinforzata quindi un po' di compositi ci sono e che è stata riconosciuta la più valida ecco mi piace terminare ricordando Giovanni Carbonara che faceva parte della commissione per la Garisenda e mi riferisco a lui perché io credo che questa tendenza di ricostruire la facciata o il volume esattamente come era e poi dentro di farla come uno vuole separando questi aspetti della forma della struttura credo che farebbe rigirare insomma crederebbe molte molte critiche da quali da parte di quelli che sono stati padri del restauro italiano che poi posso assicurare io ne sono uno dei beneficiari è considerato il migliore del mondo grazie va bene forse adesso per questioni di grazie professor Blasi di questa esauriente esposizione dobbiamo andare avanti con con il programma e chiediamo scusa di non aprire a una discussione mi dispiace e andiamo a presentare il prossimo intervento ecco angelo se mi consente una sola cosa un ringraziamento particolare al professor Blasi per questa key lecture che penso possa lanciare molto bene le prossime due relazioni che seguiranno direi che proprio era la chiave per apertura un po' per aprire la discussione su come deve essere fatto un restauro quando si operi su un bene architettonico io devo dire di avere sottolineato un aspetto in particolare che il professor Blasi ha dato all'inizio non è possibile separare la forma dalla struttura cercherò di ricordare benissimo questo periodo quindi ricordiamolo tutti quanti non è possibile separare la forma dalla struttura grazie professore bene allora adesso c'è l'intervento della professoressa Eva Cosson miglioramento statico di edifici storici alla prova dei fatti la professoressa è professoressa all'università di Parma professore ordinario di restauro e penso che abbia molte informazioni sulla ricostruzione dell'Emilia dopo il terremoto perché evidentemente avrà collaborato prego grazie mille ringrazio davvero il professor di Tommaso per avermi invitato è un onore essere qui in questa sala a parlare dopo il mio maestro il professor Blasi prima del professor Borri sono proprio tra due mostri sacri ma lo ringrazio anche il professor di Tommaso in generale per aver organizzato tutta questa giornata invitando diverse competenze invitando docenti e ricercatori di restauro come di scienza delle costruzioni di tecnica delle costruzioni stamattina di geologia perché credo che sia questo gli argomenti di cui parliamo oggi sono argomenti sui quali bisogna imparare a lavorare insieme a lavorare di più insieme a partire dall'ambito accademico ma anche ovviamente in quello professionale quello di cui appunto vado a parlare oggi è il miglioramento sismico degli edifici alla prova dei fatti nel senso che noi sappiamo questa è una frase che tutti gli allievi del professor Blasi ricordano spesso lo studio del comportamento statico delle strutture è sempre indagine storica lo diceva il professor Di Stefano Roberto Di Stefano e questo è quell'elemento che sta un po' a cavallo tra l'architettura e l'ingegneria che spesso gli ingegneri io sono ingegnere di formazione non hanno non tengono sufficientemente in conto invece per capire come funzionano gli edifici storici gli edifici che arrivano dal passato la conoscenza storica è fondamentale e deve essere una conoscenza mirata non una conoscenza come dire quella di cui faccio fare la relazione perché me la chiede la sovrintendenza una conoscenza proprio mirata alla comprensione all'interpretazione anche della storia più recente che è quella su cui si concentra il mio intervento di oggi in effetti direi che è una cosa ormai acquisita da tutta la comunità scientifica il fatto che gli edifici storici in muratura si comportino in una maniera che a partire dalle osservazioni empiriche questi sono ancora disegni della manualistica ottocentesca che già sapeva come si comportavano le murature soggette a azioni orizzontali però sono state più studiate in maniera più sistematica con un approccio che io amo definire fenomenologico nel senso che si basa sull'osservazione diretta degli effetti dei fenomeni in particolare quelli sismici e da questi astrae da questa osservazione della realtà astrae poi una interpretazione del comportamento e questo è il libro che per la tipologia costruttiva chiese che è stata la prima analizzata in questo modo a valle del terremoto del Friuli ha incominciato a proporre l'approccio appunto per i macroelementi e non a caso anche questo è un libro scritto da professore di restauro uno di scienza delle costruzioni un professionista ingegnere un architetto quindi la collaborazione fa fare sempre passi in avanti ed è quello da cui poi si è sviluppato l'interpretazione come dicevamo per macroelementi dei meccanismi di collasso che poi è entrato per le chiese e per i palazzi nel modus operandi sia del rilievo del danno ma anche dell'interpretazione si sta lavorando anche qui in regione Emilia Romagna anzi con delle ricerche finanziate dalla regione per allargare gli studi anche ad altri tipi edilizzi come quelle delle architetture fortificate dei teatri e dei cimiteri ma per ora lo studio che invece propongo oggi riguarda solo le chiese bisognava partire da qualcosa di un po' più se vogliamo consolidato ecco il tema è ok questo approccio che parte dall'osservazione del danno e diciamo interpreta e cerca di capire come funzionano gli edifici ma per gli interventi riusciamo a fare a seguire un approccio simile cioè a studiare gli interventi che sono stati fatti di consolidamento nel corso del tempo e di vedere anche loro come si sono comportati poi al terremoto o ai terremoti successivi perché questo da un certo punto di vista è già richiesto dalle carte del restauro da decenni soprattutto quando si parla di tecniche nuove perché come funziona una catena più o meno l'esperienza ce l'abbiamo da qualche secolo ma nel corso di tutto il novecento per poi arrivare fino ai materiali compositi più recenti però anche l'introduzione ad esempio del cemento armato o delle barre iniettate sono stati tutti inserimenti di materiali nuovi per i quali il tempo di applicazione non era così lungo quindi appunto vediamo che la carta di Venezia dice che si può usare per consolidare il monumento tutti i più moderni mezzi di strutture di conservazione la cui efficienza sia stata dimostrata da dati scientifici e sia garantita dall'esperienza sui dati scientifici ci siamo nel senso che le università fanno ricerca e anche le stesse aziende che mettono poi in commercio le nuove tecniche ovviamente lo fanno sulla base anche di dati scientifici sull'esperienza forse non abbiamo ancora dedicato molta attenzione nell'analizzarle nel sistematizzarle allo stesso modo la carta di Cracovia nel 2000 sempre parlando di nuove tecnologie e nuovi materiali forse qua avendo già in mente più i compositi che non il cemento della carta di Venezia si dice che devono essere ovviamente sperimentati comparati adeguati alle necessità conservative e che quando l'applicazione assume particolare rilevanza per la conservazione è necessario prevedere un continuo monitoraggio dei risultati ottenuti monitoraggio che può essere inteso sia in senso di strumentazione proprio il monitoraggio strumentale come tra l'altro suggeriva anche stamattina l'ingegner il professor Martelli ma anche più banalmente come osservazione ripetuta del comportamento in occasione dei danni successivi ed è un po' quello che stiamo cominciando ma sono veramente i primi passi che facciamo a fare all'Università di Parma andando a confrontare danni interventi e poi danni successivi su zone e su edifici in particolare chiese appunto colpiti da terremoti a distanza di tempo non troppo lungo ma neanche troppo breve se no non c'era il tempo di fare degli interventi nel frattempo qui vediamo l'intersezione tra i crateri sismici del 96 e del 2012 in Emilia tra la bassa legiana e la bassa modenese la zona del viola intermedio e qui vediamo alcune delle chiese che abbiamo iniziato a studiare attraverso documentazione e ricerca d'archivio in particolare in sovrintendenza non ve le mostro tutte perché ovviamente non c'è tempo e allo stesso modo però sono ancora poche per arrivare a una sistematizzazione siamo all'inizio diciamo di un percorso che però credo sia interessante sia per diciamo questi tipologie di intervento che vedremo oggi ma anche come approccio che andrebbe sistematizzato maggiormente anche per i nuovi i materiali più nuovi il primo esempio che vi porto è San Salvatore a Mandrio di Correggio che ha subito dei danni in occasione del terremoto del 96 gli interventi sono finiti nel 2004 poi nuovi danni in occasione del terremoto del 2012 nel 96 molti dei danni si sono concentrati nella parte del Nartece che ha martellato sostanzialmente questo porticato con il corpo della chiesa con il quale non era ben ammorsato con delle lesioni anche nella parte voltata l'intervento lo vediamo lì in basso a destra è l'inserimento di catene per migliorare questa c'erano già dei tiranti in una posizione più bassa che vedete qui che sono stati ritesati e poi ne sono stati aggiunti a un livello superiore inoltre il capo chiave è a piastra sotto in tonaco e poi sono state inserite delle delle barre diciamo delle barre iniettate per migliorare l'ammorsamento tra le due porzioni murarie non sto a fare convinti di merito sono cose che ovviamente oggi non proporremo più però poi vedremo anche un po' la loro efficacia magari in associazione agli altri interventi che sono stati fatti per le volte interventi classici di cuci scuci e di intaglionamento con cuneo mentre le volte queste erano le volte del protiro mentre nelle volte dell'aula è stata che si sono lesionati sostanzialmente a taglio sono state previste degli interventi quelli che vedete a sinistra sono i meccanismi secondo la direttiva come previsti dalla direttiva per la protezione del patrimonio culturale da rischio sismico sulle volte quindi dell'aula sono state inserite delle nervature stradossali e una specie di cap stradossale però vedete molto leggera nel senso che la rete che è stata usata è una rete non elettrosaldata ma una specie di rete da polli da un millimetro di diametro sicuramente almeno hanno ridotto l'aumento di rigidezza della struttura non è chiaro bene lo spessore complessivo anche l'abside la parte dell'abside sia i muri che le volte si sono danneggiate ma gli interventi in questa zona erano stati programmati previsti per un secondo stralcio e poi non sono mai stati realizzati cosa è successo in occasione del terremoto del 2012 allora nella parte del protiro è andata molto meglio perché praticamente il protiro non si è più danneggiato quello che è successo è che il protiro era bello fermo e stabile ma il timpano che nel il 96 non si era attivato nonostante il sisma in questa località sia arrivato un po' più forte nel 96 nel 2012 invece si è ribaltato ha avuto segni di ribaltamento probabilmente gli interventi sul portico hanno migliorato la situazione del portico hanno variato i rapporti di rigidezza rendendo appunto più rigida la parte sotto e quindi più deformabile innescando il ribaltamento del timpano comunque anche qui la soluzione dopo il 2012 è stato quello di inserire un tirante nella parte alta sulle volte invece della parte dell'abside in parte anche dell'aula interna dopo il 96 abbiamo visto la creazione di questa cappa sopra la volta ma questa cappa non era connessa alle pareti quindi il progetto successivo è stato di andare a connettere le cappe esistenti alle murature con questo tipo di intervento di cui vediamo il dettaglio tecnico perché questo è un problema che si pone con tutte le fasce di materiale resistente a trazione che sia la rete elettrosaldata che sia la rete da polli che sia le fibre di materiali compositi non bisogna metterle per metterle o perché vanno di moda bisogna metterle perché si è capito qual è il meccanismo che si che si è attivato o che si rischia di attivare e andarle quindi a mettere laddove sono effettivamente necessarie se io ho un meccanismo di questo tipo come presumibilmente è avvenuto in in quelle volte e vado a mettere le fibre qua sopra questa apertura non la blocco se non mi collego le murature ed è quello effettivamente che è successo e quindi solo in un secondo momento si è andata a creare questa connessione quindi è molto importante andare a identificare il meccanismo che si vuole bloccare e limitarsi a quello anche per il rispetto del principio del minimo intervento o intervento minimo di cui ci parlerà il professor Borri dopo come fare a capire qual è il meccanismo e la posizione in cui andarle a mettere i modi sono diversi abbiamo evidentemente se il danno si è già manifestato questa è una pianta dell'ingegnere Speroncini di un'altra chiesa è chiaro che sappiamo abbastanza bene qual è il problema che vogliamo risolvere altrimenti se non si è ancora manifestato ci sono i manuali a partire da quelli del Merì che ci spiegano come si rompono gli archi a seconda della loro conformazione e delle varie sollecitazioni e poi studi scientifici qua ho citato quello del collega e amico Daniele Ferretti insieme a Lentichi e Boni che hanno fatto studi con modelli discreti a valutare anche l'effetto ad esempio della tessitura muraria sul tipo di danneggiamento che si prevede nelle volte e questo è un esempio che credo il professor Di Tommaso riconoscerà di una volta a padiglione questa sappiamo che si lesiona in questo modo e quindi le fibre vanno messe solo nella direzione ortogonale alla lesione garantendo anche una maggior adattabilità della struttura a eventuali movimenti successivi ma vado veloce perché il tempo è tiranno ci sono tutta una serie di altre di altre parti nelle quali nel 2000 diciamo dopo il 96 o non si era intervenuti o si era intervenuti solo parzialmente ad esempio su alcune volte della navata centrale dell'aula si era intervenuti e su altre no quindi che cosa si è deciso di fare dopo il 2012 siccome il quadro fessurativo per quanto lieve si è ripresentato in alcune zone si è scelto di andare a consolidare le volte non ancora consolidate con fibre di basalto e acciaio collegate sempre alle murature in modo da avere un consolidamento su tutte le volte e qua si pone un po' il problema che si pone spesso nell'ambito professionale e che devo dire non è chiarissimo non è chiarito molto bene né dalle norme tecniche né dalle linee guida o direttive perché le linee guida ovviamente rispettose del principio del minimo intervento dicono che sia meglio intervenire su singole parti e non in modo omogeneo mentre le NTC sia quelle del 2008 che quelle del 2018 parlano di interventi regolari e uniformi però se andiamo a vedere la circolare dell'NTC del 2018 dicono che vanno evitati interventi generalizzati e diffusi quindi vediamo che tra la circolare e l'NTC sembra esserci un cortocircuito interno in realtà credo che tutto nasca da una da una questione di fondo la situazione di partenza è omogenea o no perché se non è omogenea allora l'intervento deve essere puntuale per andare a risolvere le criticità localizzate evidentemente ed è da lì che bisogna partire ed è il concetto per cui il miglioramento non è solo una percentuale dell'adeguamento è un modo diverso di vedere il problema quindi capire se ci sono delle problematiche puntuali da andare a risolvere da lì bisogna sempre partire poi se anche una volta riportata la struttura ha una sua omogeneità questa non è sufficiente per garantire la sicurezza necessaria ovviamente poi si può procedere con un intervento di miglioramento che allora dovrà essere omogeneo per non creare delle nuove disomogeneità scusate la parentesi in generale questi diciamo è un approccio che si sta trasferendo progressivamente dall'ambito dei monumenti e quindi dalle linee guida agli anettici per tutti gli edifici esistenti cioè il fatto che si debba seguire questo questo iter mirando prioritariamente a contrastare lo sviluppo dei meccanismi locali da prima e solo successivamente avere ampliare lo sguardo al comportamento globale qua vado veloce perché sono tutte cose che nel 96 non si erano manifestati danni a questi meccanismi sulle coperture e quindi sono interventi che sono stati fatti solo post 2012 senza connessione con il con il primo intervento e quindi non è una verifica sul campo sono stati fatti dei cuciscucci connettori interventi sul campanile che la prima volta non si era danneggiato la seconda volta sì e quindi vabbè qua vado veloce perché non è finalizzato alla verifica poi in campo dell'efficacia di questi interventi riassumendo l'intervento del fatto dopo il 96 ha risolto il problema del portico forse potrebbe aver avuto un ruolo nell'accentuare invece il problema sul timpano e chiaramente gli interventi non fatti nell'abside nel campanile non hanno risolto problemi che poi si sono risolti successivamente al 2012 e gli interventi fatti in maniera un po' a spot su alcune zone e non su altre hanno evidentemente modificato la rigidezza in maniera eccessiva e eccessivamente differenziata e quindi hanno portato a qualche limitato danno all'interfaccia voglio su questo vado molto veloce perché è solo un altro caso nel quale poi nel 2012 non c'è stato un ulteriore danneggiamento quindi sono interventi che sono stati effettivamente risolutivi anche se poi ovviamente bisogna guardare bene anche l'entità del sisma di sito in particolare qui sono stati inseriti tutto questo sistema di controventature metalliche nella zona del sottotetto anche perché vedete c'erano dei pilastrini non particolarmente incoraggianti in muratura sia per risolvere i problemi in copertura che quelli nella zona dell'abside quindi nelle due direzioni e anche verso la facciata qualche architrave è stato inserito per risolvere i problemi a taglio nelle fasce di piano e sulle volte è stata aggiunto del materiale alleggerito sui rinfianchi e una cappa in betoncino con nervatura di rigidimento all'estradosso al terremoto successivo pare essersi comportato sufficientemente bene cucci scucci ci sono alcuni disegni che si vedono ripresi in tantissimi progetti questo diciamo è uno studio che abbiamo cominciato e che cercheremo di sistematizzare il più possibile però volevo fare solo un ultimo breve accenno a un caso studio a cui tengo molto che è il Duomo di Parma che ha subito un terremoto l'ultimo terremoto un po' forte nel 1983 un po' forte intendo che poi ha reso necessario un intervento qua vado molto veloce il problema principale è la risposta trasversale dell'aula oltre al meccanismo di facciata vedete qua il distacco degli arconi diagonali rispetto alla volta qui vedete tutte le lesioni longitudinali e più qualcuna in corrispondenza della facciata c'è stata molta discussione su cosa fare in particolare volevo sottolineare la proposta che vedete a sinistra che è giunta proprio nei primi mesi dopo il terremoto di consolidare la volta della navata centrale ma non di aggiungere tiranti per evitare che il fabbricato venga sottoposto a tensioni diverse da quelle alle quali attualmente è sottoposto come se la catena fosse cambiasse il comportamento mentre il consolidamento della volta no la risposta della sovrintendenza è stata di diniego perché dice cosa che nella lettera di sinistra non si capiva bene non abbiamo ancora trovato i progetti ma il proposto incalottamento delle volte in calcestruzzo con spessori di centimetri dieci appare fin d'ora inattuabile per il peso che verrebbe ad aggiungersi sulle volte stesse per le conseguenti spinte indotte nelle murature d'ambito teniamo conto che qua parliamo di archi che hanno una depressione in chiave in certi casi superiori al mezzo metro quindi se poi ci andiamo anche ad aggiungere dieci centimetri di calcestruzzo effettivamente in questo caso c'è forse da essere contenti che la sovrintendenza si sia messa di traverso ci sono passati in tanti a dare il loro parere dal professor Di Pasquale citato prima dal professor Blasi al professor Marconi quindi abbiamo Scienze delle Costruzioni abbiamo Restauro abbiamo Antonino Gallo Curcio non vi leggo tutto quello che ognuno di loro ha detto fatto sta che alla fine c'è anche un restauratore un architetto ognuno ha detto la sua hanno invocato la necessità di monitoraggio e questo è l'intervento che alla fine è stato fatto quindi non una cappa ma semplicemente questi elementi metallici forse si vede meglio qui con dei connettori che andavano a ricollegare la volta con quegli elementi che abbiamo visto in completo distacco e quindi evitano il distacco degli elementi che era la cosa forse più pericolosa in assoluto senza modificare più di tanto perché come spessori non c'è una cappa armata sotto e ci sono solo questi elementi metallici che li tengono collegati tra di loro con degli agganci tipo Fisher visto che è anche tra gli sponsor di Murico quindi si può citare non era diciamo una cosa programmata ecco questo è l'intervento che è stato fatto e successivamente è stato installato il monitoraggio e questo monitoraggio ci ha permesso di vedere che in occasione del terremoto un piccolo terremotino del 2004 effettivamente la navata centrale si è comportata piuttosto bene mentre i problemi rimanevano soprattutto in corrispondenza della facciata queste sono le cadute in tonaco sulla facciata è venuto fuori che c'era una vulnerabilità nascosta perché si erano scordati di collegare la trave di colmo in cemento armato alla facciata cosa che è stata poi fatta subito dopo insomma nel 2005 2006 quindi adesso la connessione è stata creata e il comportamento appare migliore sulla cupola non mi dilungo perché cerco di andare a conclusione anche qui c'è stato un intervento che non è stato del tutto efficace e concludo ricordando le parole di Giovannoni che già nel 45 lui sia ingegnere che architetto suggeriva di limitare i lavori di rinforzo al minimo necessario per utilizzare gli schemi di risorsa formatisi nella statica dell'edificio senza alterarli frase che è ripresa in maniera abbastanza simile nella circolare applicativa dell'NTC del 2018 cioè il fatto che il regime delle sollecitazioni è frutto della sovrapposizione di vicende statiche subite dalla costruzione nel tempo e che per questo motivo appare conveniente limitare l'alterazione dello stato di fatto per non creare situazioni di esito incerto questo è sicuramente una raccomandazione ancora valida e questo studio che stiamo portando avanti vuole diciamo può riassumere un attimo il suo invito anche ai professionisti a invitare a una maggiore collaborazione tra le diverse discipline a una conoscenza storica che inquadri correttamente le attuali condizioni statiche per individuare tutte quelle risorse strutturali che sono ancora presenti e sui quali possiamo fare affidamento per evitare gli interventi non necessari ma anche per realizzare quelli che effettivamente servono e l'importanza ricordata anche stamattina di monitorare le strutture prima durante e anche dopo gli interventi per capire effettivamente la loro efficacia in generale credo che dobbiamo partire dalla quando interveniamo su questi edifici dalla dalla consapevolezza che il nostro intervento non sarà mai un intervento del tutto risolutivo ma è un'ipotesi la cui efficacia deve essere verificata nel tempo ed eventualmente corretta anche successivamente vi ringrazio per l'attenzione e spero di si prende grazie professoressa per questa interessante presentazione cinque minuti in meno le avevamo dati cinque minuti in più li abbiamo consentiti direi che possiamo passare al prossimo relatore che riprenderà ancora il tema sulla ricostruzione in edifici di carattere storico prego professor Borri Buonasera a tutti io comincio facendo chiedendo tre volte scusa prima scusa nei confronti del professor di Tommaso il quale mi aveva chiesto invitandomi a questo convegno di portare qualcosa sui compositi non ce la farò per un semplice motivo perché i relatori che mi hanno preceduto il professor Blasi la professoressa Quasson hanno sollevato dei problemi che credo siano particolarmente importanti e anche urgenti ecco per cui vorrei dedicare ho tutte le diapositive le faccio vedere perché insomma ci arriverò dopo perché le avevo preparate però vorrei andare direttamente su questi aspetti su queste tematiche che sono state poste salpando la resilienza indotta dai materiali compositi e andando su qualcosa che forse è più raro dei compositi che la mattina si parlava dell'intelligenza artificiale che è il buon senso umano il buon senso umano potrebbe fare molto per eliminare certe fragilità di queste costruzioni ricordiamo che resilienza il contrario alla fragilità per quanto riguarda le costruzioni in muratura è una cosa ed è una cosa che Antonina Giuffré ci ha ricordato molti anni fa è una cosa particolarmente facile la resilienza di queste costruzioni per il fatto che sono un assemblaggio di elementi e proprio per essere un assemblaggio si prestano ad essere disassemblate e riassemblate l'unico problema è che questo magari succede dopo dieci anni da un terremoto però comunque le costruzioni si recuperano nel loro aspetto materico la resilienza del contenuto invece ha problemi in più certamente le vite umane purtroppo non siamo resilienti di quanto vorremmo essere e questo l'abbiamo visto nei terremoti passati c'è poco da fare poi c'è la resilienza della popolazione come stamattina è stato toccato anche lì ci sono problemi di tempo per riuscire a ripartire ma andiamo sui beni culturali e beni artistici la resilienza dei beni artistici ma di che stiamo parlando quando crolla un elemento strutturale dove lì sopra ci stava un affresco o una pittura che sia che cosa si ricostruisce si ricostruisce qualcosa che ricorda vagamente quello che era questo dopo 60.000 ore di restauro e 37 milioni di euro è il risultato della ricostruzione di queste volte nella basilica di Assisi tutto il resto quello che si vede oggi è stato aggiunto da questi bravissimi restauratori questa è una cosa che non c'è poco da fare l'unica arma che abbiamo a disposizione è la prevenzione bisogna pensarci prima perché altrimenti quando queste cose sono successe i cocci dopo non si rimettono insieme o meglio si possono anche rimettere insieme ma non è la stessa cosa che era prima in tanti casi fare prevenzione sarebbe una cosa a costo zero e si torna al buonsenso umano queste lastre per esempio sono nel museo di Capodimonte insomma lì basterebbe se viene un evento sismico queste lastre scivolano e cascano in terra basterebbe semplicemente una staffina davanti che evita questo slittamento per impedire il disastro che dire poi di questi espositori filo-sismici va bene dove sono sono in zona sismica sono in zone dove l'evento sismico non è così diciamo così improbabile bisogna fare qualcosa per evitare che queste cose avvengano che tanto comunque dopo noi non riavremo mai quello che era che avevamo prima bisogna pensarci prima ecco qui avevo messo tutta una parte sui compositi scusate se qualcuno soffre di problemi di splegge corro rapidissimamente sulle diapositive perché se no non faccio in tempo a toccare avevo preparato tante slide ma ci saranno occasioni per presentare queste cose interventi fatti da me insieme ad altri colleghi assieme ad altri collaboratori utilizzando questi materiali l'utilizzo di questi materiali si presta molto a dare resilienza capacità di rispondere a queste azioni sismiche delle quali purtroppo con le quali purtroppo ci dobbiamo confrontare allora ecco questo è l'argomento su quale vorrei spendere la maggiorità del parte del tempo del mio intervento sicurezza e conservazione sono concetti antitetici oppure no la domanda è retorica come si fa a pensare che siano concetti diversi che sono incompatibili tra loro è evidente se non c'è la sicurezza di una costruzione quella crolla e quando è crollata ci troviamo la conservazione delle macerie non la conservazione del bene e questo è quello che abbiamo visto c'è un problema enorme e mi fa piacere che il professor Brasi lo abbia sollevato è un problema veramente grosso dal punto di vista normativo perché c'è molta confusione c'è molta confusione in tutti noi mi ci metto anch'io teniamo presente io ho passato questi ultimi tre anni dall'attenzionamento in avanti in aula di tribunale non come imputato per fortuna ma come consulente o del giudice o di parte e lì insomma io in questi anni mi sono accorto che come la pensiamo noi è una cosa come la pensa il pubblico ministero e il giudice è una cosa completamente diversa per assicuro quindi è bene che ci chiariamo anche se non succede nulla siamo tutti sereni e tranquilli se succede qualcosa ci troviamo in un tunnel particolarmente come dire complesso ecco allora ci sono delle zone di sovrapposizione fra quello che io chiamo il mondo del ministero dei beni culturali e il mondo del ministero dell'infrasurazione ci sono delle sovrapposizioni relativamente allo stesso bene alla stessa costruzione questo edificio ad esempio meraviglioso stupendo ci sono sovrapposizioni perché è evidente che dal punto di vista del MIT c'è una richiesta di sicurezza dal punto di vista del MIT c'è una richiesta di conservazione allora è stata ideata questa soluzione qualche anno fa ma direi vero dal 2005 in avanti e fra l'altro Carlo Blasi era uno dei membri come me della commissione che ha scritto le prime linee guida del ministero dei beni culturali è stato preparato questo testo che voleva mettere insieme sicurezza e conservazione ma tutto sommato ci è riuscito in certi aspetti però ci sono come dire delle sprangiature ci sono aspetti che non sono stati chiariti salati perché è vero che le MTC dicono che per interventi di riduzione della vulnerabilità pirassismica si può fare riferimento a questo testo questo DM del 2011 adesso è vero che lo dicono per interventi di riduzione del rischio sismico attenzione per interventi di riduzione del rischio sismico che non vuol dire tutto vuol dire interventi di riduzione del rischio sismico allora per i carichi verticali il DM del 2011 non c'entra nulla quindi se nel caso di sopra vengono a bullare una ventina di persone per festeggiare un malbimonio ci cadono tutto e se abbiamo fatto una verifica noi il problema non è di competenza del MIC il problema è di competenza delle norme tecniche delle MTC che stabiliscono delle norme relativamente ai carichi verticali punto a prescindere dal sisma poi attenzione l'altra cosa che forse non è chiara a tutti mi riferisco ai giovani in particolare è che è vero che se ho a che fare con un bene culturale mi posso limitare al miglioramento e vale il DM del 2011 che ha una serie di facilitazioni chiamiamole così però è anche vero che io sono obbligato da queste norme dalle MTC a fare la valutazione della sicurezza e la valutazione della sicurezza le MTC dicono che è una valutazione di tipo quantitativo con una relazione io devo fare dei conti e dire è sicura l'uso può continuare oppure è sicura in questa porzione in questa parte non lo è l'uso deve essere limitato questo è previsto dall'NTC teniamo presente che quando si fa la valutazione della sicurezza chi si effettiva si assume tutta la responsabilità di quello che succede dopo questo va da sé una cosa che deve essere sufficientemente chiara è che le norme tecniche in Italia le fa il MIT punto non c'è da discutere le fa il MIT che ci sono leggi prima la 64 imprende chiamata legge sismica perché in realtà non era solo sismica ma poi la 380 lo dice lo esplicitamente dice le norme tecniche i nuovi e anche per i consolidamenti esistenti sono fatte dal Ministero dell'Infrastruttura se c'è il sisma è competente anche va sentito anche il Ministero degli Interni è quasi sempre il Consiglio sui lavori pubblici è una legge e questo è estremamente chiaro poi ci sono dei problemi è chiaro che le norme le NDC sono una cosa piuttosto complessa articolata e soprattutto nel caso dei compositi ci sono altre altre norme che si aggiungono l'altra cosa il problema delle norme stamattina Igeriardari diceva ma ecco il problema degli edifici in muratura queste norme devono essere aggiornate oppure no certamente sì non fosse peraltro che il fatto che le NDC degli edifici esistenti dicono vuoi fare il calcolo del tuo edificio che esiste rifatti ai metodi che si riguardano gli edifici nuovi già qui direi che abbiamo un problema è evidente che in un edificio storico che cose non si possono assolutamente aspettare in questa maniera qui sono un po' come dire anche la mia anima di Ciorentino esce fuori la polemica in molte cose si riconosce un tecnicismo esasperato che è del tutto di luogo in particolare per costruzioni e muratura di tipo storico i modelli che vengono impiegati qualche riflessione andrebbe fatto oltretutto tenendo conto del fatto che siccome il professionista è operato di centomila incombenze di tipo procedurale poi da finire che delega tutto al calcolatore alla figura del giovane ingegnere che si mette lì con i programmi di calcolo e allora si rischia cose che come dire vale meglio estendere un velo pietoso il professor Angelillo Maurizio Angelillo mi ricorda scritto una frase che di improbabili improbabili sover e strutture di murarie che sembrano costruzioni di gomma ecco strutture di gomma dalla push over la push over è uno strumento ormai che si usa quotidianamente si fanno tantissime analisi è un metodo piuttosto complesso piuttosto articolato che veramente insomma dal punto di vista scientifico è una cosa meravigliosa cosa è nata la push over la push over è nata per edifici in cemento armato l'hanno adattata alle costruzioni in muratura ma a queste costruzioni in muratura con queste murature regolari qui va bene nel momento in cui si ha a che fare con le nostre murature io ho qualche dubbio però qualche dubbio ce l'ho di usare il metodo oltretutto la modellazione a telaio che si usa nella push over implica dover trasformare una parete muraria in un pilastro allora qui io dico a vedere quello che è scritto della push over che il conte Barredi si rivolta nella tomba pensando che quella parete muraria che è un solido minimo bidimensionale viene riportata ad un elemento monodimensionale quindi qualche riflessione va fatta andiamo sul mondo del mic io posso arrivare a 16 e 40 vero? sì nel mondo del mic il mic ma nessuno nega che la legge di base del codice dei beni culturali dice in maniera estremamente chiara che la tutela del patrimonio dei beni culturali del paesaggio compete al ministro dei beni culturali la tutela tutela cosa vuol dire tutela ma prima una domanda scusatemi sempre la vena polemica ma d'altra parte a questa età rimane solamente il vero ma dico questa politica di tutela se uno guarda gli ultimi 30 anni ha funzionato nelle zone sismiche ha funzionato ecco se io dovessi spiegare a uno studente di prima media cos'è l'eterogenesi dei fini scusatemi se faccio questa citazione ma siamo nell'accademia di scienza quindi se dovessi spiegare l'eterogenesi dei fini giambottista vico napoletano fine seicento cioè le conseguenze non intenzionali di azioni intenzionali cioè io faccio una cosa perché voglio mandare diciamo l'evento in quella direzione ma più spingo in quella direzione e più le cose vanno in direzione opposta queste l'eterogenesi dei fini ecco se io dovessi spiegarle fare un esempio per far capire l'eterogenesi prenderei la politica di tutela dei beni culturali delle sue intendenze nella zona sismica cioè tutto quello che è stato fatto come descrizioni come norme eccetera eccetera qual è il risultato che ha ottenuto e va bene se non si fa prevenzione si raccolgono macerie e questo lo ricordo così così brillantemente così con tanta competenza quando Sor Blasi io eravamo nel stesso stanzone a Santa Marta a Firenze lui veniva dalla facoltà di architettura io dalla facoltà di ingegneria ma lui si era trasferito da noi ecco Sor Blasi era il più ingegnere di tutti gli ingegneri che c'erano lì dal punto di vista strutturale sono stato contentissimo quando ho saputo che se ne occupava lui ma tornando alla chiesa sono stati spesi due milioni e mezzo ma non gli euro quindi siamo dopo l'euro qualche anno fa si va anche a vedere l'altra chiesa lì vicino anche qui altri due milioni si è preso quasi tre milioni fare interventi di cosa stauro la prevenzione paga questo fatto che la prevenzione paghi ma proprio il centro di Norcia è la dimostrazione materica più evidente se voi andate per Norcia a vedere gli edifici che avevano la fortuna di non essere tutelati chi non hanno potuto fare gli interventi quelli sono tutti i piedi tutti qualche danno un piccolo danno di qua e di là ma 5 eventi con magnitudo superiore a 5 ci mancherebbe se invece andate abbiamo scritto tutto quanto su questo articolo tra l'altro ho scritto anche con altri colleghi di Napoli se andate a vedere il edifici tutelati vi accorgete che questa è la situazione come situazione anche imbarazzante sulla stessa piazza piazza Garibaldi lì nel centro di Norcia due edifici tutelati uno non tutelato i due tutelati sono crollati quello tutelato nessun danno bene questo odm del 2011 queste linee guida dei beni culturali hanno dato un contributo però vediamo anche certi aspetti che non sono diciamo non sono ottimali prima di tutto ricordiamoci che è una serie di indicazioni carattere c'è scritto non vincolante quindi quando voi assumete quelle posizioni che sono riportate in questo testo siete voi che vedete la responsabilità sono non vincolanti bene l'altra cosa da osservare è che questo odm del 2011 fa riferimento ancora all'NTC del 2008 c'è stato un aggiornamento nel 2018 che anno è nel 2024 non è solo questo il fatto che va tutto sommato dal punto di vista concettuale tra 2008 e 2018 le norme sono cambiate ma non tantissimo c'è un altro fatto che il DM del 2011 nel DM del 2011 ci sono quei criteri sugli interventi relativamente agli interventi che sono ancora erano quelli del 2005 sono quelli che abbiamo scritto io il professor Blasi e tutti gli altri che c'erano in quella commissione del 2005 è uscita poi nel 2006 che se è andata a confrontare i due testi quello è il 2006 il DM 2006 questo è il 2011 vi accorgerete se c'è solamente quella frase di differenza quindi stiamo usando oggi 2024 stiamo usando delle norme delle direttive che fanno riferimento a un qualcosa che era di vent'anni fa ora non è che sia cambiato il mondo ma per esempio gli FRCM non c'erano i compositi qui dentro intorno ai FRCM non c'erano insomma io credo che sarebbe opportuno che ci fosse un adeguamento di questa cosa ma le altre cose che non vanno qui dentro è la valutazione della sicurezza in termini di vita nominale ridotta è come dire è una cosa che tutte le volte mi fa bollire il sangue è un trucco matematico con il quale in definitiva si crea una sicurezza che in realtà non esiste perché non è vero che la sicurezza di una struttura in un certo numero di anni in un numero di anni maggiori sono confrontabili quello che dobbiamo confrontare è la probabilità annua di crollo e quelle chiaramente sono le stesse e la cosa questa non c'era nel nel 2006 non c'era è stata messa nel 2011 c'è questa frase che io non so ma i professionisti e io sono uno da quelli ma dico ma possibile che uno accetti queste cose qui c'è scritto che è spesso è opportuno accettare consapevolmente un livello di rischio sismico più elevato piuttosto che intervenire in modo contrario all'osservazione allora dal punto di vista della conservazione del bene siamo tutti d'accordo bisogna conservare bisogna accettare un rischio maggiore la domanda è ma a chi chiedono di accettare questo rischio chi è che rischia la sovrintendenza il funzionale della sovrintendenza chi è che rischia prima di tutto quelli che stanno dentro l'edificio no perché se gli cascano testi sì conservazione sì io sono della conservazione ma in seconda cosa il tecnico in volt il direttore dei lavori il collaboratore e ripeto poi si va in tribunale e lì troppo ci si accorge che la giustizia ragiona tutto in un modo diverso allora fra tutte queste diverse esigenze il vaso di coccio che sta tra i due vasi di ferro della sicurezza e della conservazione è il professionista per cui se succede qualcosa ci va di mezzo lui punto e lo sappiamo e lo vediamo quindi questa è una situazione che siamo andati avanti così per tanto tempo uno può anche andare avanti però ricordiamoci che le aspettative di sicurezza da parte della società nel suo insieme quindi poi da parte della magistratura sono quelle sono noi tecnici per la magistratura siamo i garanti della sicurezza noi siamo visti come i garanti della sicurezza c'è scritto in tante sentenze della Cassazione Cassazione penale quindi giurisprudenza e se voi andate a leggere la sentenza della Corte Costituzionale relativamente a questo caso all'Aquila vi accorgete che insomma dobbiamo ragionare dobbiamo discutere che per la giustizia non conta se mancano i soldi per fare l'intervento questi sono stati condannati si erano giustificati dicendo ma non avevamo i soldi per fare l'intervento non conta non conta se il bene è un bene tutelato e quindi io non posso fare l'intervento che farebbe necessario per mantenere no non conta nulla perché perché il giudice ma anche l'uomo della strada ragiona così se questa cosa non è sicura chiudi non la usi se tu la fai usare vuol dire che è sicura ma se crolla vuol dire che hai sbagliato questo è come ragionano ho sei minuti questa finora citando qui Francis Bacone tradotto Francesco Bacone questa è la parte costruttiva in realtà le norme buone ci sarebbero di buon senso ci sarebbero anzi ci sono e sono le leggi proprio le leggi che valgono per i beni culturali il codice dei beni culturali ha dentro una serie di indicazioni che sono assolutamente sagge e condivisibili e c'è l'obbligo della sicurezza c'è scritto nel codice dei beni culturali bisogna fare un'accurata operazione di prevenzione manutenzione e restauro per prevenzione si intende considerare i rischi del bene nel suo contesto una chiesa che sta a Cuneo e una chiesa che sta a Norcia uguale non sono la stessa cosa ma lo dicono loro lo dicono il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale la carta dell'ICOMOS 12 volte c'è scritto sicurezza chiedono un approccio multidisciplinare scritto sulla carta dell'ICOMOS che è un riferimento per il ministero dei beni culturali ovviamente questo approccio multidisciplinare ci deve essere in tutte le fasi quindi anche nella fase autorizzativa delle sovrintendenze perdonatemi questa facezza che vi faccio vedere questo è diogene che invece di andare a cercare l'uomo va a cercare la competenza strutturale delle sovrintendenze va bene vado in conclusione minimo intervento non significa non fare nulla o fare il meno possibile nella carta dell'ICOMOS c'è scritto fare il mio intervento vuol dire fare quello che è necessario per quella situazione per quel caso e questo si va a vedere anche la circolazione Ballardini ma anche questa è piena di cose di buonsenso distingue fra situazioni tranquille situazioni nelle quali invece bisogna intervenire fin da allora il buonsenso significa laddove ci sono difetti gravi bisogna intervenire quindi bisogna passare dal minimo intervento inteso come viene inteso purtroppo in certe situazioni fare il meno possibile a fare l'intervento minimo necessario per la conservazione del bene proprio per la conservazione del bene laddove ci sono dei difetti gravi questi sono alcuni esempi da dove ci sono degli effetti gravi delle situazioni diciamo di grave vulnerabilità spinte non contrastate smellezze eccessive situazioni di carico eccessive per questo povero pilastro in pietra sponga che era già lesionato che portava un carico enorme e che chiaramente nel 2016 è crollato bisogna cercare in sintesi quella firmitas vitroviana che è per noi importante questo è un articolo scritto nel 2016 e questa frase senza sicurezza non c'è conservazione io ci credo fortemente e bisogna che ce ne rendiamo conto e che comunque andiamo avanti per cercare di migliorare questa situazione altrimenti prossimi sismi prossimo c'è nulla da fare ma nei prossimi sismi bisogna cercare di fare qualcosa sicurezza e conservazione quello che è avvenuto nel passato ci ha detto chiaramente cosa accade quando avviene il sisma e se non ci ricordiamo chi dimentica il passato inevitabilmente è destinato a grazie si debba far accelerare il professor Borri in questa lezione di Mastro densissima di contenuti non solamente scientifici e tecnici ma oserei dire anche quasi filosofici proprio assolutamente di pensiero io chiedo scusa la terza scusa che volevo fare è nei confronti degli erogatori che seguono perché io ho un problema di treno a rientrare a Perugia per cui tra qualche minuto scapperò grazie grazie ancora mi dicevo che mi ha colpito molto il discorso del buon senso del professor Borri come il buon senso potrebbe essere applicato in tante attività in tante in tante azioni e che buon senso professor Borri secondo me non significa come lei che diceva la registrazione buon senso naturalmente significa anche fare in modo di limitare quello che lei definiva il rischio del tecnicismo numerico quindi il buon senso ci deve guidare molto spesso allora quando affidandoci al modello numerico fare una certa soluzione pensiamo se può avere buon senso quindi attenzione al discorso del buon senso poi poi altra cosa che mi ha colpito è quando lei dice c'è molta confusione a livello ministeriale le confido che anch'io stesso che ho a che fare con diversi ministeri mi rendo conto di quanta confusione ci possa essere all'interno di una stessa di diverse direzioni generali dello stesso ministero pensiamo quando dobbiamo pensare di mettere d'accordo il MIC col MIT e magari con il ministero degli interni lei ha citato che in alcune questioni anche il ministero degli interni partecipa per le norme tecniche quindi abbiamo i vice del fuoco più tutti quanti i dirigenti del MIT che dovrebbero avere questa responsabilità sulle norme tecniche di cui sentiamo tutti assolutamente un bisogno stringente ad un aggiornamento continuo perché i materiali evolvono in continuazione e le problematiche sono sempre più sentite condivido assolutamente con lei questa posizione grazie Angelo volevi aggiungere qualcosa come è concepito questo seminario non è concepito con la discussione perché gli interventi sono uno sequenza all'altro ed è organizzato così la prossima volta possiamo organizzarlo anche con ampia discussione ma questo non possiamo non possiamo cedere alla discussione perché non ci sono i tempi sono tutte relazioni che sono delle comunicazioni non sono messe in discussione io nell'intervento del professor Borri devo dire che mi aspettavo che parlasse dei compositi era la mia idea originaria perché la questione del materiale non è secondaria ora ultimamente insomma adesso lui ha citato che c'era un allievo della prima della prima media io dico un allievo della seconda media legge che nel Partenone gli inserimenti metallici hanno fatto la corrosione hanno spaccato tutte le pietre allora oggi si vede un progetto in cui si inserisce la barra metallica nel laboratorio allora che cosa che cosa dobbiamo dire la riflessione su quello che è accaduto è fondamentale però uno poi ne deve tener conto io veramente alla mia età adesso l'arciaio nella muratura non lo metto più non lo so ci sarà chi lo mette la questione poi che lui ha trattato se qualcuno ricorda io nella mia sintetica introduzione avevo richiamato la questione di San Francisco dove c'era il cartello che diceva gli ingegneri hanno detto che questa costruzione non è sicura quindi interveniamo questo cartello allora cosa significa che se non si interviene la costruzione non è sicura ma questo è certo quello che si può raggiungere è dare la consapevolezza a chi entra nella chiesa che entra in un ambiente che non è sicuro questo qui ci sentiamo il coraggio di dirlo allora il ragionamento finisce qui se io vado in una chiesa gotica con le catene lente la chiesa non è sicura allora ci vuole il cartello che dire prendetevi la responsabilità di entrare in chiesa oppure non entrate perché rischiate questa è la questione è qui va bene allora il prossimo intervento il prossimo intervento è quello del professor Pampanin resilienza sismica e sostenibilità bene il professor Pampanin proviene da Roma alla Sapienza e adesso ci farà il suo intervento grazie allora buonasera a tutti so che abbiamo poco tempo innanzitutto ringrazio anch'io con grande cortesia il professor Di Tommaso perché ha avuto una pensata ci siamo sentiti per telefono mi ha dato un tema e ho detto bello il tema era l'esoscheletro e ho detto bello per arrivare all'esoscheletro ho preparato una slide non è preparata sapendo che il professor Borri deve scappare tra poco ma è quasi intenzionale perché così in questa slide vi faccio tutto racconto di quello che arriva dopo se poi ci stiamo dentro nel tempo bene altrimenti avviamo una panoramica abbiamo parlato dobbiamo parlare o sempre di più si sta parlando di resilienza la cosa curiosa è che a livello accademico il termine resilienza è già diventato obsoleto prima ancora che si facesse il PNRR il piano nazionale di ripresa e resilienza ripresa e recovery resilienza e resilienza c'erano stati 10 anni 15 anni quasi 20 di valutazioni scientifiche analisi in cui si parlava di resilienza si parlava della curva di resilienza non era ancora stata quantificata non era ancora stata matematizzata non era ancora diventata la pushover ora quello che vi anticipo è con magari sorprese di qualcuno è che mentre noi ci siamo fermati oppure ci siamo dovuti evolvere come esseri ingegneri dalle tensioni emissibili gli stati limite dall'analisi dinamica modale alla pushover dalla pushover alla time history non lineare e la prossima evoluzione mi dispiace tantissimo che il professor Borri debba andare Antonio perché poi ti manderò alcune cose siamo ritornati indietro nella nostra evoluzione siamo arrivati al calcolo a mano non lineare noi siamo arrivati nella nostra evoluzione di competenza a fare quello che in passato si cercava di fare ma non si riusciva a ragionare in modo non lineare e quindi noi siamo in grado e se vi dico noi vuol dire che se i nostri studenti non sono ancora ingegneri riescono in un corso di studio a fare una pushover a mano è vero è cemento armato è facile è vero ma va bene anche per il telaio in muratura in cui invece che usare i tre muri me lo faccio a mano su un pezzo di carta i miei studenti sono in grado di farlo e non ditemi che sono una generazione di millennium rispetto ai boomers perché sono più avanti semplicemente li costringiamo a riprendere in mano i concetti di meccanica con l'evoluzione di competenza e di ignoranza controllata perché abbiamo una consapevolezza della nostra ignoranza che ci portiamo avanti e quindi ragioniamo in modo vado a faccia apposta a dire le cose in modo semiprobabilistico con un beta controllato in cui mi calcolo a mano un range di incertezza che vuol dire più o meno 20% la difficoltà è quella che diceva prima Antonio il professor Borri noi da ingegneri ragioniamo utilizzando la matematica come uno strumento per una scienza che è molto più complessa non è esatta in ambito legale non è visto così in ambito legale purtroppo quando poi si vanno a prendere queste delle decisioni e chi ci va di mezzo è l'ingegnere che se è crollato vuol dire che no se è crollato vuol dire che nella curva probabilistica c'è la possibilità che possa crollare anche dopo che ho fatto calco esatto perché c'è una probabilità del frattile noi non possiamo spiegare un giudice dovremmo che c'è il frattile del 5% che diventa 5 per il 1000 ma c'è la probabilità ma la realtà dei fatti è che l'abbiamo fatto in Nuova Zelanda spiegando al giudice come mai qualche cosa può crollare anche dopo che è stato progettato bene da norma spiegavo vostro onore in inglese quello che noi chiamiamo modello matematico è il passaggio dal nostro paziente a un qualche cosa che nel momento in cui viene fatto come modello abbiamo fatto un errore controllato nel momento in cui il paziente esistente viene modellato anche da un modello matematico il modello matematico non sbaglia lui il modello quello che gli diamo dentro viene calcolato matematicamente a meno di non aver fatto un errore a mano perché altrimenti il computer è di errore difficile farli quell'equazione riporta dall'input all'output in inglese c'è un modo molto carino di dire il tutto che è spazzatura viene buttata dentro spazzatura esce fuori cioè il modello matematico fa quello che tu gli dici ma rimane il modello allora è complicatissimo riuscire a spiegare a persone un conto è la persona non tecnica un conto è chi decide della vita di qualcuno del fatto che il paziente rimane la cosa vera tutto il resto è sbagliato e lo sappiamo lo dobbiamo accettare cosa fa l'ingegnere è cercare di lottare con questo compromesso di quanto è sbagliato il modello perché per definizione è sbagliato e cercare di minimizzare non andiamo nel funzionale matematico per cui ci sono dei minimi avete capito dobbiamo cercare di minimizzare l'errore che possiamo fare dal modello al paziente esistente allora in questa slide in cui vi ho detto che vi racconto tutto poi vi farò vedere i dettagli dobbiamo parlare di resilienza a partire da un paziente piace molto usare la metafora medica perché questa viene capita molto bene quando parliamo di un paziente che è affetto geneticamente da dei problemi sono dei problemi patologici dovuti alla genetica perché sono stati progettati questi pazienti con dei difetti che noi chiameremo oggi costruttivi con dettagli con delle carenze di armatura con la capacità di non riuscire a ruotare il ginocchio la geniera nodo tra vecolonna piuttosto che la caviglia in modo appropriato di non poter supportare carichi di fatica chiunque capirebbe la fatica durante una maratona di una persona fragile che ha 80 anni ecco questo è il nostro paziente che ha 80 anni è stato progettato pre-70 avete capito possiamo cercare di utilizzare certi principi per spiegare che se hai un problema genetico condivido totalmente me lo vai a sistemare io so già senza dover andare a spendere decine di migliaia di euro per andare a fare carotaggio del calcio e struzzo so già che negli anni 50 le barre erano lisce se qualcuno mi va a spendere dei soldi per andare a cercare che tipo di acciaio c'è e poi mi viene a dire che è una Q42 ma va e cosa pensavi di trovare allora lì il problema diventa rifacciamoci un attimo un'analisi invece che fare la storia dell'arte raccontiamo banalmente la storia del calcio estruzzo armato dal 1930 in avanti lasciamo stare la pre-compressione poi le aggiungiamo un po' dopo e spieghiamo come sono state codificati i progetti genetici di questi edifici quindi possiamo classificare a questo punto abbiamo delle classi di vulnerabilità ben definite perché abbiamo già la capacità di identificare il paziente anziano a 80 anni quindi stiamo parlando di cemento armato in questo caso calcio estruzzo armato è un pre-70 quindi avrai pilastrini piccoli e trave grandi non ci vuole un genio non dirmi che non ti aspetti pilastrini piccoli e trave grandi e che non dirmi che non ti aspetti mancanza di staffe nei nodi trave colonna che sono le connessioni tra il fusto e il braccio allora è ovvio che andando a semplificare qualcosa di complesso sembra quasi di banalizzare il nostro ruolo quindi gli ingegneri non servono perché se mi dici queste cose in 448 allora io ho maggior ragione prendo il computer metto mio figlio a giocare al modello al computer come se fosse un modello lo stiamo sviluppando è un modello diciamo un gioco al computer in cui il premio di livello è quando tu progetti sismicamente meglio e se voi date l'istruzione bene spiegate diventa come minecraft come fortnite ve ne posso citare un po' che non li conoscevo li ho imparati per una qualunque persone a non ingegnere se gli spieghi le regole riescono a imparare a progettare non sto dicendo una cosa folle sto dicendo che se noi riuscissimo a trasmettere la cultura di base della sismica se tu non me lo attacchi crolla ma va se tu non me lo confini si scoppia ma va se tu cerchi di intervenire con l'FRP per risolvere un problema di fatica al cuore non funziona cioè se tu cerchi di intervenire per evitare cicli di carico di un elemento quale la muratura che non ama per esempio la trazione quindi le accerzioni verticali danno fastidio ci vuole a volte il buon senso allora quello che noi dovremmo fare è cercare di convertire la scienza dei maghi dell'ingegneria sismica del passato nella bici culturale per cui tutti sappiano parlare di questo quello che vi sto dicendo l'abbiamo fatto in Nuova Zelanda e l'abbiamo fatto alla comunità nulozelandese che ha avuto un modo di comunicazione da parte dei giornalisti da parte del modo in cui si parlava dopo il terremoto in cui c'è stata la rivoluzione dal basso per cui si parlava di liquifazione cioè le persone normali parlavano di liquifazione così come parlavano del nuovo cellulare che è uscito e del fatto che ci fosse il sisma bonus ma questo il nostro pubblico non lo sa neppure andiamo avanti abbiamo un problema di resilienza riusciamo ad andare a creare questa curva di pushover cos'è la curva di pushover banalmente se la diagnosi di agignosco è la capacità di recuperare il perché cosa c'è di male a livello di patologie di questi edifici possiamo già classificarli semplicemente in questo caso specifico sapendo l'età sapendo quando è stato costruito sapendo che cosa non si sapeva quando è stato progettato quindi per sua definizione è più probabile che avesse quei difetti piuttosto che no la pushover è una prognosi è la capacità di fare una predizione della risposta della struttura a fronte di un certo evento a noi andremo a dire che un paziente fragile avrà difficoltà a superare l'inverno avrà una difficoltà a superare un virus di una certa intensità purtroppo la pandemia che c'è stata ha allineato un po' tutti con il concetto di fragile virus fragile vuol dire che anche se il virus non è grande cioè se anche l'ASAT non è alto la vulnerabilità conta di più cioè ci ha aiutato a spiegare queste cose che non riuscivamo a spiegare perché la gente era convinta che la sismica il rischio sismico fosse la mappa di sismicità e quindi era convinta che il problema non fossero i pazienti fragili che anche di fronte a un virus basso potessero avere un rischio elevato dopo la pandemia si è capito che la parte più importante è la vulnerabilità e quindi quello che io devo comunque fare è andare a proteggere ma attenzione si è capito con riferimento al coronavirus o a delle malattie quando questa metafora la trasformiamo sul costruito per qualche motivo il nostro cervello ragiona con il cattivo buonsenso di una volta con il cattivo senso da bar dicendo no ma quella per il mio fisico lo capisco se mi ritorni indietro non capisco più come mai mi parli di vulnerabilità indipendentemente dal tipo di virus come mai mi parli di andiamo a sistemarti i problemi genetici che hai perché sono gravi 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 ti basta poco per andare in crisi come mai non si capisca banalmente che le famose esposizioni degli integrali di convulazione che definiscono il rischio sismico sono banalmente le persone e i beni i beni sono banalmente le cose materiali e l'immateriale il valore culturale ce l'abbiamo tutto lì tutto da una vita declinato da una vita e fatemi fare la domanda che volevo fare fin dall'inizio quante persone trovo ingegneri alzate la mano è questo il problema è questo il problema presente architetti almeno grazie 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 che avete avuto la pazienza geologi geometri impiantisti ok fino adesso ho esaurito quelli che onestamente che non dovrebbero neanche venire adesso andiamo sulle parti importanti amministratori della pubblica amministrazione sindaci complimenti lei dica cosa eccezionale lei è un ibrido importantissimo c'è una persona tecnica che lavora nel contesto pubblico stiamo parlando di cose importanti le varie cose che non riesco a raccontarvi oggi ma ci sarà altro modo la rivoluzione nazionandese è successa perché al governo c'erano non dico architetti ingegneri non lo dico ingegneri nel senso che erano persone con un phd con un phd in altro era un geologo quindi il discorso era persone competenti nella ricerca che cosa hanno fatto hanno pensato che il programma di pnrr neozelandese non si chiamava così deve essere fatto come noi ragioniamo in ricerca cioè stato dell'arte che cosa ho risorse che ho a disposizione dove voglio arrivare creo gli obiettivi e poi faccio la metodologia banalmente è il metodo scientifico applicato la programmazione di una nazione è bello allora qui torno indietro perché non riesco ad arrivare al punto la nostra prognosi non sarà più fatta in futuro solo ed esclusivamente con la curva di capacità spostamento che ci dà un indice di sicurezza e adesso sappiamo bene che noi da questa curva forza spostamento non solo abbiamo un indice di sicurezza ma abbiamo anche la possibilità di calcolare le perdite economiche attese ingegneristicamente attese ingegneristicamente calcolate che sarebbe la PAM la perdita nua media se vi raccontassi che la PAM la perdita nua media introdotta nel febbraio 2017 con il decreto silva bonus viene dalla Nuova Zelanda perché nella stesura della parte italiana abbiamo raccontato che l'avevamo già la più a a meno questa è la tabella nuova zelandesa del 2006 perché era già stato introdotto il concetto che gli americani avevano provato a dire ti metto un cartello fuori dalla porta che ti dica tu entri a tuo rischio e pericolo e legalmente tu entri a tuo rischio e pericolo in Italia questa cosa non è che non la si può fare non la si vuole fare è molto diverso e perché non si vuole fare perché le persone non lo sanno che si potrebbe fare altrimenti direbbero hai ragione se questo fosse io accetterei il tutto e se vi raccontassi che allora questa curva di capacità che ci permette di calcolare l'indice di sicurezza e sotto all'uno non vuol dire che non ci puoi entrare ma vuol dire che la probabilità di collasso di quella struttura è molto più alta e questa è una grafica una tabella che noi in Neozeland avevamo e non è stata trasferita sapete che si dice perso nella traduzione ecco dall'inglese neozelandese il kiwi al si chiama kiwi proprio loro si auto chiamano kiwi ma non per il frutto per l'uccello particolare in traduzione in italiano quel grafico che diceva la verità cioè diceva guarda che essere un B una classe B non vuol dire che stai bene vuol dire che stai con una probabilità due cinque volte può diventare cinque dieci volte tanto andiamo a guardare i numeri edificio in muratura normata faccio un'intervista a professor Bori aiutami scusami se io dovessi chiedere a un ingegnere di turno mi dite una casa non un palazzo non un monumento la casa sull'appennino in muratura di che anno me lo dite voi la casa della nonna sull'appennino di cui siamo pieni quella normale non particolarmente quanto starebbe così occhio a livello di calcolo di sicurezza che coefficiente avrebbe che classe avrebbe perfetto allora noi abbiamo anche l'EF in Italia perché ci siamo autoconvinti che riusciamo a calcolare quanto fangoso è il fango quindi noi abbiamo la E l'abbiamo divisa in due pezzi perché quando la cosa fa proprio schifo si disgrega ti vado a dire ma c'è lo schifo schifo scurato che sono registrato e c'è lo schifo un po' meno schifo allora ritorno ma vammela a sistemare ma se tu sai che c'è un problema ma vammela a sistemare ma cosa mi vai a fare la push over le indagini sui materiali quando il problema ce l'hai di fronte agli occhi e prima di andare a fare quello che vuoi mi fai diventare il disomogeno omogeno quando è diventato un macroelemento allora incominciamo a ragionare ingegneristicamente altrimenti veramente il buonsenso comune ci fa mettere un pochettino di tutto allora noi in futuro tra poco andremo a fare dei calcoli di resilienza andremo a calcolare l'indice di sicurezza la perta economica e andremo a calcolare l'impatto di quell'edificio su se stesso di quell'edificio sulle persone che ci vivono e di quell'edificio quella comunità sull'intero paese della curva di resilienza che diventerà la push over dei prossimi anni la stiamo già facendo quindi avremo a breve questo poi cosa ci manca abbiamo dovuto lavorare su costrizioni dall'alto life cycle analysis questo grandissimo concetto di economia circolare sto banalizzando il concetto di green deal che ci arriva o meglio l'impulso del green deal quindi tutto diventare efficientamente efficientamente energetico deve essere la priorità assoluta la sostenibilità deve essere assoluta la sostenibilità condivido totalmente perché perché abbiamo scoperto non solo che è giusto ma perché tutto il resto è un corollario di quello conservazione e sicurezza assolutamente sicurezza io qui di solito chiamo sicurezza e sostenibilità mi vuoi raggiungere la sostenibilità? abbiamo fatto dei calcoli abbiamo dimostrato che in ambiente italiano che non è nel tedesco nell'olandese nel finlandese scusate la politicamente scorretta affermazione che sto facendo in territorio italiano se guardo il ciclo di vita della mia casa sull'appennino mi accorgo che c'è un'alta probabilità di avvenimento di un terremoto che me la può far danneggiare se non collassare il costo di riparazione di questa casa non è solo soldi ma è energia diretta e CO2 oioioi andare a considerare il ciclo di vita dell'edificato italiano in ambiente europeo in cui ci dicono che la sostenibilità deve essere la priorità assoluta e lo condivido totalmente adesso che facciamo le analisi e dimostriamo che allora grandissima priorità deve essere data sulla prevenzione sismica quindi dateci più di soldi perché l'Italia andrebbe in priorità nella lista questa cosa non è piaciuta improvvisamente sì è vero che abbiamo definito i criteri ma adesso che voi italiani come al solito riuscite a trovare un modo per prendere più soldi questi criteri li cambiamo un po' quindi andremo a dire che togliamo la sismica perché altrimenti no la sismica come un'inondazione come aver progettato qualche cosa che ha un problema di inalzamento del mare su 6 sottocosta questa parte riusciamo adesso a calcolarla e riusciamo a dimostrare che sicurezza statica sicurezza sismica indice di calcolo economico di quanto mi costerebbe ripararlo CO2 energia diretta che io vado a spendere andandolo a riparare improvvisamente diventa che l'obiettivo sostenibilità sfaccettato in un altro modo diventa resilienza sismica sfaccettato in un altro modo diventa io non voglio andare nella buca e dover risalire io non voglio la resilienza per il fatto che riprendo bene dopo si parla di new normal io il new normal non lo voglio stavo bene come stavo prima cioè il nuovo normale non me lo devi venire a dire dare io vorrei evitare la banalità cioè do resilienza evitando l'impatto ne ha parlato la professoressa prima ha parlato il professor Soborri è stato dimostrato matematicamente che il modo migliore per riuscire a raggiungere la resilienza è evitare l'impatto allora ci stiamo ridicendo la stessa cosa finalmente grazie a Europa che ci hai declinato i criteri di sostenibilità che sono degli algoritmi ci sono tre pilastri sociale, economico e ambientali si utilizzano dei pesi medie pesate si calcola veramente l'indice di sostenibilità e se noi mettiamo dentro tutto quello che può colpire il nostro territorio che è diverso da quello che può essere come hazard da un'altra parte ovviamente ci accorgiamo dell'importanza della riduzione dell'impatto sul nostro edificato allora che cosa possiamo fare sul nuovo e ne parlerò è ovvio non possiamo permetterci di costruire quello che abbiamo costruito fino ad oggi con le tecnologie degli anni 80 con le cerniere plastiche che si danneggiano e dobbiamo riparare il 50% del costo di costruzione di una nuova costruzione vado veloce perché so che essendo registrati poi si può andare piano e riascoltarlo ma abbiamo tanto materiale da coprire quindi non costruirò più non mi dovrà essere consentito utilizzare tecnologie obsolete per il nuovo il nuovo deve essere fatto tutto con tecnologie di nuova generazione quindi sismo resilienti a basso danneggiamento ne parleremo per l'esistente qua allora incominciamo a distinguere togliamo i monumenti togliamo i palazzi storici Antonio mi hai dato un suggerimento geniale perché nella genetica aggiungerò un non genetico che è tutelato o non tutelato cioè un genetico artificiale se tu sei tutelato hai più probabilità di avere un rischio sismico rispetto a non sei tutelato perché storicamente è dimostrabile che potresti nella tua anamnesi se io facessi un'anamnesi chiederei tutelato o non tutelato che già la cosa potrebbe è una battuta cinica scusatemi ma è la realtà dei fatti allora potrebbe effettivamente potrebbe effettivamente diventare sto andando avanti togliamo il complesso monumentale troppo complesso non facciamoci dire che è impossibile sistemare il territorio italiano perché ci sono i monumenti allora in questo momento li metto da parte se vuole una una linea guida a se stante non certo l'equazione del taglio del calciastruzzo armato applicato per cortesia poi palazzi storici stessa cosa mi prendo la casetta in muratura in cui vivono decine di milioni di italiani e che in cui potrebbero morire nei prossimi 50-100 anni migliori di persone e su questa cerco di dire o te la demolisco e vi tolgo tutto il problema evacuando i nostri centri storici c'è un modo banale basta dire non si va più a vivere in quel posto e i nostri centri storici saranno dei bellissimi cimiteri per i posti per guardarseli quando saranno ancora in piedi oppure cerco di fare qualche cosa in cui devo accettare un'invasività reversibile come fa a essere invasivo e reversibile o si solite si diceva che sei invasività è perché io ti disturbo non lo vedo in modo non posso più ritornare indietro è una bassa invasività per la struttura bassa invasività in generale per le persone che ci vivono dentro quindi questo è l'approccio ma è invasivo dal punto di vista del impegna tanto comunque il cantiere del tuo fabbricato tutto quanto ma guarda che quando io arrivo e ti metto una maschera questa maschera è un esoscheletro l'abbiamo chiamati anche noi contraforti è un contraforte un contraforte moderno che prende un po' le sembianze di un qualche cosa un po' più corposo perché già che ci metto dei contraforti incomincio a pensare se mettessi una maschera e questa maschera avesse un'altra maschera cioè la prima parte è strutturale un contraforte telaio la seconda parte è la maschera energetica sto cercando di raggiungere la sostenibilità energetica andando a utilizzare un sistema strutturale che mentre mi dà potenza esoscheletro fuori mi dà anche la capacità di proteggermi a cappotto poi ovvio se non hai bisogno di tutta questa parte scheletrica dal punto di vista sismico la riduci e mi fai solo un cappotto ma non andiamo a raccontare che noi abbiamo investito quello che potevamo fare meglio mettendo un vestito da cerimonia per andare a giocare a calcio cioè noi abbiamo messo dei vestiti belli a delle strutture che sono geneticamente compromesse e quindi stiamo solo aspettando di buttare via l'investimento sul vestito che sapevamo già a priori essere il punto adesso scorro velocemente il rischio che abbiamo parlato vi porto in Nuova Zelanda dove per uno di questi motivi la conoscete la Nuova Zelanda di sicuro per uno di questi assolutamente sapete che esiste ma non per il motivo più importante che è la sismica la Nuova Zelanda è quella che grazie per aver ricordato la progettazione in capacità ma essendo cittadino nazionandese adottato ci sono stati a 16 anni e tengo a dire che la gerarchia di resistenza cioè l'anello debole della catena l'ha inventato Tom Polly Bob Park e Tom Polly quindi sono Park e Polly che in Nuova Zelanda negli anni 60 hanno realizzato il primo edificio che avesse la cerniera plastica nella trave il fusibile nella trave il pilastro più grande della trave negli anni 60 l'hanno fatto noi ci abbiamo messo un po' di tempo se guardate il 96 il DM 96 già ne parlava ma in realtà c'era una frase che la gente fraintendeva perché pensava per la villettina la casetta non andrò certo a fare il pilastro grande e la trave piccola faccio come ho sempre fatto quindi in Nuova Zelanda un territorio particolarmente sismico dal punto di vista della pericolosità stiamo parlando di solle le placche tettoniche che si muovono in quel punto di 40 mm all'anno moltiplicate per 500 anni c'è una faglia che si rompe come un orologio ogni 500 anni quindi ha uno spostamento di 20 metri alla rottura al terreno ogni quando si rompe e ci sono queste evidenze di fiumi che sono stati spostati letteralmente in questi 20 metri quindi sismicità molto avanzata vulnerabilità è bassa rispetto all'italiano perché il costruito è recente 1750 1800 ma fondamentalmente tra 1850 e oggi è stato costruito con però una costruzione che richiamano l'Inghilterra di essere il british standard quindi inglesi non sismici british standard applicato in Australia poi applicato in Nuova Zelanda non ha funzionato bene in zona sismica allora negli anni 30 quando è avuto un terremoto importante la Nuova Zelanda ha deciso che la muratura non armata mi lo dico lentamente la muratura non armata perché esiste quella armata la muratura non armata è bandita in Nuova Zelanda come progettazione di edifici esistenti e qui la prima volta che sono tornato adesso mi spiace che Antonio sia via in contumaccio non posso permettermi non lo farai mai mi hanno detto e no tu non puoi andare in Nuova Zelanda a tornare e dire alla gente che la muratura non funziona non ho capito aspetta rispiegami io non posso dire che la muratura non armata funziona peggio della muratura armata si chiama tautologia non sto dicendo nulla di nuovo poi se hai voglia di fare un muro fatto bene edifici semplici in zona 4 con i muri fatti così con gli spinotti fatti così gli spinotti sono spariti avete visto gli spinotti edifici semplici in zona 4 della nostra normativa quelle prescrizioni di base che erano il buon costruire sono state tolte perché erano un po' banalizzare legare le mani agli ingegneri ma tu agli ingegneri hai chiesto se gli andava male avere un minimo di informazioni su come far lavorare come diaframma quel povero solaio in latero cemento con una maglia elettrosaldata che è chiamata in Nuova Zananda la maglia dei polli perché è la rete dei polli la maglia elettrosaldata che in zona sismica non può funzionare detto questo ritorniamo indietro viene abbandonata la muratura armata spingendo sulla muratura armata o la muratura confinata come fa anche in Sud America e si spinge su tante nuove soluzioni che nel tempo hanno dato dei risultati importanti quali sono i risultati importanti? è arrivata questa scossa di terremoto quanto ho? tre minuti due minuti quattro minuti quindi ho a fare cento slide in un secondo serie di scosse di cui si è parlato che cosa succede? succede che il terremoto è violento non ci sono morti nella scossa principale trollano però gli edifici perché la gente non si sta per sbaglio vivendo dentro di notte vivono in case in legno ma quando arriva una scossa di replica viene distrutta una città questa città che viene distrutta fa 186 morti contro la statistica avrebbe detto 3.000 4.000 5.000 sono 450.000 abitanti che vivono in questa città nel centro città 50.000 perché non è successo? perché chi doveva crollare è crollato nella scossa principale e per fortuna non ammazzato quindi i killer sono stati filtrati gli assassini gli edifici assassini e chi invece non doveva crollare perché è stato ben progettato ha fatto il suo dovere vado avanti il terremoto non legge i codici questa è una delle cose più importanti che Tom Polli continuava a spiegare cioè è inutile pensare di ingabbiare la conoscenza del fenomeno all'interno di 4 720 pagine 4 padri 720 pagine andiamo a lavorare sui principi vi voglio raccontare allora perché voglio arrivare in fondo all'esoscheletro edificio moderno anni 80 in Nuova Zeranda ci fa vedere quello che noi vedremo tra 30 anni quando i nostri NTC 2008 2018 si danneggeranno faranno questa cosa qua la più bella cerniera plastica mai vista al mondo è stata questa che abbiamo visto noi è la cerniera plastica che abbiamo sempre sognato dal laboratorio di vedere avevamo bisogno di avere edifici moderni colpiti da un terremoto importante in Italia quanti edifici moderni di questo tipo abbiamo? pochi distribuiti sul terremoto quando è successo si è cercato di spiegare alle persone che era esattamente quello che si voleva si sta sacrificando la macchina edificio per proteggere il pilota questa cerniera plastica la sappiamo modellare abbiamo fatto vedere a tutti che sappiamo modellare la macchina che si danneggia nel terremoto e poi abbiamo spiegato forse non ti avevamo detto che questo è il tuo salotto e lì c'è stata la rabbia la rabbia è dovuta all'ignoranza e all'impatto sociale di una città distrutta e demolita in modo controllato perché scusatemi se non l'avevavo mai detto ma noi queste cerniere plastiche non sappiamo ripararle non abbiamo la possibilità economica a volte oppure ce l'abbiamo e costa di più che costruire il nuovo oppure non abbiamo la possibilità tecnica perché dopo che abbiamo iniettato cerniere plastica di malta cementizia non è che facciamo ritornare elastico un acciaio che si è snervato in modo permanente e quindi abbiamo scoperto dopo il terremoto neozelandese il mondo ha scoperto ci sono problemi quali Haiti ci sono problemi quali nazioni che si considerano avanzate ma non hanno pensato che l'intera nazione ha subito in aggiunta le 186 vittime sono 186 vittime potevano essere 2.000 3.000 ma sono 186 vittime in aggiunta a questa ha subito un 25% di danno del prodotto interno lodo nessuna nazione al mondo sarebbe sopravvissuta a questo impatto economico perché è riuscita a recuperare per un ve la spiego male per un accordo contratto ibrido assicurativo tra il privato il governo che usa i soldi del privato il privato il privato con i soldi messi in cassa comune e assicuratori a livello mondiale altrimenti non sarebbe successo il che non vuol dire che dobbiamo introdurre l'assicurazione per la casa della nostra l'appennino vuol dire che non è sostenibile economicamente in Italia continuare a ricevere botte pugni 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 cercare di recuperare e ricevere pugni come lo abbiamo fatto negli ultimi 40 anni i numeri veri sono 350 miliardi di euro che moltiplicati per i costi moltiplicatori chinesiano che ci dice costo diretto costo indiretto tra 5 e 10 350 miliardi costi diretti di ricostruzione 1500 miliardi quello che noi abbiamo pagato in 40 anni sono 40 miliardi all'anno questa è tutta un'altra storia che ci sta dicendo che allora diventa ovvio che la mia resilienza vada in fondo che il mio sismo antisismico non è antisismico questo è l'NTC 2018 tutto il mondo fa così minimo da norma ora dovremmo fare meglio e per fare meglio dovremmo cambiare il modo di ragionare cioè progettare per un danno controllato a terremoti importanti e beh ce l'avevamo già alla lezione degli antichi terremoti ci sono il modo di costruire c'era si utilizzava è stato menzionato il tempo di Efesto che di scusatevi di ad Efeso il tempo di Diana che aveva un isolamento alla base si usava il rocking il rocking dei templi allora Christchurch Women Hospital grazie a Alessandro Inge Martelli che ha fatto vedere era isolato alla base ha funzionato molto bene l'isolamento alla base con l'head rubber bearing con il piombo interno è stato inventato dai nord-zelandesi non l'isolamento alla base e questa soluzione alternativa è ancora diciamo nord-zelandese siamo negli anni 90 rocking controllato di prefabbricato è l'evoluzione moderna del rocking dei tempi antichi Nigel Priestley Parche Poli Priestley studente di Parche Poli Priestley che poi va a San Diego diventa devo andare in fondo diventa il pioniere di questa tecnologia ho avuto l'opportunità 25 anni fa di imparare queste cose e poi fare diventare cavallo di battaglia per tante battaglie che vi farò vedere in questo momento vado 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 sta cambiando il mondo mettiamo i sistemi a basso danneggiamento diventano architettonicamente interessanti abbiamo dei fusibili plug and play che dopo un terremoto si staccano costruiamo edifici che sono non sismo ho dei video non ve li posso far vedere adesso non sono sismo russa sono sismo resistenti e vedete questo movimento di rocchia ecco qua non si stacca a rocchia è fondamentalmente utilizzabile di un'altra cosa 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 vado 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 ricostruiamo la città in Nuova Zanda tutto con queste nuove tecnologie non viene più utilizzata la tecnologia vecchia ricostruiamo in Italia tutto con le nuove tecnologie isolamento alla base controventi dissipativi di vario tipo non ho tempo ed ecco l'esoscheletro e vi faccio vedere un progetto un progetto esoscheletro un progetto l'idea è se queste tecnologie che si danneggiano poco diventano il mio esoscheletro dal punto di vista medico allora io utilizzo una tecnologia che si danneggia poco per supportarmi gravità e sismica e lo progetto in modo che lo faccia più ci attacco una maschera energetica il gioco è fatto andiamo a vedere cosa vuol dire vuol dire mettere insieme tutti i concetti che abbiamo di cappotti non cappotti ma andando a preservare il cappotto dal punto di vista sismico e proteggere la struttura esempio villaggio olimpico non verrà mai fatto l'abbiamo studiato con il professor architetto Lenci la studentessa bravissima Serangeli villaggio olimpico Roma andiamo a usare questi esoscheletri per proporre una soluzione che sia potenza e di architettonica di sviluppo di logge quindi avete anche un sviluppo volumetrico per varie configurazioni che possono permettere di avere potenza sostenibilità materiale legno e guadagnare uffici e questa è veramente l'ultima una scuola in cui andiamo a dimostrare che anche qualche cosa di brutto può essere recuperato ti tieni l'aperte brutta ma recuperi la funzione con questi giochi di logge molto interessanti quindi esoscheletro strutturale e energetico che mi permette di ridurre bolletta sismica energetica ho finito veramente abbiamo esoscheletro una parola sui compositi non hai detto una parola sui compositi era voluto volevi che lo dicessi no il titolo mi ha reso scheletri si si ma dico non è capitato di essere tangente al problema perché hai trattato tutti i problemi così in generale allora si i compositi ci ho giocato tanti anni fa e continuato a divertirmi a giocarci quindi ne conosciamo le potenziali e ne conosciamo i limiti se utilizzati bene gli interventi locali chiamiamoli calastrelli che poi si evolvono in compositi a me piace il concetto l'hai detto benissimo l'anticorrosione ma negli anni 90 guardavamo gli acciai inox per poterli usare come armatura e ci dicevano che avevano basso d'utilità li abbiamo provati pochi anni fa abbiamo cercato acciai inox a basso contenuto di carbonio e hanno un ottimo d'utilità perché costruiamo il calzestruzzo armato con l'acciaio corrudibile e non venitemi a dirmi che costa di più perché quando andiamo a guardare i numeri che sono stati senza calmiere numeri folli che sono stati utilizzati per fare una ristrutturazione non è certo quel 2-5% in più sul materiale che vi cambia il tutto grazie per l'attenzione vi manderemo del materiale perché ho dovuto coprire tantissimo il professor Di Tommaso mi ha dato una sfida importante esoscheletto ho detto sì ma per riuscire a spiegarli dobbiamo fare due passaggi altrimenti non si capisce sembra solo che andiamo a mettere delle maschere stile cappotto grazie 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 professore grazie per i contenuti e anche per la passione che ha dato che ha mostrato a tutti quanti a questo punto vedete io devo fare una mozione d'ordine siamo per lo più ingegneri dobbiamo dimostrare ai personale dell'accademia che il buon nome degli ingegneri si rispetta nel rispetto dei tempi quindi noi dobbiamo chiudere assolutamente per le ore 18 e 30 abbiamo tre interventi ancora che sono quelli del professor Coraboschi della professoressa Castellaro del professor Prota che si collegherà direttamente da Napoli ma sono le 5 e 20 poi ci sono alcuni aspetti conclusivi poi avremo il professor Giotta Levi che in collegamento è stato chiamato a dare anche un contributo conclusivo quindi professor Coraboschi a lei e qui ci sono gli esoscheletri si mettono davanti il cellulare così non posso sbagliare buonasera parlerò delle addizioni denominate esoscheletri con parziale corrispondenza alla zoologia parziale perché in zoologia l'esoscheletro è anche una corazza protettiva e non soltanto l'ossatura che dà sostegno la presentazione includerà anche gli esoscheletri del nuovo la definizione che vi propongo di esoscheletro per il costruito è questa sistema strutturale ex novo esterno all'edificio che con la collaborazione degli orizzontamenti esistenti fornisce una parte della rigidezza e della portanza alle azioni orizzontali che possono essere sismiche o eoliche a seconda dell'edificio può portare a terra una parte delle azioni verticali nel nuovo la definizione è la medesima solo che l'esoscheletro non è esterno ma al contorno e non una parte delle azioni ma tutte l'esoscheletro forse più emblematico è il centro Pompidù ho evidenziato la data in cui il progetto ha vinto il concorso per ricordare a tutti che il progetto è sessato il tino e infatti rivoluziona l'idea di museo da luogo austero e sacrale a spazio libero libero come l'arte che deve ospitare l'esoscheletro ha permesso di ottenere 7500 metri quadrati a piano per 5 piani che possono essere riconfigurati di volta in volta a seconda di quello che deve essere ospitato deve essere esibito nella mitigazione del rischio sismico tra i problemi ancora aperti ce ne sono due gli edifici il cui contenuto di pregio la cui funzione è importante e gli edifici che all'interno ammettono poche lavorazioni e poche modifiche i casi più emblematici per entrambe le categorie sono gli ospedali e molti edifici per la produzione alla seconda categoria appartengono anche molti condomini per la prima categoria spesso la prestazione più importante è lo stato limite di operatività ho sottolineato capacità effettiva perché i limiti della normativa sono generali se non generici per inciso i limiti della normativa sono fissati sul drift quando invece ci sono alcuni limiti che dovrebbero essere definiti dalla velocità ed altri dall'accelerazione per la seconda categoria l'unica soluzione è l'esoscheletro che però spesso è la soluzione ottimale anche se non l'unica anche per la prima categoria in effetti l'esoscheletro è la naturale risposta a molte richieste e come tale è sulla scena urbana come prassi ancora prima di quella teorizzazione che ancora manca naturalmente in assenza di un paradigma critico le applicazioni sono ancora delle monadi ogni applicazione sembra essere un nuovo inizio e molte architetture non sono riconosciute come esoscheletro pur essendolo ecco questa è un'architettura arcinota di uno dei maestri del ventesimo secolo che non viene riconosciuta come esoscheletro invece è un esoscheletro utilizzato per appendere una scatola interna mettiamo un confine gli involucri strutturali che rinviano le azioni orizzontali a strutture verticali interne non sono esoscheletri anche questo è un'architettura arcinota rencolas questo non è un esoscheletro infatti vedete c'è una struttura interna a cui vengono rinviate le azioni invece geograficamente l'esoscheletro confini non ne ha abbiamo visto Berkeley nella seconda slide e adesso siamo in Giappone a Tokyo questa frase di Calvino sintetizza la cultura nipponica riguardo alla conservazione questo discorso si intreccia con alcuni interventi sentiti prima in Giappone ogni 30 anni gli edifici vengono demoliti poi dopo i monumenti vengono ricostruiti tali e quali però con tecniche moderne bene l'esoscheletro promotore di una contotendenza storica è in atto un cambio di strategia nella prevenzione e nella conservazione il parallelo con gli esoscheletri del nuovo oltre a essere un riferimento per gli esoscheletri del costruito mette in luogo una doppia reciprocità prima è questa nel nuovo l'esoscheletro viene introdotto come soluzione architettonica nell'esistente come soluzione strutturale la seconda è questa se vogliamo nel nuovo quell'armonica equilibrio della trea di Vitruviana se vogliamo la concinitas dell'Alberti bisogna che l'architettonico consideri le potenzialità strutturali dell'esoscheletro nell'esistente se vogliamo che l'intervento non sia una misera e mera stampella bisogna che il progetto strutturale sia non solo parte ma proprio partecipe di un progetto architettonico che ci sia una pianificazione architettonica che consideri tutte le potenzialità dell'esoscheletro e quali sono queste potenzialità in effetti l'esoscheletro permette nel costruito una serie di benefici in forma integrata permette di incrementare le resistenze statiche e la capacità sismica permette di incrementare la rigidezza finalizzata agli stati limite di danno sismico ma soprattutto la protezione dell'esistente perché questo è il punto proteggere l'esistente con l'esoscheletro non è così facile per un fatto di rigidezza nuove strutture ovviamente non invasive degli spazi interni lavorazioni che non interrompono l'uso maggiore affidabilità nella previsione delle risposte sia strutturali che dei costi perché la struttura è nuova gli elementi danneggiati dalla dissipazione possono essere sostituiti quindi progettati come fusibili l'efficientamento energetico la rimodulazione dei caratteri architettonici essenziale e se sono tridimensionali permettono interventi sul distributivo in forma di nuove addizioni esterne e se vogliamo rimanere nell'analogia però l'esoscheletro presuppone anche un endoscheletro ora salvo eccezioni nel nuovo l'endoscheletro sono tutte le strutture orizzontali e nel nuovo sia l'esoscheletro sia l'endoscheletro sono ex novo altra reciprocità nel costruito l'endoscheletro è il sistema strutturale esistente quindi abbiamo l'esoscheletro ex novo e l'endoscheletro esistente bene l'endoscheletro esistente pone tre categorie di vincoli che dettano e condizionano e a volte non rendono possibile il progetto dell'esoscheletro quali sono i vincoli? il primo gli orizzontamenti che sono parte integrante dell'esoscheletro questo vale per il nuovo come per il costruito nel costruito l'esoscheletro scusatemi l'orizzontamento è stato progettato per lavorare su campi di solaio la traslazione orizzontale ultima dell'esistente che spesso è modesta scarsa soprattutto quella riconosciuta dalla normativa le porzioni non occupabili impianti in altezza dall'esoscheletro questo dà luogo a irregolarità nel nuovo e nel costruito ma nel nuovo stiamo progettando facciamo fronte nel costruito queste irregolarità possono implicare extra sollecitazioni che complicano la situazione ultimo aspetto teorico poi cerchiamo di vedere qualche esempio di ragionarci sopra guardando gli esoscheletri sulla scena urbana è possibile separare gli elementi di permanenza dai caratteri di variazione e questo dà luogo ai tipi permette di definire i tipi che rappresentano una matrice un modello per poi progettare possiamo classificare gli esoscheletri in base alla terza dimensione se B o tridimensionali in base al materiale ecco tutti i materiali vanno bene per il nuovo a mio parere il legno massiccio no per il resto tutti i materiali per l'esistente in più abbiamo farò vedere qualche esempio la muratura armata e i rinforzi esterni e poi essenziale il funzionamento succede? beh sia assiale flessionale o misto allora uso delle architetture arcinote per esemplificare i concetti sul nuovo e poi vediamo come si traducono sul costruito perché ripeto nel nuovo noi ci realizziamo le strutture come ci servono qui siamo nel viare della moda a Tokyo e vediamo la prima categoria di vincoli l'orizzontamento cioè l'esoscheletro la struttura è isolata sismicamente non ha nuclei per le scale o per l'ascensore per cui l'esoscheletro porta il vento i terremoti frequenti molto frequenti e ovviamente i pesi carichi gravitazionali ecco prima funzione dell'orizzontamento rinviare le azioni orizzontali e paramenti esoscoleretici che riprendono nel piano perché sono quelli più efficienti seconda funzione interdire l'instabilità fuori dal piano dell'esoscheletro l'orizzontamento lo blocca l'esoscheletro o a flessione o a sforza assiale ma può sempre instabilizzarsi c'è poi una terza funzione l'esoscheletro in questo caso ma in molti altri casi è costituito da maglie aperte bene la porzione periferica dell'orizzontamento chiude la maglia e la rende più efficiente qui il funzionamento è flessionale perché la maglia non è triangolare ma è sempre più efficiente che una maglia aperta altra architettura arcinota ecco siamo questo esoscheletro deve portare i pesi tutti il vento e anche i sismi perché il Connecticut poi sismico perché non va avanti non ho il pollice felice ecco vedete che questa costruzione è proprio una teca per i libri antichi e se vogliamo questo è un esoscheletro puro perché gli orizzontamenti sono esterni anche loro ma insomma sono un fatto di nome dov'è che devo spingere l'orizzontamento funge al piano rigido cioè ripartisce l'azione ai paramenti esoscheletrici che la prendono nel piano ecco vediamo esemplifichiamo il funzionamento questa è la costruzione in fase di realizzazione prendiamo un ideale striscia l'azione orizzontale vento sisma che sia viene rinviata agli orizzontamenti l'orizzontamento superiore scusatemi ma non riesco ad andare avanti dov'è che sto sbagliando forse faccio così ecco fatto torniamo con i vecchi sistemi l'orizzontamento è un piano rigido cioè infinitamente rigido nel piano e la trasmette paramenti esoscheletrici che prendono l'azione lavorando nel piano quindi lavora a flessione ma in modo confacente lo stesso per i carichi verticali è una mega firende è una mega traverforata per carichi verticali vengono presi questa è la prima maglia che si deforma ovviamente tutte si deformano in questo modo quindi un esoscheletro flessionale ora nel nuovo abbiamo detto che l'assenza di strutture verticali nel corpo di fabbrica essere il motivo per cui si introduce il centro Pompidou lo esemplifica abbiamo parlato di integrazione tra progetti architettonico e strutturali questi sono gli ingegneri che l'hanno progettato come noto quindi non occorre dire altro guardiamo il discorso del piano rigido che penso sia interessante per il centro Pompidou gli orizzontamenti sono labili nel piano sono appesi per cui abbiamo un lato lungo di 166 metri che deve rinviare il vento non è sismico a Parigi ai lati corti e questo come avviene? avviene col piano rigido nella terza dimensione perché questo esoscheletro è tridimensionale poi vabbè l'endoscheletro c'è queste possenti reticolari ai piani qui lo vediamo la reticolare di piano che un po' va dentro e un po' va fuori da un lato e dall'altro lato è tutta fuori qui saliamo ai vertici assoluti dell'architettura la Crown Hall Miss Van Der Rohe questo è un edificio ad aula 2500 metri quadrati senza strutture interne quelli che vedete sono allestimenti non sono strutture è un esoscheletro anche questo e altre immagini la struttura sembra semplice questa è la struttura e invece è tutt'altro che semplice Miss ha potuto dare corpo al suo famoso motto Lessi Smorsolo grazie a un eccellente progetto architettonico di cui non ho notizia ecco questa è una foto del vecchio Ludovico però con il plastico l'ingegnere che ha fatto un lavoro altrettanto è eccellente non si sa almeno io non so chi sia per cui come funziona qui non abbiamo il piano rigido perché come vedete la copertura è appesa non c'è il piano rigido sembra per la normativa che se non c'è il piano rigido finisca il mondo no la struttura lavora per telai trasversari e telai longitudinali esoscheletrici quindi le azioni orizzontali vabbè qui sono il vento ma non cambierà nulla se ci fosse il sisma vengono portate per aree di influenza quindi un esoscheletro a funzionamento interamente flessionale ecco avevo presentato alcuni esoscheletri fatti da me un paio per fare vedere esempi sul nuovo per fare vedere esempi di non integrazione con il progetto architettonico poi per ragioni di tempo li ho tolti rimango con questo questo è un progetto che ho fatto col caro amico Gianluca ossia è un adeguamento statico e sismico di un plesso scolastico a quei tempi non lo si chiamava esoscheletro è un esoscheletro con endoscheletro l'ho lasciato questo perché esemplifica tutti i i vincoli questo è lo abbiamo visto prima lo stato ante opera ma adesso è questo post operam ecco questo è un esempio un esoscheletro solo strutturale non è stato previsto dalla committenza il progetto architettonico e questo è uno dei difetti anche stamattina abbiamo visto stampelle non progetti architettonici e questo pure l'orizzontamento era carente non solo staticamente ma anche il suo funzionamento per cui ho inserito abbiamo inserito Gianluca e io un endoscheletro profili a sezione chiuse lamiere piegata a freddo e col form che hanno reso idoneo sia come piano rigido non come piano rigido sia anche questo funziona ripartendosi sono terai trasversali che si ripartiscono all'azione sismica per aree di influenza e in più l'adeguamento statico molto importante è la seconda categoria di vincoli di cui si è parlato prima non è che l'esoscheletro possa essere sempre il coppia sana immaginiamo ma solo per ragioni positive perché io non credo che sia un metodo credibile per il costruito neanche lontanamente immaginiamo il pushover o meglio l'analisi statica non lineare lo spostamento delta di un punto di controllo quindi per ragioni espositive delta ultimo dell'esistente spesso è piccolo separiamo le variabili per la normativa è molto piccolo se facciamo dei conti un po' più affidabili un po' più grande lo è bisogna che l'esoscheletro raggiunga il limite elastico il delta elastico prima che l'endoscheletro la struttura esistente collassi perché se no l'esoscheletro non dà la massima capacità e non dissa e non è facile questo allora che cosa abbiamo fatto questa è la cosa che mi capita più volte di fare un sistema nominale per la relazione di calcolo e lì a portare i carichi è soltanto l'esoscheletro e l'endoscheletro non esistente poi il progetto che è la cosa importante perché quella è la realtà tiene conto della traslazione ultima effettiva dell'endoscheletro che è stata un po' migliorata con qualche intervento e poi grazie a queste piegate a freddo profili saldati riempiti di calcio astruzzo connettori la struttura esoscheletrica ha una rigidezza tale per cui va in campo in elastico prima della crisi della struttura esistente questo è un problema e qui c'è anche poi la terza categoria di vincoli in parte l'abbiamo ossia la parte sul cortile è diversa da quella sul giardino proprio per esigenze architettoniche questo dà luogo anche a irregolarità in parte sono state limitate tagliando l'edificio in parte ci sono porta a sintesi il discorso degli orizzontamenti perché è molto importante l'orizzontamento lavora sulla luce di due strutture verticali consecutive su questa luce si inflette momento ad asse verticale e a taglio nel piano con scorrimento non interessa la rigidezza fuori dal piano ai fili dei discorsi che stiamo facendo ecco l'esoscheletro costringe l'orizzontamento a lavorare su grandi luci ma l'orizzontamento esistente ce la farà è tutto da vedere queste sono le azioni orizzontali questo è l'esoscheletro questo è l'orizzontamento e questo pone due problemi di resistenza e di rigidezza la rigidezza a sua volta riverbera sull'azione che deve essere ripartita all'esoscheletro anziché alla struttura esistente e quindi abbiamo parlato di resistenza ecco questa è la struttura esistente la quale ha intanto una freccia corrispondente a quella dell'esoscheletro e in più poi c'è una freccia ulteriore perché anche l'esoscheletro dell'orizzontamento e poi c'è una freccia ulteriore perché anche l'esoscheletro si sposta spesso la rigidezza però è carente solo dopo che l'orizzontamento si è rotto labilizzandosi quindi vediamo come si può rompere si può rompere a flessione una fessura che poi si propaga oppure a taglio una fessura che poi trancia tutto noi vorremmo che l'orizzontamento avesse questo comportamento meglio se questo bisogna domandarsi fino a che livello è garantito vedete che ho sottolineato più volte resistenza perché la normativa ci ha messo dieci anni per accordi al seno che questa è una cosa importante quella del 2008 non parlava di resistenza solo di rigidezza questo è un esempio che mi è capitato ma non è l'unica l'aquila di difficile l'aquila di solai che funzionando a piano rigido si sono rotti fessure passanti verticali il campo di solaio lo zanghizzandosi la diagonale si è allungata e si è rotta ora aumentare la resistenza di un orizzontamento è molto facile però richiede lavorazioni interne e non sempre sono possibili più complesso è aumentare la rigidezza perché non è che possiamo gettare una soletta perché poi saltano le quote vabbè fa eccezione la copertura perché si può lavorare all'estadosso questo è sempre un caso fatto con l'amico Gianluca ossia anche questo di fatto è un esoschietto però ve lo presento da questo punto di vista il solaio era debolissimo di fatto era l'atterizio armato cioè il calcestuzzo serviva solo per collegare l'armatura senza capo però è stato sufficiente mettere dei rinforzi in materiale composito per aumentare la resistenza perché finché non e come il cemento armato quando si fessura perde un po' di riggezza diciamo che la di mezza è in realtà di meno ma non di più stesso discorso in questo caso l'importante è che non si rompa che non si labirizzi è più complesso se abbiamo più più orizzontamenti più impalcati come si fa a bloccare l'inflessione dell'orizzontamento beh con delle strutture esoscheletiche sul perimetro sì certo però devono essere grosse perché la luce su cui lavorano è grande non basta devono essere controventate perché se no sbandano quindi insomma lo si fa ma l'esoschietro assume la sua importanza e andrebbe progettato ripeto con una progettazione architettonica sappiamo cosa dice la normativa sul piano rigido i 4 cm di capp ecco sull'esoschietro non vale se questo è l'esoscheletro che cosa succede ecco qui vediamo il discorso completo azioni orizzontali prima categoria di vincoli l'orizzontamento che si inflette oppure addirittura si rompe la struttura esistente lo segue bisogna che ce la faccia che continui a portare i carichi verticali con questa traslazione poi seconda categoria di vincoli anche l'esoscheletro si sposta che è una struttura se non è assiale soprattutto tutto ha un suo spostamento l'orizzontamento lo segue anche la struttura orizzontale bisogna che non schianti con questo con questo spostamento non è tutto facile seconda categoria di vincoli si può rompitrattare la luce con delle strutture esterne certo se la terza categoria di vincoli ossia il fatto che non si possano occupare certi spazi ci lo impedisce si possono mettere ai vertici di solito sono le aperture che lo impediscono e mettere delle strutture orizzontali benissimo però ricordiamoci una cosa di cose ovvie perdonatemi però forse la scaletta l'ordine in cui le metto sono di un qualche interesse se questa è la forza orizzontale gli elementi in nero che vedete sono compressi ora quello contro l'edificio non ha problemi quello lontano bisogna che qualcuno gli impedisca di sbandare fuori dal piano dello schermo quindi ancora una volta tutto va da verso dello schereto con una sua dimensione se vogliamo tridimensionale questo è un edificio fatto all'Aquila negli edifici intelaiati che cosa succede che i tamponamenti spesso sono da sostituire in più valutare la capacità residua della struttura esistente è pressoché impossibile e allora che cosa ho fatto in questo caso e in altri casi ho sostituito i tamponamenti con una vettura armata un po' forzata al telaio questa qui vedete dei mattoni duri biscotti si chiamano così e ho calzato la muratura alla struttura esistente che è diventata nominalmente non portante in realtà come vedete l'ho rinforzata come vedete anche qui l'ho rinforzata quindi che cosa ho fatto ho fatto questo un esoscheletro esterno per le azioni orizzontali e parte delle azioni verticali poi ho messo la stessa cosa anche nelle parti comuni e quindi anche tutti i carichi verticali vengono portati da queste strutture ex novo questo è un caso ad Amatrice anche qui ce ne sono tanti gli edifici in muratura mettendo i rinforzi in materiale composito diventano muratura armata quindi un esoscheletro capace di assorbire le azioni sismiche una cosa che sto facendo molto in Lombardia perché molte costruzioni hanno le strutture verticali esterne in mattoni mettendoci rinforzi in materiale composito si ha un miglioramento sismico senza invadere le unità immobiliari ritorniamo al caso giapponese ecco questo è tridimensionale però qui la tridimensionalità non è dell'esoscheletro sono quelle in stabilità impedita e bidimensionale la tridimensionalità è stata utilizzata per fare una nuova facciata portare dentro gli spazi che prima erano fuori quindi per l'efficientamento energetico andiamo verso la chiusura vediamo alcuni esempi di esoscheletro ecco qui la firmitas forse c'è l'utilitas in parte perché molte aperture vengono chiuse della venustas non ne parlerei qui vedete la scritta come l'ha fatta Vitruvio e come viene riportata sulla medaglia del premio Pritzker ecco non credo che questi progettisti vinceranno il premio Pritzker qui vediamo due citazioni arcinote dell'architettura ora sembra che la reticolare d'acciaio eluda al nesso forma funzione di Sullivan sembra che la funzionalità non sia una condizione sufficiente tre minuti invece non è così occorre una progettazione di alto valore architettonico peraltro anche quella strutturale perché governare il diagonale compresso non è così immediato faccio vedere un'architettura meno nota ecco queste sono solo reticolari come vedete questa è una progettazione di pregio vedete i risultati architetture note ce l'abbiamo tutti quella di sinistra è arcinota non è esoschetto quella di destra è di sinistra questo è un caso e con questo vado a concludere uno degli esempi più eclatanti in cui la reticolare metallica dà logo architetture che sono di valore che suscitano emozioni sculture abitate e il diagrid che è comparso e debuttato nell'architettura non nelle strutture nel 2004 però però ovviamente di Norman Foster cos'è il diagrid una maglia quadrangolare che con l'orizzontamento dà luogo a due maglie triangolari qui possiamo immaginare che ci siano delle cerniere come avere una reticolare spaziale ora noi sappiamo che tra una reticolare e lo stesso spazio pieno la rigidezza e la portanza sono quasi le medesime solo che se l'involucro fosse pieno porte e finestre non ci sarebbero ecco che così facendo questa è una soluzione brillante qui vediamo l'attacco a terra prima avevamo visto l'attacco al cielo sono sublimi Norman Foster è un grande architetto seguito nel 2006 dalla IRST sull'ottava strada che per me ci sono gli edifici più belli sull'ottava strada di New York ecco sicuramente questa non è un'invenzione perché vedete che il diagrid è stato inventato sulla fine del XIX secolo e quello di sinistra esiste ancora poi ha dato luogo delle variazioni sul tema questa è una e ha dato luogo e vabbè non potevo non citare Elzor De Moroni in questa carrellata di architetti non dico nulla di nuovo anche questo è un diagrid parziale perché gli orizzontamenti vedete sono in parte che c'è anche un po' di cariche gravitazionali che sono portate anche da uno scale però vedete qua ci sono gli orizzontamenti quindi il diagrid non è da orizzontamento orizzontamento però un po' di funzionamento al diagrid ce l'ha e niente vabbè due cose rapidissime dico che non le dico le dico solo le sintetizzo queste sono altre sono forme inedite di che a cui il diagrid ha dato luogo volevo dire due cose ma le dico poi le sintetizzo primo quando noi diciamo 0,6 di sicurezza errore gravissimo perché questa è la relazione che che governa scusatemi questa non c'è è questa se noi andiamo a fare i conti è il 30% la sicurezza anzi di meno non il 60% seconda cosa e con questo concludo la PAM la perdita annuale media può essere utilizzata per la progettazione dell'esoscheleto ossia per vedere che cosa convenga a livello economico fare se conviene irrigidire oppure irrobustire l'edificio ecco chiedo scusa se ho debordato allora il professor Prota probabilmente ci sente lo abilitiamo all'intervento e gli passiamo direttamente la parola a lei il professor Prota sì buonasera buonasera a tutti io vedo solo il tavolo dei relatori saluto il nostro moderatore e soprattutto il professor Angelo Di Tommaso che ringrazio per l'invito e tutti coloro che sono in sala rassicurandoli per il fatto che cercherò di contenere cioè contermo il mio intervento circa 15 minuti perché ho capito che poi c'è un tour che deve iniziare quindi provo a condividere le slide mi potete dare conferma che si vedono penso di sì si vede giusto posso sì puoi procedere perfetto grazie ringrazio allora io proverò in questi pochi minuti a condividere con voi i risultati di alcune esperienze che stasera mi faccio portavoce ma sono esperienze diciamo di ricerca ma di una ricerca che come vedrete ha avuto molte connotazioni legate a collaborazioni con il Dipartimento della Protezione Civile o con altri enti istituzionali istituzionali sui quali ci siamo cimentati mi sono cimentato ho collaborato a sviluppare prodotti di vulnerabilità a scala urbana quindi parliamo analisi di vulnerabilità in cui non si esamina un edificio di cui si conoscono o un ponte in cui si conoscono i dati di dottaglio ma con come si dice con pochi dati con informazioni povere si prova a dare una misura della vulnerabilità a scala territoriale e in questo senso mi piace richiamare un'esperienza che si è fatta qualche anno fa qui vedete gli enti promotori c'era la fondazione Narcass io ero in questa iniziativa vediamoci una scorsa forse alcuni dei presenti hanno partecipato fondamentalmente era un'iniziativa che mirava a sensibilizzare i cittadini tramite una ricognizione di si poteva richiedere che gratuitamente qualcuno in tocchi con l'ingegnere architetto venisse proprio stabile per compilare questa scheda quindi qua vado a questo tema cioè queste analisi si fanno normalmente raccogliendo dei dati che si mettono insieme in delle schede che si fanno cioè questa è una tradizione italiana quella di diamoci una scorsa è una scheda che metteva insieme informazioni provenienti da tre fonti abbastanza consolidate la scheda Enes che conosciamo perché la usiamo nel post terremoto una scheda Cattis che dopo vi dirò la scheda CLE quella delle condizioni di emergenza allora in questo caso che cosa si faceva con informazioni raccoglite con un rilievo molto veloce con un sopralluogo rapido che non era un sopralluogo di dettaglio senza avere molte informazioni si dava al condominio un'informazione definendo una classe di chissi con un semacolo per dare la misura del fatto che non si trattava di una valutazione quantitativa ma di una valutazione che fondamentalmente partendo dal confronto tra la progettazione l'epoca di progettazione dell'edificio e l'attuale pericolosità sismica del sito poi raccogliendo informazioni differenziate in funzione del tipo di disimplice armato muratura fondamentalmente riusciva ad arrivare qui vedete l'estensione territoriale sul terreno in campo nazionale di questa attività molto impegnativa tanti tecnici coinvolti dava al condominio una prima misura e quindi il messaggio era se il semaforo è rosso per il tuo fisio è abbastanza urgente che si rivolge a un professionista che faccia una verifica di dettaglio se non le norme tecniche e magari poi chiedi anche informazioni su eventi necessari se è giallo è un po' meno urgente se è verde puoi muoverti con un po' più di tranquillità ovviamente come potete ben immaginare la torta che riassume i risultati e la prevalenza rossa perché siamo in un paese ad alto pericolosità sismica abbiamo un edificato molto vulnerabile più recentemente un approccio di questo tipo è stato utilizzato e io ho coordinato un progetto nazionale in una convenzione tra RELUS e il Dipartimento di Polizia di Sicurezza quindi la Polizia di Stato qui questi strumenti speditivi queste analisi speditivi sono servite all'amministrazione per creare un ordine di priorità con cui poi muoversi per avviare verifiche di vulnerabilità di stagio siamo di fronte al caso di un soggetto che ha uno stock immobiliare molto grande deve capire come lo studi in ordine di priorità perché non può fare tutto insieme vedete si tratta di molti complessi che arrivavano a 1200 quasi unità strutturali un'esperienza che ha coinvolto dentro l'università che sempre usando delle storie ci siamo ispirati molto a quella che avete visto prima ha rilevato le caratteristiche principali di queste unità strutturali capirci con un sopralluogo che si è fatto una volta accogliendo poi delle piantine con l'occhio molto spesso con l'utilizzo poi di modelli meccanici semplificati qui vi faccio l'esempio di cemento armato quindi usando quello che avevamo nella cassetta degli applausi perché ciascuna unità l'aveva sviluppato negli anni precedenti siamo riusciti a ottenere dei risultati che poi sono rappresentati in questi diagrammi addirittura per ciascuno dei quattro stati limite di norma abbiamo dato all'amministrazione diciamo un giudizio quindi abbiamo usso in un certo ordine questi mobili per cui così come era accaduto qualche anno fa con un meccanismo molto simile sulla rete ferroviaria italiana l'amministrazione potrà procedere adesso seguendo un criterio che è basato su queste valutazioni che però hanno un fondamento quantitativo in questo caso la pubblica sicurezza la nostra attività è arrivata ancora più avanti stabilita la vulnerabilità abbiamo valutato diverse strategie di intervento prima di parlare di interventi locali e miglioramento ed adeguamento quindi abbiamo fatto vari scenari e a questi scenari abbiamo accoppiato anche dei posti in modo tale che ci fossero delle idee molto chiare su qual è il budget in funzione dell'obiettivo che l'amministrazione vuole raggiungere quindi l'utilizzo di questi metodi speditivi per supportare un cosiddetto stakeholder nelle decisioni strategiche sul proprio stock immobiliale infine vengo un po' più ai giorni nostri perché vi faccio vedere questo divano del progetto Cartus il progetto Cartus da parecchi anni a più dici anni sviluppiamo il dottore Luz finanziato dal Dipartimento di Protezione Civile forse un work package che è coordinato dal collega Giulio Piccolo della Università di Napoli Federico II per cui ha involto molte università italiane dall'elenco dei relatori se sono tutti in casa credo che alcuni conoscono bene questo perché sono protagonisti di questa attività Luz Cartus cos'è? è una diciamo è una ricerca che finora ha coperto circa 1500 comuni italiani che vuole creare quello che in inglese si chiama l'invento inventory cioè mettere insieme un sistema di dati che consentono di conoscere a livello locale le caratteristiche dei benefici sappiamo che i nostri modelli sono applicabili in dettaglio a un singolo edificio lo sforzo qui è quello di conoscere al meglio l'edificato in modo tale da poi regionalizzare i modelli e quindi avere delle stime di vulnerabilità e di rischio che sono affidabili quindi si tratta di un censimento che è stato fatto con questa scheda e che è pianificato applicare nel caso dei campi di recradi a breve partirà questa analisi di vulnerabilità che si svolgerà a Pozzuoli in alcune zone di Napoli in alcune zone di Bacoli e nel premesso che si utilizzino queste schede Cautis quindi verrà messa in moto una macchina con delle squadre che le Luz si forminerà però vedranno in campo questo poi sarà tutto un sistema governato dal Dipartimento di Protezione Civile e dai agenti locali ma noi come le Luz io sono coinvolto in questa attività daremo una mano e vi faccio vedere direttamente qualche immagine con Cautis cosa si fa? si fa un discorso a livello di comparti se è dato un comune il comune lo si suddivide in comparti che sono caratterizzati dall'avere diciamo edifici che hanno una storia tipologie costruttive tipologie dei materiali simili quindi si fa suddivide un ambito urbano dei comparti riconosciuti a favolino poi su questi comparti si fanno delle valutazioni generabilità chiaramente con pochi dati quindi è una prima valutazione che viene fatta a livello di comparti vedete qui faccio rapidamente richiamo alle sezioni di questa scheda quindi al di là dei dati identificativi si identificano le tipologie dei difficili come per esempio muratura cemento armato acciaio i dati dell'edificio significativi sono numeri piani epoca di costruzione ci sono poi c'è una sezione 3 che va a specificare il caso delle murature del cemento armato non ho ora il tempo di andare in dettaglio per chi non la conoscesse questa scheda pubblicata in molti lavori ma anche disponibile online e di fatto per esempio per il caso di Pozzuoli che noi avevamo già trattato in precedenza in questo progetto viene fuori un qualcosa di questo tipo quindi si suddivide un territorio urbano in comparti urbani vedo con questa parola si intende un diciamo un sottinsieme della città che ha delle caratteristiche di sviluppo anche urbano e a questi compatti noi siamo in grado di associare non so se riuscite a vedere i numeri ma in coloro li vedete per esempio laddove c'è viola significa che questi compatti hanno al loro interno tra i 500 e i 1100 edifici poi a questo compatto si si associa una certa distribuzione di classi di vulnerabilità quindi si va dal verde che sono le basse di vulnerabilità al rosso elevate vulnerabilità per farvi ambientare su Pozzoli la zona in alto a sinistra è una zona più moderna e quindi più verde quindi meno vulnerabilità perché sono edifici con tecniche e materiali più nuovi mentre la parte più in basso a destra è quella del centro urbano i famosi edifici storici laddove non ci sono gli incatenamenti quindi la vulnerabilità è conseguentemente più alto quindi si viene più rosso nei diagrammi una volta fatto questo poi lo faremo anche perché questo è previsto e un maestro d'approvato come metodologia si faranno poi dei sopralluoghi specifici utilizzando l'altra cartus che si chiama cartus edificio questa volta si passa dall'ambito del comparto all'esame invece all'interno di un comparto di alcuni edifici questo a Pozzoli verrà fatto su richieste dei cittadini dei condomini ci saranno le due squadre che si regheranno presso l'edificio e faranno un sopralluogo con sopralluogo diciamo fatto da 8 esperti che vanno a riempire queste caselle probabilmente tutto si farà con dei palmari quindi tutte le informazioni saranno immediatamente poi diagrammabili quindi analizzando i stati si raccolgono dei dati quindi si fa questo sentimento in funzione dell'edificio si fa in una certa maschera di questa scheda ovviamente non ho il tempo per entrare in dettaglio ma vi rendete conto che per conoscere la vulnerabilità bisogna capire per esempio se la muratura è regolare o regolare quali sono le caratteristiche della tessitura murale muraria come sono fatti gli orizzontamenti se ci sono delle volte se nel tempo sono stati fatti gli interventi di incatenamento cioè catene cordoli collegamenti dei solai alle murature si va a guardare la tipologia di struttura verticale per esempio nel caso del cemento armato si vede anche se i delai hanno o meno temporature se sono fatti con delai in un'unica direzione se ci sono set eccetera eccetera quindi ci sono dei fattori di vulnerabilità che caratterizzano questa scheda si guarda ovviamente anche si cerca di capire qual è la tipologia delle fondazioni e alla fine di questo percorso queste schede edificio consentono di validare in qualche modo quindi di scontrare quelle valutazioni di vulnerabilità medie che sono state fatte sul Gomparti quindi all'interno di un combattio mi sente professore mi perdoni riesce in quattro minuti ho finito è l'ultima slide grazie dicevo quindi si diciamo si fa un confronto per cui in sostanza queste analisi spedutive si consentono di avere un quadro generale della situazione chiaramente poi queste valutazioni spedutive vanno puntualmente puntualizzate specificate con le verifiche di sicurezza previste dalle norme che sono tutta altra cosa io ho finito in tempo con tre minuti grazie 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 molto grazie molto chiediamo chiediamo a Noemi se riesce ad attivare il collegamento col professor Di Ottallevi che penso ci sia già collegato e ci dovrebbe ci dovrebbe sentire riesci intanto Noemi sta dice professor Prota grazie ci perdoni se l'abbiamo fatta correre negli ultimi minuti però diciamo tutti questi materiali in un certo qual modo sono registrati per cui successivamente li potremo diciamo seguire un poco più lentamente e digerire grazie comunque Angelo avevi un saluto per il professore il professor Diotallevi Pierpaolo ci senti sì mi sentite ecco ti sentiamo non ti vediamo e io ho attivato ti salutiamo molto carlosamente dalla sala a te la parola bene grazie grazie ringrazio per avermi dato la possibilità di intervenire da remoto purtroppo io avrei preferito essere lì con voi ma non ci posso essere oggi la giornata è stata impernata sulla prevenzione sismica delle protrazioni e abbiamo visto tante tecniche di prevenzione di intervento sulle protrazioni al fine di prevenire quelli che possono essere possibili danni dovutessi come ogni disciplina anche la prevenzione ha i suoi principi i suoi metodi le sue azioni e i suoi obiettivi io mi fermo un momento sugli obiettivi gli obiettivi sono la prevenzione al fine di garantire la sicurezza quindi la prevenzione ha l'obiettivo di garantire la sicurezza e cosa significa sicurezza la sicurezza significa la prevenzione del danno il danno è inteso ovviamente in senso generale cioè ci sono danni alle persone danni alle cose danni danni all'economia e quindi sono elementi che occorre valutare facciamo questa posizione la sicurezza pensiamo che possa avere valori estremi che vada da 0 a 1 1 vuol dire sicurezza sicurezza vuol dire nessun danno 0 vuol dire danno certo in antisimetria con la parola sicurezza c'è la parola rischio per cui con una sicurezza pari a 1 il rischio vale 0 e con una sicurezza vale 0 il rischio vale 1 che cos'è il rischio il rischio è il danno atteso per una certa per una certa sappiamo che per quel che riguarda di caratteri sismico come già è stato accennato il rischio non è altro che il prodotto di tre fattori di rischio che sono la che sono la posizione la vulnerabilità e diciamo la sismicità del sito quindi sulla sismicità del sito questo ci affidiamo ai geofisici e ai geotecnici anche dopo aver collaborato con loro sulla esposizione anche questo possiamo fare relativamente poco chi può fare di più sono gli amministratori pubblici che possono ad esempio negare di poter rendere abitabili e costruibili o fruibili zone che possono essere particolarmente significative ai fini di una pericolosità segnale quindi noi come ingegneri interveniamo esenzialmente sulla vulnerabilità della costruzione sulla vulnerabilità dei fabbricati sappiamo che il rischio quindi che è prodotto da questi tre fattori il rischio può essere nuovo non può essere mai nulla esistono le tecniche per poter battere il rischio pensiamo questo se pensiamo a un evento come quello che nel 1980 è avvenuto in Basilicata e ne consideriamo la sua intensità sotto un parametro generico intensità manitudine e lo paragoniamo con eventi analoghi che sono ad esempio avvenuti in in zone altrettanto o perlomeno anche più sismiche un dottore italiano presente in Giappone riconosciamo che terremoto della Basilicata quel che riguarda il danno alle persone quindi le perdite di vita umana sono state 3.000 vittime in terremoti analoghi in Giappone abbiamo avuto delle perdite di 9 10 15 persone una decina cioè con una sproporzione enorme quale ragione che la vulnerabilità dei fabbricati era assolutamente diversa parità anche di densità di popolazione sul territorio e ovviamente sappiamo che in Giappone la densità di popolazione è assai maggiore della densità di popolazione di quelle che vogliono quindi questo cosa significa significa che la prevenzione è efficace ai fini della riduzione del dam e tecniche ingegneristiche per poterlo fare queste abbiamo visto che esistono e sono state ovviamente illustrate durante la tornata che cosa viene chiesto agli ingegneri agli ingegneri viene chiesto di quantificare la sicurezza e qui diventa un problema molto serio condivido pienamente quello che ha detto il senso Campanini dell'ingegner Borri cioè il fatto che l'ingegnere che deve fare questa valutazione ma sappiamo anche che questa valutazione non vuol dire sicurezza uno rischio zero che c'è comunque una valutazione che è senz'altro di tipo statistico di tipo collocazione quindi un ripensamento deve essere fatto anche su significato di sicurezza e anche sulla direi quasi divulgazione di significato di sicurezza che viene assegnato ad ogni fabbricato che si sentiva il mio fabbricato è stato secondo le norme quindi è sicuro perché non è esattamente così quindi bisogna cercare di interessare le cose in questo modo in maniera tale da divulgare il concetto della sicurezza altro aspetto che poi chiudo abbiamo visto che le tecniche ci sono ma per poter applicare queste tecniche occorrono delle risorse risorse che sono anche di tutto economico allora queste risorse che sono di tutto economico devono essere orientate e indirizzate verso quelle situazioni dove i rischi sono maggiori e non distribuiti a tappeto e a pioggia sotto il territorio nazionale chiudo qua e ringrazio ancora per avermi dato la possibilità di fare questa brevissima considerazione professore di otta levi si è rivelato al solito sempre molto efficace nella sua grande sinteticità grazie per paola anche per aver seguito un po' tutti quanti i lavori mi sono ben reso conto che hai avuto modo di interiorizzare tutti gli interventi anche della mattina per dare la massima efficacia nei tuoi dieci minuti grazie ancora e a presto grazie Paolo grazie tante grazie a voi un saluto a tutti due minuti e mezzo due minuti e mezzo il tema è delicato il tema è delicato perché è il tema delle aggregate edilizie nei centri storici quindi io farò soltanto un paio di flash per introdurre delle problematiche la prima si inquadra un po' nel discorso del professor prota come si fa ad eseguire un'analisi di vulnerabilità a larga scala per edificio in aggregato la seconda invece come eseguire analisi numeriche su unità strutturali aggregati alla prima domanda abbiamo dato risposta attraverso delle schede di rilievo si inquadra un po' in quel discorso della linea cartis che ha già fatto del professor prota noi semplicemente abbiamo aggiunto le classiche schede di vulnerabilità GNDT o Benedetti e Petrini dei parametri che tengono conto dell'interazione di aggregato abbiamo tirato fuori un indice sintetico faccio vedere soltanto dei flash abbiamo calibrato numericamente abbiamo visto che rispetto ad analisi numeriche avevamo una buona corrispondenza abbiamo applicato a dei centri storici qua si è ampio delle camere dove abbiamo confrontato danni previsionali sono questa linea tratteggiata che vediamo in figura con quelli effettivamente riscontrati sul posto abbiamo trovato le valutazioni a vantaggio di sicurezza quindi possiamo dire un metodo che funziona abbiamo applicato anche in altri contesti ma non il tempo per parlare la seconda domanda invece è un po' più dettagliata un po' diciamo su cui dobbiamo spendere un po' più di attenzione come modellare un'unità strutturale abbiamo diversi metodi in ambito scientifico possiamo fare delle cose di questo tipo analisi raffinate ABACUS in questo caso quindi modello a trazione a compressione della muratura analisi dinamiche non lineari valutiamo il comportamento globale nel piano fuori dal piano possiamo valutare l'energia dissipata con riferimento a terremoti con differente PGA valutare il comportamento locale qual è l'interessore drift di ogni parete che compone questo aggregato confrontarlo con i limiti normativi per capire quali meccanismi di primo modo si attivano e quali no pure andare a sviluppare qualcosa un po' un pochino più semplificata questo è un aggregato in zona caserta sono tre unità strutturali uguali l'abbiamo modellato con un software un po' più commerciale che è il SAP 2000 abbiamo modellato anche con delle bielle comportamento del solaio che è un solaio deformabile in origine del proprio piano sono tre unità uguali di cui una intermedia e due di testata abbiamo modellato prima singolarmente poi abbiamo estrapolato la risposta di ogni unità strutturale dall'intero aggregato abbiamo fatto delle valutazioni nella direzione X longitudinale Y trasversale cosa notiamo in direzione X ci sono le tre curve confrontate che sono unità singola di testata intermedia la differenza di comportamento è lieve in direzione Y o no qua gioca l'aspetto aggregato come l'abbiamo modellato in maniera semplice abbiamo inserito delle volle con comportamento non lineare comportamento l'abbiamo calibrato in funzione dell'analisi su tutto l'aggregato abbiamo tirato fuori delle relazioni semplice per stimare il taglio la rigidezza attraverso dei parametri geometrici dell'aggregato come la lunghezza longitudinale quella trasversale qui la stessa in questo piano e due parametri altri metri e abbiamo calibrato in funzione degli analisi alla fine proviamo un buon riscontro vedete tra le analisi in linea tratteggiata ottenute dall'aggregato quelle con modello semplicità in linea continua poi ci siamo divertiti ancora abbiamo fatto anche un aggregato ad L dove c'è l'unità d'angolo in effetti a causa dell'irregolarità comportamento d'aggregato e in entrambe le direzioni che si è visto abbiamo seguito la vostra calibrazione e anche qua ci troviamo bene con i risultati diciamo dissunti dall'interro aggregato questi sono soltanto degli spunti quindi poi andremo avanti nelle prossime puntate vi ringrazio con l'attenzione ora tocca al nostro angelo mi mettete il due minuti eh abbiamo sentito tante cose interessantissime e voglio chiudere con una sola slide ecco ecco la viene da pensare dopo aver sentito anche il professor Formigano sugli aggregati no? allora Bologna è la città dei portici e su questo siamo tutti d'accordo che cos'è la città sui portici? è un aggregato sicuramente e questo aggregato è fatto da una sequenza di edifici che hanno gli impalcati a livello diverso cioè vedete questi edifici ce ne sono tanti adesso ho preso una sola fotografia sapete benissimo che gli impalcati sono a diversa altezza perché i piani sono spesso diversi tra gli edifici affiancati quindi pensate sismicamente a questo fatto che oscillando nella vibrazione avete un solaio che comunque pigia diciamo alla Toscana pigia sul muro verticale dell'edificio affianco poi sulla questione dei portici i portici si alternano tra volte e solai i pilastri spesso sono doppi io ho visto in giro accuratamente tantissimi casi per la verità non ci sono lesioni marcate fra un pilastro e l'altro però strutturalmente sono due pilastri affiancati con soffitti di tipo diverso comunque è un aggregato molto interessante da studiare l'altro aggregato di cui ho parlato stamattina direi come vulnerabilità San Petronio mi preoccupa è qui poi dopo senza parlarne finisco così ringraziando tutti i relatori ringraziando voi che ci avete ascoltato io penso che si siano detti tante cose interessanti forse molto rapidamente ma era un po' nell'idea dell'organizzazione del seminario fatta così come comunicazione certo si possono approfondire questi discorsi ognuno dopo ogni relazione a me era venuta la voglia di fare delle domande di poter discutere però diciamo l'organizzazione è stata fatta così prendiamola come è venuta e grazie di essere stati qui grazie al professor di tornare grazie